Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Waterloo, in studio Sergio Balzenio. Il 18 giugno 1815, Battaglia di Waterloo, sono passati 200 anni e ancora se ne parla. Ancora si scrivono libri sulla Battaglia di Waterloo, per il centenario se ne sono scritti parecchi. Eppure, in teoria, non dovrebbe essere una questione, un problema. Che cosa è successo in quella giornata e nelle giornate immediatamente precedenti più o meno si sa. Però i libri che sono stati scritti proprio dai protagonisti di quelle giornate, dai protagonisti della battaglia, danno interpretazioni completamente diverse di quello che è successo. Perché ci sono i francesi che raccontano di una incredibile sfortuna. Ci sono gli inglesi che raccontano della loro grande vittoria, della tenuta spettacolare dell'esercito di Wellington di fronte all'armata francese che, almeno all'inizio della battaglia, era molto superiore. E ci sono i prussiani e poi i tedeschi che raccontano, cioè von Clausewitz, il grande teorico della guerra tedesca, per esempio, che racconta di tutta la campagna e descrive una campagna sostanzialmente emita dai prussiani, nella quale la determinazione dei prussiani nel continuare la guerra, anche dopo essere stati sconfitti, nel non ritirarsi, ma nel mantenere il collegamento con gli inglesi di Wellington, è decisiva per la vittoria degli alleati. Ora, quale sia la versione giusta, probabilmente non si sa e non si saprà mai. Forse sono giuste tutte e tre. Però è della storia il raccontare di nuovo. Per la verità è anche del mito il raccontare di nuovo. Perché se i fatti non si raccontano, non si ridigeriscono, tendono a scomparire. Se ne allontana la memoria che si disperde, tende a cancellarsi. Per cui bisogna raccontare di nuovo e quando ci si accinge a raccontare di nuovo ci si domanda anche perché e come. Perché il modo di raccontare senz'altro è cambiato, ma anche l'intento del raccontare è cambiato molto. Dopo che Von Ranke ha inventato la storia come la conosciamo noi, con la pretesa di raccontare le cose come i fatti, come veramente sono accaduti, c'è stata una grande riflessione perché questi fatti sono sfuggenti. Si riesce a sapere qualche cosa forse di prossimo alla verità, ma sono tutti frammenti minutissimi che poi vanno ricomposti e certo non sono le tessere del puzzle, sono più le tessere di un mosaico che sono tutte azzurre o tutte d'oro o tutte nere e giusto nel modo nel quale si rimettono insieme si ottiene un disegno oppure un disegno completamente diverso. Una delle questioni che si sono poste così fra gli storici, perché poi bisogna anche semplificare un po' le cose per capirsi, per sapere di cosa si sta parlando, per fare delle sintesi, una di queste questioni è stata la contrapposizione fra il perché e il come. In questo senso c'è chi ha sostenuto che la storia non solo deve riscoprire i fatti, individuare una realtà fattuale, ma deve anche cogliere il perché degli accadimenti, cioè ricostruire le motivazioni e l'incrocio delle motivazioni, delle spinte, le cause e le concause che portano a un esito. Poi anche lì noi parliamo di storia che in teoria è un continuum ininterrotto, però quando raccontiamo qualche cosa tendiamo a partire da un inizio a una fine, immaginare che si sia svolta una vicenda e in questa vicenda tendiamo a cogliere i perché, vogliamo sapere perché è successo questo, perché è successo quello. Di contro altri storici successivi, quindi più legati alla storiografia moderna, ci dicono che al più si può raccontare il come, in che modo delle cose sono accadute, cercando di mantenere dei collegamenti causali fra l'una e l'altra, ma sempre con questo sfuggire dei perché, poi i perché spesso sono anche legati alla personalità dei protagonisti, alle loro scelte, sono delle cose che scompaiono. Anche se i protagonisti sono sopravvissuti agli eventi, sono rimasti in vita a lungo, li hanno raccontati, li hanno raccontati o a caldo o a freddo, prima o dopo, lo stesso li hanno raccontati a modo loro e hanno anche ricostruito le ragioni delle proprie scelte in maniera particolare. Poi sappiamo quanto la memoria sia un'attività creativa, per cui quando anche non l'abbiano fatto proprio in cattiva fede, per dare un'immagine di sé ai posteri il migliore possibile, lo stesso la realtà di quel momento, ma forse non le hanno nemmeno colta, perché non potevano stare lì a pensare perché facevano una cosa anziché un'altra, magari nella fuga di alcune azioni. Allora c'è questo come, c'è questo perché, due aspetti che però non si possono eludere. E io penso che ormai siamo arrivati a un come un po' più sofisticato, soprattutto su eventi così scavati, così approfonditi, così conosciuti, come la battaglia di Waterloo, della quale adesso ci occuperemo. E il come si trasferisce da un come sono andate le cose, che forse è già una pretesa eccessiva, a come possiamo noi oggi raccontarle. E ancora di più a come possiamo noi oggi raccontarcele l'un l'altro, noi che siamo persone dell'inizio del secondo millennio, che una serie di aspetti della vita di persone che sono vissute due secoli or sono, quindi otto, nove generazioni prima di noi che ci sono lontane e che vivevano in un contesto tecnologico, culturale completamente diverso, ci sfuggono questi aspetti. Però in compenso abbiamo acquisito delle conoscenze che loro non avevano, delle conoscenze che noi possiamo utilizzare per raccontare che cosa è successo. Ora, nella storia di Napoleone, in questo passaggio, in questi cento giorni, poi in realtà sono qualcosina di più, sono più o meno quattro mesi, in queste giornate che vanno dalla sua fuga dall'Elba alla sconfitta di Waterloo e poi alla sua partenza definitiva per Sant'Elena, ci sono delle questioni che continuano a essere aperte, sulle quali si continuano ad avanzare le interpretazioni diverse e anche contrastanti. I due problemi poi che continuano a porsi sono, uno, perché Napoleone scappa dall'isola d'Elba? Non stava abbastanza bene? Sperava veramente di ritornare a essere il dominatore dell'Europa? E dall'altra parte, perché Napoleone perde a Waterloo? Quando non aveva di fatto mai perso nessuna battaglia, a Waterloo aveva, almeno all'inizio, un consistente vantaggio. Tutti riconoscono che il piano della cosiddetta campagna del Belgio, di quei quattro giorni nei quali Napoleone comanda il suo esercito, il 15, il 16, il 17 e il 18 di giugno del 1815, il piano di battaglia viene giudicato da tutti i tecnici uno splendido piano di battaglia e quasi riesce, o almeno sembra quasi riuscire. Quindi ci sono queste due domande, addirittura Raimondo Luraghi, che è stato uno dei grandi storici della guerra italiana, lui era uno specialista della storia della guerra civile americana, però ha una grandissima competenza militare, e lui arriva a parlare del mistero di Waterloo, dicendo ma come è stato possibile? A fronte di un generale come Wellington, che senz'altro è un tattico notevole, ma non è uno stratega eccezionale, a fronte di un altro generale come Blucher, che era un anziano generale legato a esperienze antiche, disponendo di un ottimo esercito, cosa che non è vera né per Wellington né per Blucher, come mai perde? E allora io propongo un come, che è uno dei come possibili, che però lega secondo me queste due domande, e fornisce anche una risposta, una soluzione. Perché Napoleone abbandona l'isola d'Elba? Perché non gli piace come è finita la sua epopea? Non si accontenta di quel finale. Napoleone è un uomo eccezionale, che accumula esperienze, ma anche desideri, ambizioni, un'ambizione sfrenata, che lui ha coltivato fin da quando era bambino, bambino praticamente, perché lui entra al collegio militare, che è un bambino, ha sei, sette anni, e passa tutta la vita sotto le armi, e con la sua straordinaria intelligenza, con la sua straordinaria capacità anche di assorbire le cose che gli stanno attorno, fin da ragazzo, cioè tu dico tutti sognano, tutti i bambini e poi i ragazzi fanno dei sogni, chi sogna di fare il pompiere, queste cose qui, lui stava già leggendo la vita di Alessandro, la vita di Cesare, lui sognava di entrare nel novero dei grandi conquistatori, di questi pochi, grandissimi eroi della guerra, che sono a cavallo quasi fra la storia e il mito, Cesare e ancora gli zar, si chiamavano zar perché viene da Cesare, czar, tant'è alcuni scrivono anche con la c davanti, perché si capisca di più, e quindi c'è questo fatto dell'incompiutezza di un'avventura, di una vita, di un'impresa, Napoleone non è una persona dai grandi affetti, sostanzialmente si può dire che Napoleone sia buono, nel senso preferisce fare un favore che un dispetto, gli piace premiare gli amici e quasi mai ha un'aggressività particolare nei confronti di quelli dei suoi avversari, però pure con questa sua superficiale bonarietà, diciamo, non è un uomo dei grandi affetti, ha questi poderosi legami familiari che caratterizzano poi anche l'esperienza, noi usiamo a dire l'esperienza dei corsi, ma non è l'esperienza dei corsi, è l'esperienza delle famiglie del Settecento che sono molto più coese, molto più compatte di quanto non siano adesso. E quindi Napoleone non ha dei legami affettivi particolari, non ha un suo mondo nel quale rinchiudersi. E poi lui lo ha quasi detto, l'ha detto nel cortile del cavallo bianco, quando saluta la vecchia guardia dopo la prima abdicazione nell'aprile del XIV, dopo che gli alleati sono entrati a Parigi e allora praticamente l'esercito francese entra in crisi, poi è già stato battuto, è troppo piccolo per combattere contro un milione di soldati, quanti ne stanno schierando gli alleati. E allora Napoleone abdica, è costretto ad abdicare e saluta il primo reggimento della vecchia guardia, i suoi grognari, che sono dei soldati di livello elevatissimo, sceltissimi, e che poi l'hanno accompagnato in tutte le sue guerre. Quindi c'è una comunanza praticamente di quasi 15 anni, la vecchia guardia nasce come guardia consolare, ma alcuni veterani erano con lui anche in Italia. Li saluta, è una scena commovente, abbraccia la bandiera, la bacia, piange, piangono più i soldati di lui per la verità, comunque piangono questi omaccioni largamente quarantenni con i baffi, i mustacchi, gli orecchini d'oro, cioè a cavallo fra il soldato e il pirata, l'avventuriero, e lui fa un discorso nel quale dice vado a scrivere la nostra storia. Adesso basta imprese, basta guerra, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, ma io mi ritirerò a scrivere la storia della nostra avventura perché è stata così bella, così grande, così importante che deve rimanerne una traccia e una traccia che Napoleone è anche un megaloma, meglio di me, chi la può scrivere? Questo dice Napoleone prima di partire e probabilmente a questo pensa, secondo alcuni addirittura all'isola d'Elba lui ha cominciato a scrivere, rispettando la promessa che aveva fatto ai suoi grognar, ai suoi brontoloni come li chiamano. Però siccome Napoleone è anche un grande anticipatore della comunicazione, di questa realtà che poi è sempre esistita, cioè la capacità di comunicare, la pompa delle corti, la propaganda che per esempio è già una cosa decisiva nella guerra dei trent'anni, nel confronto fra cattolici e protestanti. Però Napoleone è uno che sviluppa tantissimo quest'idea della propaganda, dell'immagine. Se pensiamo anche solo a come va in giro vestito Napoleone, è una cosa raffinatissima dal punto di vista della tecnica della comunicazione. In un mondo nel quale i potenti vanno in giro carichi d'oro e di pennacchi, lui va in giro con un cappottino grigio e un cappello dove non c'è nulla. Tutti portano il cappello con la punta in avanti e lui porta la vecchia lucerna per traverso perché la sua deve essere una figura riconoscibilissima. Lui trasforma la propria immagine praticamente in un'icona. Lui quindi è un genio anche della comunicazione, probabilmente è un genio in tantissimi campi. Adesso si sarebbe dedicato a tutt'altro che alla guerra. Nessuno la penso l'avrebbe mandato poi in un collegio militare da bambino. Però lui ha queste capacità che gli sono proprie praticamente innate e quando si pone di fronte al racconto dell'avventura questa avventura grandiosa per cui un ragazzetto nato in Corsica è finito in Francia quasi per errore diventa il padrone dell'Europa almeno per alcuni anni e poi che vince delle battaglie strepitose che costringe dei re ad abdicare che impone la sua pace all'imperatore anzi pone termine al sacro romano impero quando costringe Francesco II imperatore di Germania a diventare Francesco I imperatore d'Austria e basta per cui fa delle cose abbastanza incredibili e poi questa storia però manca di una fine e Napoleone nel porsi davanti a se stesso poi alla sua vita si domanda se è possibile che la sua avventura si chiuda come la storia di un piccolo possidente terriero medio possidente terriero prigioniero su un'isoletta del Mediterraneo circondato dai suoi familiari in più non gli pagano i soldi che gli hanno promesso che gli sono stati promessi dallo zaro Alessandro il quale le ha promessi facilmente perché le ha promessi sulla cassa della Francia e non sulla sua comunque i soldi magari li avrebbe trovati Napoleone fra l'altro sua madre donna Letizia che era notoriamente avara aveva messo da parte una fortuna per quando i tempi non fossero più stati buoni insomma evano gioielli evano proprietà e in buona parte sono una famiglia ricca che continua a vivere riccamente nell'ambiente europeo per decenni quindi non è questo il suo problema però il suo problema è che non può scomparire non può non può non vuole c'è anche un piccolo episodio di natura sentimentale Napoleone all'inizio pensava di essere raggiunto dalla moglie Maria Luisa e dal figlio Alessandro il piccolo Napoleone e invece gli austriaci si guardano bene dal fargli arrivare moglie e figlio però all'elba arriva un'altra donna un altro figlio perché arriva Maria Valesca con il figlio che ha avuto da Napoleone Napoleone è sicuro che sia figlio suo tant'è è proprio la maternità di Maria Valesca che lo spinge verso il divorzio da Giuseppina e poi cercare una principessa di sangue nel tentativo di fare nascere una dinastia che fosse la sua dinastia comunque Maria Valesca va lì e lì sarebbe semplice per Napoleone c'è lì una donna che anche se poi magari è passata la fuga del primo incontro comunque sono stati insieme per anni sicuramente si vogliono bene c'ha suo figlio l'altro suo figlio a questo punto non sarebbe difficile immaginare una tranquilla vita da agiato borghese o da così da questa nobiltà terriera ma lui non la vuole non la vuole e quindi quando Maria Valesca arriva lì la rimanda via anzi si ferma mi pare due giorni e la notte che c'è in mezzo se ne va anche c'è un po' di mare mosso perché lui non vuole assolutamente che quella sia la fine della sua vita e quindi a lui manca un pezzo e il pezzo che gli manca deve essere un pezzo grandioso deve essere un pezzo che stupisca il mondo e che sia pieno di interrogativi una cosa proprio uguale alla battaglia di Waterloo quindi Napoleone si può dire che lascia l'isola d'Elba alla ricerca di qualche cosa che deve avvenire come la battaglia di Waterloo le possibilità che ha Napoleone di ridiventare davvero l'imperatore dei francesi quando va via dall'isola d'Elba sono pochissime praticamente inesistenti il congresso di Vienna è ancora aperto ma più o meno si sta concludendo ci sono stati gravissimi attriti fra le potenze fra i vincitori però certo non sufficienti da ricomporre da scomporre la grande alleanza che si era organizzata contro di lui per cui Napoleone può immaginare di fare queste due grandi cose che riesce a fare tornato dall'isola d'Elba quello che poi è stato chiamato il volo dell'Aquila ovvero il suo rientro a Parigi che non mi ricordo chi ha scritto un uomo che ha conquistato la Francia mostrando il proprio cappello perché praticamente la Francia gli spalanca le braccia e costringe il re a una fuga abbastanza insomma la figura del re non emerge molto bene dal confronto con Napoleone quando Napoleone sta rientrando Luigi XVIII praticamente scappa da Parigi di notte senza fare nessuna di quelle cose che alcuni consiglieri gli avevano così fatto balenare tentare di difendere Parigi mettersi alla testa delle scarsissime forze realiste che ancora c'erano però in realtà non era possibile fare assolutamente nulla per cui di notte questo re molto grasso molto appesantito nel fisico perché per poter camminare i paggi lo sorreggevano accompagnano la notte lo caricano in questa carrozza che poi parte e parte sostanzialmente per tornare di nuovo in mezzo a quelli che per vent'anni sono stati i nemici della Francia che l'avevano rimesso sul trono e infatti un'altra volta lo rimetteranno sul trono per cui c'è questo grande per questi venti giorni venti giorni del ritorno del volo dell'Aquila da quando Napoleone sbarca a Cap d'Antib fino a quando arriva a Parigi e forse sono anche fra i giorni più belli della sua vita perché deve essere una soddisfazione veramente immensa vedersi riconosciuto così tanto come l'imperatore da parte dei francesi ai quali ne ha fatte comunque di colte di crude perché il prezzo delle guerre napoleoniche pagato dalla Francia in termini di morti è una cosa veramente spaventosa poi si fanno i calcoli però siamo sempre a calcoli che parla di centinaia di migliaia di persone senza contare quelli che tornavano sciancati feriti quindi è uno proprio nonostante questo Napoleone sceglie anche la strada giusta per passare nei posti di quelli che gli sono più vicini più prossimi però nonostante questo è sicuramente una soddisfazione grandiosa dopodiché dopo i giorni del governo non sono delle grandi giornate per Napoleone perché la Francia è la stessa Francia che l'hanno prima ha perso la guerra è una Francia provata fiaccata certo è una grande potenza è un grande paese è ancora uno dei posti più ricchi del mondo ma il desiderio di pace è diffusissimo e invece Napoleone tutto quello che può portare nel migliore dei casi è una nuova guerra vittoriosa che non è quello che i francesi desiderano in più sono successe delle cose nel tempo per cui quelli che erano i monapartisti i più fedeli collaboratori di Napoleone quasi tutti sono diventati collaboratori più o meno fedeli del re sono tornati in Francia gli emigrati che erano al seguito del re non sono tantissimi però sono un numero consistente e soprattutto ricostruiscono la corte e rioccupano una serie di posizioni dentro lo Stato e sono posizioni importanti Napoleone avrebbe bisogno di un tempo enorme per riorganizzare la Francia in più un altro in più che però è un in più molto importante il sistema instaurato da Napoleone come imperatore era un sistema di rapina lui e il suo esercito vivevano per buona parte a spese dei paesi occupati dei paesi vinti e adesso ricostruire un esercito di quelle proporzioni e farlo mantenere dai francesi può rivelarsi un'impresa veramente complicata lo raggiungono i suoi fratelli questa è una soddisfazione notevole addirittura Luciano torna per collaborare con lui però Tailleran lavora a Vienna contro di lui il congresso si sta per chiudere comunque prima ancora di chiudersi appena giunge la notizia e la fuga di Napoleone gli alleati rifanno un patto nel quale indicano che forze intendono schierare contro Napoleone e cominciano ad attivare la stessa gigantesca macchina bellica che lo ha sconfitto nel 13 e nel 14 per cui non c'è un orizzonte per una vittoria c'è Fouché che è pure ministro ministro di polizia di Napoleone anche dopo il suo ritorno durante i 100 giorni che gioca un po' su due tavoli e dice Napoleone adesso vincerà una battaglia ne vincerà due poi verrà sconfitto e finirà quindi Napoleone che appunto come dicevamo all'inizio è un genio più che una persona intelligente un genio sa di non avere prospettive e quindi diventa credibile che lui più o meno consapevolmente stia cercando il coup de teatro stia cercando una grandiosa uscita di scena che costituisca un altro dei pilastri del suo mito della sua figura di grande condottiero di quello che lui vuole diventare di fronte ai posti lui vuole che si dica Alessandro Cesare Napoleone vuole entrare in questo panteon dei grandi della guerra dei grandi conquistatori di quegli uomini che hanno fatto imprese eccezionali e e sono considerati come l'esempio del grande vincitore l'esempio del grande conquistatore Napoleone lascia l'isola d'Elba il 26 febbraio verso le 5 in realtà non c'è un'ora tanto precisa per la partenza perché lui dà l'ordine di partire però non c'è vento e all'epoca si va a vento si va a vela e restano quasi fermi allora ci sono i suoi collaboratori che dicono ma forse bisogna rimandare non c'è vento ma Napoleone dice no non è che queste cose si provano queste cose si fanno anche perché lui ha paura si venga a sapere e questa cosa del controllo di Napoleone all'isola d'Elba è una cosa molto complicata anche lì si sono fatte moltissime ipotesi anche perché quando si parla di spie di sistemi di controllo poi le spie per loro natura non amano farsi molta pubblicità e quindi si sa che erano informate le corti era informato Taheran erano informati molti avevano spie informatori l'isola d'Elba era un groviglio di agenti segreti si potrebbe dire però erano agenti segreti che trasportavano le notizie come si potevano trasportare all'epoca per cui le notizie andavano portate a mano Napoleone nei giorni precedenti alla partenza ordina di non far uscire nessuno neanche per andare a pesca e con questo riesce a creare quella cortina di segretezza di cui aveva bisogno addirittura c'è chi sostiene che gli inglesi fossero abbastanza d'accordo nel farlo partire gli inglesi non erano stati felici della soluzione dell'isola d'Elba che sostanzialmente era stata contrattata dallo zar di Russia Alessandro che era l'unico sovrano dei vincitori presente a Parigi quando Napoleone abdica nell'aprile del 14 e secondo alcuni gli permettono di allontanarsi dall'Elba immaginando che questo sia il modo migliore per farlo cadere in mano ai francesi realisti o a qualcun altro comunque di poter sostenere che i patti non sono stati rispettati e che quindi Napoleone può essere portato per esempio a Sant'Elena come andrà a finire dopo i 100 giorni comunque Napoleone invece riesce a imbarcarsi regolarmente la traversata è abbastanza buona dura poco perché già il primo marzo tre giorni dopo sono in vista delle coste della Francia dico sono in vista perché Napoleone è a bordo dell'Inconstan il suo brigantino l'unica nave più o meno brigantino una nave piccola della sua flotta ma ci sono anche dei barconi che accompagnano l'Inconstan con sopra questi soldati perché quando Napoleone ha accettato di andare all'Elba ha abdicato nei patti è compreso il fatto che lui può portare con sé un corpo di mille soldati per la protezione della sua persona questi mille soldati con l'aggiunta di qualche elbano e di alcuni polacchi ma in realtà erano un po' più di mille sono il suo corpo di spedizione per invadere la Francia nella notte fra il primo e il due lo sbarco si completa e addirittura Napoleone si mette in cammino subito alla luce della luna partono lasciano la spiaggia e cominciano a incamminarsi verso Parigi e qui c'è questa cosa che noi riusciamo a capire con difficoltà perché noi viviamo nell'epoca dei telefonini dei cellulari tutti sono in grado di fare una ripresa quando vedono qualche cosa le informazioni viaggiano praticamente come si dice adesso in tempo reale non c'è bisogno di tempo per dire una cosa si può dire qualsiasi cosa a qualsiasi persona a qualsiasi velocità e a qualsiasi distanza però qui siamo nel 15 nel 1815 una notizia per arrivare dalla costa mediterranea della Francia a Parigi impiegava dei giorni perché poteva andare alla velocità con la quale andava chi la portava questa notizia le notizie venivano portate dalle persone esisteva fatto proprio da Napoleone un sistema di trasmissione dei messaggi sistema una telegrafia ottica che però era ancora legata al modello del potere per cui per utilizzare questo sofisticato sistema che praticamente funzionava come con le bandierine dalle navi una sorta di morse non ancora completamente strutturato e per attivare questo sistema bisognava che scattasse tutto un meccanismo di autorizzazione cioè la telegrafia ottica era un sistema del governo per le comunicazioni importanti e quindi bisognava che la notizia che si voleva trasmettere in questo caso lo sbarco di Napoleone arrivasse a Massenà che stava a Marsiglia e da lì se Massenà riteneva che fosse una notizia abbastanza importante Massenà era responsabile della regione militare meridionale della Francia la spediva a Parigi insomma tutto questo per dire che Napoleone sbarca e passano i giorni prima che lo sappiano a Parigi e nel frattempo Napoleone ha cominciato a addentrarsi nella Francia meridionale la strada per Parigi non è quella che fa Napoleone perché se Napoleone andasse verso Parigi risalendo lungo il fiume lungo la Loira incontrerebbe delle regioni che sono le famose regioni monarchiche della Francia non come la Vandè ma quasi lui le ha attraversate venendo da nord a sud quando è andato all'isola d'Elpa e gli tiravano i sassi alla carrozza una volta è costretto a mettersi la divisa del generale austriaco che lo accompagnava per non farsi riconoscere e quindi invece di puntare prima verso ovest e poi verso nord va direttamente verso nord alla volta di Grenoble che invece è una regione molto più bonapartista questo suo cammino è costellato da aneddoti episodi e cose più o meno inventate c'è un racconto uno dei primi di questi piccoli episodi il primo è proprio sulla spiaggia perché mentre lui è lì sulla spiaggia che stanno scaricando le navi e i barconi passa il principe di Monaco e c'è uno scambio forse prendono un caffè insieme qualcosa del genere c'è uno scambio di battute e Napoleone chiede al principe di Monaco dove è che state andando dice sto andando a casa e Napoleone avrebbe risposto anch'io sto andando a casa perché questo gusto dell'aneddoto è veramente un gusto sfrenato rispetto alla narrazione napoleonica però l'episodio di Lafret è un episodio invece vero nel senso è stato poi caricato di una serie di valenze anche simboliche poi queste cose vengono tutte arricchite però Lafret è un paesino però una località neanche un paesino sulla strada per arrivare a Grenoble dalla costa e il 7 marzo sono in cammino questi soldati francesi di Napoleone però ormai la notizia si è un po' sparsa e quindi sono stati mandati dei reparti monarchici a fermarli che hanno anche i cannoni sono abbastanza superiori come forze Napoleone ha fatto abbandonare i due o tre cannoni che avevano con sé per andare più veloce perché lui sa che deve correre che non ha bisogno di sparare qui alla Fre si trova di fronte schierati i soldati del re e Napoleone non cammina davanti cammina dietro davanti c'è una sorta di avanguardia che fra l'altro è comandata da Cambron che poi durante la battaglia diventerà anche famoso per un altro di questi episodi che sconfinano nell'aneddoto e si fermano perché trovano davanti questo sbarramento dell'esercito del re e si fronteggiano questi due schieramenti non sono molto numerosi però si tratta sempre di Napoleone era con sé più di mille uomini quegli altri erano di più e Napoleone però facendo tutti di fermarsi di abbassare le armi e avanza da solo la scena è stata rifatta anche nel film Waterloo quello di Bondarciu e avanza da solo e si presenta praticamente ai soldati dicendo mi riconoscete lui è vestito come abbiamo detto come va sempre vestito lui col suo spolverino grigio e col suo cappello a Lucerne dice mi riconoscete sono il vostro imperatore se mi volete sparare sono qua e se mi volete sparare sono qua si mettono tutti a gridare viva l'imperatore ed è finita il primo tentativo di fermare Napoleone lungo la strada per Parigi tentativi di fermare Napoleone ce ne sono più d'uno e alcuni sono addirittura fatti da figure di prestigio del regime napoleonico che poi sono passati al re c'è per esempio la difesa di Lione che è fatta dal maresciallo Macdonald e il maresciallo Macdonald che è uno dei marescialli di Napoleone dei marescialli dell'impero che ha a sua disposizione truppe notevoli e che può anche contare sulla presenza del fratello del re che è andato a Lione per fermare Napoleone e quindi prima di mentre si organizza questa resistenza organizzano anche una parata per tirare su il morale dei soldati e questa parata si dimostra un insuccesso spaventoso perché il fratello del re che lo chiamo il conte d'Artois fra i suoi titoli questo era quello che utilizzava più spesso il conte d'Artois cerca di infiammare i soldati per la loro lealtà infiammare sostenere la loro lealtà al re ma i soldati si rifiutano e quando poi arriva davvero Napoleone il conte d'Artois è già andato via Macdonald va sulle barricate che sono state preparate per fermare i soldati di Napoleone dove ci sono già gli abitanti di Lione stanno smontando le barricate e lui dice ai soldati fermateli e i soldati dicono maresciallo venga con noi arriva l'imperatore arriva l'imperatore e anche Lione viene presa senza colpo ferire da Lione Napoleone comincia a emettere decreti leggi spiegare tutte queste cose perché lui vuole dimostrare di essere il potere legittimo da Lione poi la strada prosegue e c'è un altro forte contingente di soldati che è stato incaricato di fermarlo alla testa di questo contingente c'è niente meno che il maresciallo Ne che è una delle grandi figure dell'epopea napoleonica il quale è andato dal re prima di partire per affrontare Napoleone dicendogli che riporterà l'usurpatore in una gabbia di ferro cioè pare che Luigi XVIII che probabilmente è la persona più intelligente del giro dei monarchici non è affatto uno sciocco abbia commentato non chiedo tanto però Ne assume il comando di queste truppe da Besançon e parte per andare incontro ai soldati di Napoleone però si accorge presto che è impossibile perché i soldati non sono disponibili a combattere contro l'imperatore e per cui con un voltafaccia spettacolare che resterà famoso e che costerà la testa a Ne che verrà fucilato dopo la battaglia di Laterloo con questo voltafaccia spettacolare convoca i soldati e legge un proclama nel quale dice che il re è caduto e che è tornato Napoleone non è chiarissimo come vadano le cose perché si mescolano i racconti ma sembra che i soldati avessero già in tasca la coccarda tricolore per cui si levano dal cappello la coccarda bianca del re con i colori del re la buttano via si mettono la coccarda dell'imperatore e vanno tutti a riunirsi con l'esercito di Napoleone il quale dopo che il re è fuggito appunto a nottempo in maniera insomma come poteva fare perché non è che avesse grandi scelte Luigi XVIII certo non era salito al trono per un'autorevolezza o delle capacità proprie era stato l'intreccio delle situazioni e anche molto probabilmente il desiderio degli alleati di mettere sul trono di Francia una figura abbastanza debole poi qui si dovrebbe parlare magari del congresso di Vienna ma l'idea che domina il congresso di Vienna è che la Francia sia una grande potenza militare pericolosa per il resto dell'Europa quest'idea della pericolosità della Francia è un'idea che praticamente fa rinascere il Belgio che stimola la creazione di stati intermedi fa immaginare una situazione che in realtà non è più quella di prima della rivoluzione perché la Francia ha esaurito la propria stagione di pretesa egemonica mentre invece stanno nascendo altre potenze segnatamente quella prussiana anche se avrà bisogno ancora di periodo abbastanza lungo per affermarsi compiutamente però l'idea di ricreare un equilibrio anche abbassando la forza proprio la capacità politica dei vertici di Parigi fa parte del disegno soprattutto degli inglesi rispetto alla creazione di un equilibrio europeo e quindi Luigi XVIII non è che possa fare grandi cose personalmente dopo che ha dovuto verificare che l'intero apparato dello Stato francese che è ancora un apparato per molti aspetti militare per cui la parte civile magari sarebbe più disponibile a sostenere il re però è l'apparato militare che passa completamente dalla parte di Napoleone e sostanzialmente i militari hanno il potere in Francia e quindi hanno anche il potere di far arrivare Napoleone a Parigi Napoleone arriva a Parigi la sera del 20 marzo arriva alle Tuilerie e tutta la giornata del 20 marzo il re è scappato la notte precedente tutta la giornata del 20 marzo è trascorsa con il rientro di tutto il personale di servizio del palazzo napoleonico era stato mandato via e anche delle figure di corte per cui arrivano le dame le mogli dei marescialli tutte queste persone che avevano formato la corte di Napoleone si ritrovano alle Tuilerie e passano la giornata a rimettere a posto per cui rispostano tutte le cose come gli piacevano a Napoleone tirano giù tutte le tende gli arazzi con i gigli fra l'altro lì c'è uno strano gioco perché la figura del giglio se viene girata sembra un'ape per cui praticamente prendono sti tende le girano e diventano le api imperiali non sono più i gigli del re e addirittura grattano via tutti i gigli monarchici che sono stati messi in giro per il palazzo che sono stati messi come decorazione monarchica in sostituzione di quella prima Napoleoni quando Napoleone arriva viene portato in trionfo lo portano a braccia fino al suo appartamento e Napoleone era diventato imperatore però come abbiamo già detto non è che con questo avesse risolto i suoi problemi gli alleati avevano già detto che lo consideravano anzi lo dicono per questo si pensa sia stato Tajerana a fare il documento lo dicono in maniera molto brutale perché lo considerano un pericoloso criminale che viene posto fuori dalla legge che forse è anche un po' eccessivo però di fatto Napoleone riceve subito dei pessimi segnali da parte di tutte le potenze europee riceve pessimi segnali anche dal suo cognato Murat che non è senz'altro un genio il quale contro a quello che gli dice la sorella la moglie che sarebbe la sorella di Napoleone e buona parte dei suoi consiglieri decide che è venuto il momento di schierarsi dalla parte di Napoleone e quindi di tentare di conquistare l'Italia ora l'unico possibile non alleato ma anello debole della catena degli alleati contro Napoleone potrebbe essere l'Austria perché Napoleone ha sposato la figlia dell'imperatore la figlia di Francesco I Maria Luisa e quindi esiste un qualche legame e con Napoleone sul trono Napoleone secondo suo figlio che però è anche nipote dell'imperatore d'Austria potrebbe essere un candidato al trono francese interessante per gli austriaci l'impresa di Murat che parte da Napoli col suo esercito e tenta di invadere l'Italia mette in crisi anche l'ultima possibilità seppure è mai esistita comunque l'unico rapporto possibile fra Napoleone e gli alleati viene cancellato da Murat il quale fra l'altro riesce a perdere agisce completamente di testa sua con un anticipo rispetto alla manovra che pensa di fare Napoleone e praticamente poi viene sconfitto a Tolentino viene sconfitto a Tolentino si ritira verso Napoli in una situazione disperata a Napoli che è l'ultima volta poi che incontra che incontra sua moglie a Napoli la situazione è già che la città è minacciata di bombardamento dal flotto inglese per cui praticamente capitola consegna tutta la flotta e Murat si aggira da solo senza più scorta senza niente per qualche giorno nella città non so se addirittura per qualche ora dopodiché si imbarca su una presenza su una barchetta non su una su una nave da guerra come teccherebbe un re per andare in Francia e lui si può partire contando su un passaporto inglese che si è procurato non so come e quando arriva in Francia Napoleone si rifiuta di riceverlo anche perché la mossa precedente di Murat è stata quella di schierarsi contro Napoleone nel 14 e quindi Napoleone dice chiaramente che una figura come la sua non sarebbe una figura utile alla testa dell'esercito francese che lo considera un traditore comunque questo di quello di Murat praticamente la chiusura dell'ultima porta che avrebbe Napoleone per avere se non un dialogo almeno per poter parlare col resto dell'Europa perché uno dei provvedimenti che viene preso immediatamente dagli alleati appena sanno della fuga di Napoleone dall'Elba cioè appena Napoleone riventa imperatore riconquista Parigi è quella di bloccare le frontiere e di ricominciare con la tecnica che già avevano usato nel 14 nella campagna di Francia che era quella di non parlarci nemmeno non facevano passare quelli che portavano i suoi messaggi perché l'idea era di bloccare anche qualunque rapporto diplomatico questa situazione Napoleone è abbastanza consapevole che non ci sia molto da fare comunque lui è un grandissimo lavoratore ed è anche un grandissimo conoscitore di uomini e quindi riesce a ricostruire un governo che corrisponda abbastanza alla Francia un governo più liberale di quello che poteva essere stato il suo governo precedente fra l'altro abolisce la censura tenta di concedere una nuova carta costituzionale ed è un'avventura che poi non ha un esito ma non ha successo perché poi su quella carta fa effettuare un referendum al quale vanno a votare molti pochi francesi quindi non c'è questa grande adesione della Francia però il suo successo maggiore nella costituzione di questo governo è convincere il maresciallo Davout a fare il ministro della guerra è interessante confrontare la tecnica che Napoleone usa con Ne con quella che usa con Davout perché quando si trova di fronte Ne per ammorbidirlo e convincerlo a passare dalla sua parte gli scrive una lettera sostanzialmente piena di balle dicendo che sta per tornare l'imperatrice con suo figlio che voleva dire che era d'accordo con gli austriaci che è tutto sistemato ma perché proprio te adesso ti inventi questa cosa tanto ormai il re è finito quindi tu ti schiereresti alla parte sbagliata e ne è sostanzialmente a bocca tant'è in tutto il periodo successivo ne non partecipa alla vita del governo e alla riorganizzazione della Francia perché forse si è sentito un po' circuito dalla manovra di Napoleone invece con Davout che è uno dei suoi migliori marescialli forse il migliore in assoluto gli dice la verità gli dice non è vero che sta arrivando l'imperatrice è vero che io sono solo e per cui se mi abbandonate anche voi mi lasciate da solo e Davout che è uno che ha questo fortissimo senso dell'onore dice no no io resto Davout è un lavoratore instancabile e un ottimo ufficiale oltre che una persona di un'onestà cristallina e si mette al lavoro per ricostruire l'esercito francese la cosa in parte era semplice in parte era quasi impossibile era quasi impossibile perché l'esercito era stato più che dimezzato dal re che quindi aveva rimandato a casa soldati messo a mezza paga ufficiali aveva ridotto gli arsenali i magazzini d'altra parte però la Francia aveva appunto tutti questi ufficiali a mezza paga era piena di gente che aveva fatto il soldato fino a poco prima certo andava riarmata rimessa insieme inquadrata poi l'esercito dell'epoca andava con i cavalli quindi bisognava comperare i cavalli trovare i cavalli i cavalli per l'esercito non sono gli stessi che tirano i carretti con sopra le botti di birra sono cavalli che devono avere una certa qualità e che poi vanno anche addestrati per un certo periodo perché è chiaro che se i cavalli della cavalleria hanno paura quando sentono gli scoppi non servono a molto però Davout riesce a con una serie di frizioni con Napoleone che poi sono state raccontate anche più volte perché Napoleone pretendeva sempre di più ma Davout riesce a ricostruire questo esercito francese che voleva Napoleone che doveva avere la caratteristica di essere un esercito non molto grande perché era impossibile ma un esercito composto da elementi di ottima qualità e questo Davout riesce a farlo elementi di ottima qualità tanti cannoni tanta cavalleria e una grande esperienza nei quadri degli ufficiali che provenivano appunto da un esercito che combatteva ininterrottamente da quasi vent'anni chi sono i nemici di Napoleone che ha riconquistato il trono a Parigi si potrebbe dire tutti in realtà Napoleone ha pochi amici lo sa benissimo l'unico che si schiera dichiaratamente dalla sua parte come abbiamo detto è suo cognato Gioacchino Murat re di Napoli che si lancia in un'avventura che è fuori tempo sbagliata sia nell'intento che poi nelle modalità operative il principale nemico di Napoleone è forse addirittura diventato lo zara Alessandro lo zara Alessandro ha avuto atteggiamenti diversi nei confronti di Napoleone all'inizio è stato il suo grande nemico ha combattuto contro di lui venendo sconfitto in maniera pesante la battaglia di Austerlitz ha continuato la guerra nonostante la sconfitta dei prussiani a Iena e la guerra è continuata e la nuova sconfitta molto pesante di Friedland ha convinto lo zar ad arrivare alla pace di Tilsit la pace di Tilsit del 7 è una pace strana perché è praticamente il salto di campo dello zar si racconta poi appunto sono tutte cose sulle quali non potremo mai essere sicuri ma si racconta che a Tilsit in questo luogo proprio al confine fra la Polonia e la Russia dove si incontrano Napoleone e lo zar Alessandro per stipulare la pace la prima frase che lo zar avrebbe detto a Napoleone sia stata faremo la pace perché io odio gli inglesi quanto voi e quest'idea di un accordo continentale fra la Russia e la Francia è l'idea che per 5 anni dà a Napoleone la possibilità di essere egemone almeno sulla parte occidentale del continente anche con una qualche forma di tranquillità certo Napoleone non riesce a stare calmo non riesce a fare tesoro dei vantaggi strategici di cui si trova a godere per cui si apre la questione della guerra di Spagna che sarà una sorta di anticipazione poi del disastro della campagna di Russia e c'è anche nel mezzo la battaglia di Wagram che è la campagna di Wagram che è quest'altra guerra contro l'Austria una guerra sollecitata dagli inglesi perché poi il nemico di Napoleone è l'Inghilterra Napoleone non riesce mai a trovare un punto d'equilibrio accettabile per raggiungere la pace con l'Inghilterra in realtà si tratta di visioni diverse del mondo punti di vista anche diversi sui rapporti di forze perché Napoleone pensa di essere in una situazione di assoluto vantaggio rispetto agli inglesi i quali però stanno diventando sempre di più i padroni del mondo anzi proprio nel periodo delle guerre napoleoniche gli inglesi riescono a consolidare una serie di conquiste e a farne di nuove visto che sono gli assoluti padroni del mare soprattutto dopo la battaglia di Trafalgar nella quale distruggono la flotta francese e anche quella spagnola fra l'altro che erano insieme che costituivano l'unica potenza alternativa a quella inglese sul mare quindi il dominio dei mari degli inglesi che si accompagna ha un dominio del sistema economico e commerciale ormai di tutto il mondo perché poi qui bisognerebbe fare la storia del colonialismo di questa grande avventura di rapina compiuta dall'Europa nei confronti del resto del mondo ma certo gli inglesi sono quelli che per un secolo dall'inizio dell'Ottocento poi al Novecento inoltrato godono di tutti i vantaggi economici che il controllo del sistema degli scambi il sistema mondiale degli scambi dà loro ancora non si parla di impero indiano ma si parla di compagnia delle indie e la spogliazione del continente indiano produce immense ricchezze per l'Inghilterra che è in grado di finanziare ogni resistenza al potere napoleonico sul continente quando Napoleone dopo Iena arriva a Berlino impone il blocco continentale nel tentativo di realizzare una contromossa al sistema inglese per cui gli inglesi vivono di commercio lui pensa di impedire loro di commerciare ora fra il finanziere e il contrabandiere ha sempre vinto il contrabandiere e continua a essere così il contrabbando avviene automaticamente quando il desiderio delle merci è tale da essere disponibili a contravvenire a qualsiasi norma e questo succede poi è abbastanza una costante che ha trovato delle dimostrazioni esemplari con il commercio dell'oppio in Cina per esempio con il commercio dell'alcol negli Stati Uniti nel periodo del proibizionismo data una richiesta sufficientemente forte quella richiesta viene soddisfatta si raccontano di trasporti impressionanti per delle merci inglesi proibite che arrivavano per esempio a Londra da Londra venivano portate a Costantinopoli da Costantinopoli con mezzi diversi risalivano per tutti i Balcani per attraversare l'Europa e poi magari tornare in Francia quindi diventavano carissime ma venivano richieste lo stesso comunque Napoleone non riesce a trovare la via della pace con gli inglesi né a trovare la via della vittoria che era divenuta impossibile dopo la sconfitta di Trafalgar i suoi rapporti con lo zaro Alessandro a questo punto almeno in teoria avrebbero dovuto essere preziosi negli anni che vanno da Tilsit alla campagna di Russia questi rapporti si logorano perché Napoleone non è in grado di sostenere la politica di Alessandro in nessun modo sostanzialmente la politica di blocco tende a favorire l'industria francese perché col sistema del protezionismo l'industria francese ha un largo mercato per i suoi prodotti fra l'altro il sistema napoleonico è molto aggressivo nei confronti degli stati satelliti più o meno come sarebbe poi stato il sistema sovietico da Stalin in poi con il principio che lo stato più potente ha il sistema industriale e gli stati satelliti devono fornire materia prima quindi senza avere delle possibilità di incremento del valore perché poi appunto la materia prima per esempio l'Italia viene il nord Italia soprattutto viene indirizzato non più verso la lavorazione dei tessuti ma verso per esempio la produzione della seta e quindi produzione di materie prime e poi la lavorazione delle materie prime che è più redditizia veniva concentrata in Francia ora è vero che la Russia è un grande produttore di materie prime però la Russia ha anche dei grandissimi problemi di trasporto di queste materie prime per cui Napoleone non riesce a garantire alla Russia un sistema commerciale favorevole e invece il blocco impedisce alla Russia di vendere quelli che sono i suoi prodotti pelli legname tutte queste cose che viaggiano bene su mare e viaggiano molto male su strada questo rende sempre più difficili i rapporti con lo zar fra l'altro lo zar sperava in un forte sostegno da parte di Napoleone nella sua politica di espansione verso i Balcani e addirittura verso la Turchia lo zar Alessandro sperava addirittura di riuscire a mettere le mani su Costantinopoli già allora l'impero ottomano era abbastanza in crisi e tant'è lo zar combatte contro i turchi e vince anche in alcune occasioni riuscendo a conquistare parti del territorio balcanico che prima era tutto sotto l'impero ottomano e poi viene via via logorato e praticamente finisce quasi pochi mesi prima dello scopo della prima guerra mondiale con la seconda guerra balcanica finisce la presenza ottomana nella penisola balcanica però Napoleone non sostiene lo zar quanto lo zar sperava di essere sostenuto e Alessandro vede anche che Napoleone non è in grado di risolvere le sue questioni militari in maniera decisiva cioè l'Europa continua a essere un continente in guerra dove Napoleone è costretto a combattere continuamente in Spagna di nuovo in Austria senza riuscire a trovare un punto di equilibrio inoltre la società russa è una società molto aristocratica rispetto invece alla società francese che fosse anche comandata da un dittatore quale Napoleone oggettivamente era è però una società nella quale una serie di diritti civili venivano dati per acquisiti cioè tutto il meccanismo della rivoluzione dell'illuminismo è un sistema che poi si rafforza con Napoleone il codice civile di Napoleone è uno strumento che concede moltissime libertà non concede le libertà politiche ma le libertà civili sì per cui tutto in tema di proprietà di divorzio di diritto di famiglia la negazione del sistema aristocratico si crea in Francia una sorta di aristocrazia imperiale che però è pochissima cosa rispetto alle tradizioni dell'aristocrazia di sangue che c'erano nel resto dell'Europa e segnatamente in Russia la Russia era un paese abbastanza arcaico nel quale c'era ancora la servitù della gleba che viene abolita solo qualche decennio dopo quindi anche la società russa mal sopportava questo accordo con i francesi che venivano immaginati come qualcosa di diverso è in parte lo stesso meccanismo che si crea in Spagna l'errore di Napoleone in Spagna è un errore illuministico Napoleone vive proprio a cavallo diciamo sullo spartiacque fra una visione illuministica e razionale una visione romantica e tutta basata sull'eroismo sul bello sullo spirito sullo slancio e di rispetto alla Spagna lui è un atteggiamento estremamente razionale immagina che portare le leggi francesi che sono delle leggi oggettivamente di libertà civile di eguaglianza se non di fraternità però di libertà e di eguaglianza lo sono sicuramente rispetto a quelle precedenti permetterà ai francesi di essere apprezzati dagli spagnoli che invece preferiscono il loro re che è spagnolo a Giuseppe che avrà pure un buon apparato normativo e che sicuramente potrebbe sviluppare alcuni aspetti della società spagnola verso un sistema più democratico ma non è che la democrazia si esporti facilmente come si è dimostrato anche negli ultimi anni e questi sono i grandi nemici di Napoleone che sono gli inglesi e poi i russi la rottura con lo zaro Alessandro è un'altra di quelle cose che non sono state spiegate anche perché poi come si diceva all'inizio capire i perché delle cose è difficilissimo si può andare in cerca dei come e il come è uno smottamento continuo per cui da una grande amicizia e da un rapporto di alleanza molto stretto si passa alla diffidenza e poi al dato caratteriale di Napoleone che pensa tutto si possa risolvere con una bella battaglia mentre invece la diplomazia e i rapporti internazionali richiederebbero anche l'uso di strumenti diversi di strumenti più elastici di una capacità di superare anche i momenti critici senza subito fare la guerra altra cosa ancora è la tendenza di Napoleone a partire in un'impresa e non sapersi fermare per cui quando Napoleone comincia a organizzare la campagna di Russia praticamente è già partito non ha la capacità di fermare quelli che sono dei preparativi immensi quasi incredibili per l'epoca in un contesto nel quale si andava appunto a cavallo i messaggi dovevano viaggiare anche loro a cavallo e il vantaggio tecnologico era molto meno significativo di quanto sarebbe stato in seguito per cui l'esercito russo era un esercito sostanzialmente arretrato rispetto a quello degli altri paesi ma non di molto perché i sistemi di combattimento erano ancora dei sistemi di combattimento che non prevedevano l'impiego di attrezzature di armi sofisticate di una meccanizzazione particolare andavano con i cavalli francesi e andavano con i cavalli russi anzi forse i russi avevano una maggior capacità di accudire gli animali in Russia di quanto non ce lo potessero avere i francesi in mezzo tra la Russia e la Francia c'erano altre due potenze una che era una potenza sostanzialmente in crisi l'Austria che già aveva conosciuto una decadenza lunga e lentissima che cominciava probabilmente con la guerra dei trent'anni che ha avuto dei momenti di ripresa una potenza militarmente non troppo efficace che conosceva più sconfitte che vittorie anche se aveva una grande pretesa di tradizione militare in fondo aveva combattuto contro gli eserciti turchi però per i tempi di Monte Cuccoli aveva combattuto durante la guerra dei sette anni insomma aveva una qualche tradizione militare ma era un paese come la Russia che cominciava a entrare in un a trovarsi in una situazione di squilibrio rispetto all'Europa occidentale e una potenza sulla quale giustamente Napoleone sperava qualche cosa perché era una potenza che per sua natura doveva volere la pace perché non era dalla guerra che poteva sperare di ottenere qualche cosa di questo era abbastanza consapevole Metternich che è la figura di spicco nel governo austriaco di quegli anni ne era molto consapevole l'imperatore che fin troppe guerre aveva perso con Napoleone e le aveva pagate anche molto caramente che però trovandosi in mezzo a russi e prussiani certo non aveva nessuna intenzione di rischierarsi dalla parte dei francesi anche perché si aspettava dal congresso di Vienna e dagli accorti proprio diplomatici da fase al congresso di Vienna che non a caso si faceva a Vienna perché Vienna era qualche modo la potenza che poteva mettere d'accordo le altre potenze vincitrici e appunto sperava di riconquistare come in buona parte fece l'egemonia su tutta l'Italia che aveva perso con le guerre napoleoniche noi nell'unificazione italiana poi che è una cosa complessa e articolata tendiamo a dimenticare che la parte peninsulare dell'Italia di fatto era già stata riunificata in epoca napoleonica anche se l'operazione non era stata portata al suo compimento politico però un pezzo era diventato impero francese un pezzo era diventato regno d'Italia un pezzo era regno di Napoli però erano tre entità politiche che facevano tutte più o meno capo ai francesi e a Napoleone e anche per questa pretesa poi eccessiva di dominio francese entrano in crisi comunque anche l'Austria non aveva nessuna possibilità o propensione di riaccordarsi con Napoleone poi c'erano i brussiani che con Napoleone invece avevano veramente il dente avvelenato perché la potenza prussiana che era emersa dalla guerra dei sette anni dalle vittorie di Federico II era stata molto ridimensionata da Napoleone e c'erano stati anni di occupazione militare francese inoltre Napoleone aveva appoggiato altri stati tedeschi di quello che adesso è la Germania prima era l'impero tedesco contro la Prussia i Sassoni per esempio aveva organizzato la Vesfalia che prima non c'era aveva tentato di ridare un'organizzazione quella che adesso chiamiamo Germania che fosse un'organizzazione più filofrancese e fatta di stati più la Baviera è un altro alleato dei francesi di stati più o meno satelliti rispetto alla Francia quindi la Prussia era senz'altro uno dei grandi nemici di Napoleone si segnala anche la Svezia fra i nemici di Napoleone ancorché guidata da un re che era stato un maresciallo dell'impero Bernadotte che appunto poi era diventato re di Svezia e diventato re di Svezia aveva deciso che gli interessi della Svezia collidevano con quelli francesi per cui poteva distaccarsene questo insieme di realtà che andavano dalla potenza demografica soprattutto della Russia azzarista alla grande potenza economica dell'Inghilterra erano tutte schierate contro Napoleone e appena giunge la notizia del suo sbarco e poi venti giorni dopo del suo ingresso a Parigi rimettono in moto la macchina bellica che aveva funzionato fino all'anno precedente ed è una macchina bellica di proporzioni enormi per cui poi lì si fanno i calcoli è sempre difficile sapere esattamente come stanno le cose ognuno aveva i suoi problemi fra l'altro l'Inghilterra stava combattendo una guerra con gli Stati Uniti tanto per cambiare per cui i veterani di Wellington che avevano combattuto con lui in Spagna erano andati a finire in America Wellington si lamenta anche molto di questo perché non gli piacciono i soldati che gli danno anche se poi a Baterloo si comporteranno direi benissimo i soldati inglesi agli ordini di Wellington comunque Wellington con gli olandesi i belgi la legione tedesca aveva più o meno sbarca in Belgio che fa base a Bruxelles e può contare su più o meno 100.000 uomini 150.000 sono il primo esercito dei brussiani che è già arrivato due eserciti austriaci sono in movimento tutta l'immensa macchina dell'esercito russo viene riorganizzato per un totale che viene stimato circa in un milione di uomini che un milione di uomini sono una cosa davanti i francesi contro di loro potevano schierare lì i conti vengono fatti in maniera diversa potevano schierare come truppe combattenti di prima linea probabilmente non più di 250.000 uomini in tutto da considerarsi poi che i fronti erano numerosi perché c'era il fronte del Belgio dove c'erano gli inglesi e i prussiani poi c'era tutto il fronte renano nel quale stavano arrivando russi e austriaci poi c'era il fronte svizzero e c'era il fronte italiano senza contare che anche la Spagna entra in guerra contro la Francia ora di fronte a questo apparato gigantesco è difficile immaginare che Napoleone potesse credere di vincere davvero le vittorie di Napoleone ma fin dall'inizio sono vittorie caratterizzate dal fatto che lui riesce a combattere contro un nemico per volta riesce a combattere contro gli austriaci contro i russi prima contro gli austriaci e poi contro i russi quando è ad Austerlitz prima con i prussiani e poi contro i russi durante la campagna di Iena e dei Lau e poi di Friedland solo contro gli austriaci e in fondo questo è il suo progetto anche nella campagna di Russia lui pensa di poter combattere solo contro i russi e di poterli affrontare e forse commette l'errore di comporre un esercito troppo grande e quindi difficile da rifornire e scadente qualitativamente per andare così lontano quando forse un esercito più piccolo ma di qualità migliore sarebbe stato più utile più facile da comandare soprattutto più facile da rifornire lui immaginava di combattere contro i russi una battaglia al più a Smolensk di sistemare tutto e poi di potersene tornare indietro che è un errore spaventoso però anche lì combatteva solo contro i russi anzi in teoria prussiani e austriaci erano i suoi alleati anzi in teoria erano i suoi alleati e gli austriaci rimangono a lungo perlomeno neutrali ora da quando poi nel 13 sostanzialmente nella campagna dell'aprile del 13 della primavera del 13 tutti combattono contro i francesi anche se insieme ai francesi ci sono ancora i sassoni i bavaresi i belgi gli italiani fino a un certo punto anche i napoletani se li vogliamo tenere divisi l'equilibrio delle forze è chiaramente a svantaggio di Napoleone e lui perde in un momento nel quale appunto può contare ancora su questi suoi alleati minori che gli sono abbastanza fedeli perché sicuramente gli italiani sono il regno d'Italia il principe Eugenio rimangono fedeli a Napoleone fino alla fine i sassoni e i bavaresi lo abbandonano a Lipschia e lui i belgi che poi saranno con Wellington contro Napoleone Wellington preferisce non schierarli perché ha paura che riscappino dalla parte di Napoleone però sono piccole realtà di fronte allo sterminato impero russo al grande impero austriaco alla determinatissima Prussia e anche a un'Inghilterra che ha la possibilità di rifornire di armi e di danaro poi se l'Argianchi fa la guerra sempre capace di sostenere i suoi alleati per tutta la parte economica consentendo loro di mettere in campo anche eserciti enormi in più la cosa che forse danneggia Napoleone in maniera definitiva i comandi di tutti questi nemici sono a Vienna perché è in corso il congresso di Vienna quindi i tempi il tempo del quale abbiamo parlato prima il tempo di parlarsi di scambiare le notizie non ne hanno bisogno perché sono tutti a Vienna e possono decidere in poche ore che cosa fare e questa è sicuramente una cosa che impedisce a Napoleone di mettere anche una piccola zeppa in questo complesso sistema diplomatico a Vienna fra l'altro è riuscito a intrufolarsi Taheran a Vienna non erano stati invitati i francesi perché a Vienna era una conferenza delle potenze vincitrici Taheran ci va allo stesso e dice sono venuto a vedere io non ho niente da chiedere i confini della Francia sono già stati definiti posso fare da mediatore sono qui per rendermi utile sono qui per dare la parola ai piccoli riesce a intrufolarsi e poi diventa una delle figure che già hanno organizzato molto di quello che viene fatto al congresso di Vienna e ha tutti i rapporti caldi e immediati per poter organizzare di nuovo la coalizione contro Napoleone e puntualmente lo fa il piano di Napoleone per la campagna del Belgio come sarà chiamata in seguito è molto semplice e ripercorre o riprende il suo piano di battaglia per la campagna d'Italia l'idea fondamentale è di sfruttare il vantaggio della concentrazione Napoleone sul piano strategico decide di affrontare il più in fretta possibile il nemico più vicino e il nemico più vicino è costituito dai due eserciti quello definito degli alleati che è l'esercito di Wellington composto principalmente da inglesi ma anche da olandesi da belgi da alleati tedeschi e l'esercito prussiano invece comandato da Blucher questi due eserciti sono in Belgio e costituiscono il fronte nord dell'apparato organizzato dagli alleati per combattere contro Napoleone e riportare la Francia dentro l'alveo delle decisioni prese che sono in via di definizione al congresso di Vienna e è la parte in qualche modo che ha raggiunto il maggior livello di preparazione di tutto l'apparato alleato le altre truppe sono in marcia sono in marcia attraverso la Germania sono in marcia dalla Russia si stanno spostando attraverso il nord dell'Italia Napoleone pensa che un colpo deciso assestato contro i nemici più vicini possa cambiare in maniera abbastanza radicale la situazione politica europea pensa o si illude o finge di illudersi perché il rapporto di forze è così favorevole agli alleati e gli alleati sono ancora così determinati che è difficile immaginare che anche una loro sconfitta porti a un reale cambiamento della situazione strategica ma tant'è Napoleone non può fare diversamente e poi come dicevamo dopo che ha cominciato a percorrere questa strada verso la costruzione di un finale della sua avventura non può certo decidere mi sono sbagliato me ne vado torno all'Elba d'altra parte anche la via del ritorno all'Elba ormai è assolutamente preclusa dal fatto che non ha accettato di restarci e certo gli alleati non gli consentirebbero di tornare lì per poi ritornare ancora una volta in Francia quando avesse deciso di farlo comunque queste sono tutte storie di fantapolitica la questione è che Napoleone valuta correttamente che l'esercito degli alleati non si aspetta un attacco francese valuta correttamente il fatto che gli alleati sono dispersi in Belgio sono fra Namur e la Costa quasi perché sono dispersi sono dispersi per sicuramente un atteggiamento un po' imprevidente dei loro comandanti ma anche perché i soldati è più facile che vengano riforniti e che trovino di che sostenersi se sono separati che se sono tutti insieme gli eserciti una volta ricomposti hanno bisogno di un sistema di rifornimenti molto complicato fra prussiani e inglesi e alleati come ne vogliamo chiamare si tratta più di 200.000 uomini per rifornirli per dargli da mangiare per fare mangiare i cavalli che sono tantissimi in un esercito di quell'epoca bisogna distribuirli su un terreno abbastanza largo Napoleone ordina al suo esercito di concentrarsi e lo raggiunge la sera del 13 di giugno ha anche fatto effettuare le manovre di copertura nelle quali è abilissimo per cui praticamente lungo il confine fra la Francia e il Belgio non passa niente nei giorni precedenti alla battaglia o all'inizio della campagna né i prussiani né gli inglesi sospettano minimamente che i francesi stiano per attaccare in effetti l'idea prevalente è che ancora Napoleone non sia pronto per fare la guerra e che non lo siano neanche gli alleati sono passati pochi mesi da quando Napoleone è tornato sul trono e organizzare eserciti che per l'epoca sono enormi richiede del tempo richiede del denaro richiede tutta una serie di attività che non si suppone Napoleone sia stato capace di svolgere invece Napoleone con l'aiuto del suo fido maresciallo Davù è riuscito a ricostituire l'esercito che secondo lui serve per sviluppare il tipo di campagna al quale ha pensato il tipo di campagna immaginata da Napoleone è molto simile come dicevamo alla prima campagna d'Italia anche in Italia Napoleone quando era diventato generale dell'armata d'Italia dell'esercito francese si era trovato davanti al problema di avere di fronte due eserciti che nel caso erano quello piemontese e quello austriaco che combinati insieme erano più forti dell'esercito francese di cui disponeva lui ma che separatamente potevano essere battuti e la sua strategia era stata quella di attaccare i due eserciti nel loro punto di congiunzione costringerli alla ritirata come era avvenuto e in questa ritirata siccome le linee di comunicazione austriache puntavano su Milano che era austriaca il Lombardo Veneto mentre le linee di comunicazione piemontesi puntavano su Torino i due eserciti piemontese e austriaco nel ritirarsi avevano perso il collegamento l'uno dall'altro e si erano ritirati ciascuno lungo la sua linea di ritirata e così Napoleone aveva poi potuto sconfiggere rapidamente i piemontesi costringendoli all'armistizio rivolgersi verso l'esercito austriaco e poi con una rapidissima marcia che gli aveva permesso di precedere gli austriaci praticamente su tutti gli affluenti del Po impedendo loro di organizzare una linea di difesa su uno di questi affluenti poi di portare la conquista di Milano poi tutte le altre battaglie della campagna d'Italia in Belgio i due eserciti nemici sono quello inglese e quello prussiano e teoricamente i due eserciti presentano la stessa caratteristica che avevano i piemontesi e gli austriaci vent'anni prima cioè hanno due linee di collegamento e quindi due linee di ritirata diverse quelle inglesi su Bruxelles e poi verso l'Olanda e un ipotetico rimbarco se fossero stati sconfitti mentre invece i prussiani avevano una linea di ritirata verso est verso la Prussia essendo prussiani la loro linea di ritirata naturale era la strada dalla quale proveniva Napoleone immagina che disponendo di un esercito molto mobile con un'ottima cavalleria molto concentrato sia possibile incunearsi fra i due eserciti quello prussiano e quello di Wellington quello alleato e di batterli separatamente per fare questo l'organizzazione dell'esercito francese deve essere su due ali e un grosso centro che sostiene sulla sinistra l'ala sinistra che si oppone agli inglesi e sulla destra l'ala destra opposta invece ai prussiani con una specie di pendolo che deve consentire ai francesi di trovarsi in vantaggio ora sulla destra ora sulla sinistra davanti ai due avversari ovviamente ci sono una serie di controindicazioni ci sono una serie di problemi il problema centrale è quello della velocità bisogna muoversi molto rapidamente impedire agli inglesi di riunirsi ai prussiani ma soprattutto non dare troppo tempo neppure ai prussiani di concentrarsi né agli inglesi di concentrarsi alle spalle o a fianco dei prussiani lo sviluppo della manovra è abbastanza semplice in teoria perché si tratta di movimenti che si svolgono entro pochi chilometri non è una grande campagna come spostamenti la distanza fra Bruxelles che è la capitale del Belgio e il confine francese in linea d'aria è attorno ai 70 km quindi si tratta di un terreno dove si combatte molto ristretto e fra l'altro è un terreno nel quale si è già combattuto nella storia tant'è per esempio a Ligny dove poi avviene in realtà uno degli scontri maggiori della campagna c'è un monumento che ricorda addirittura tre vittorie francesi che sono state ottenute praticamente sempre nello stesso posto si tratta insomma di un luogo deputato per le campagne combattute dagli eserciti francesi che si spostano verso nord l'altro problema che ha Napoleone oltre a quello della velocità è quello di riuscire a trovare il punto di congiunzione fra l'esercito prussiano e l'esercito di Wellington e riuscire a occuparlo in modo da impedire anche i collegamenti fra i due eserciti ora noi siamo abituati all'epoca dei telefonini delle radio degli aeroplani per cui comunicare è abbastanza semplice ma all'epoca napoleonica per mandare un messaggio bisognava che qualcuno lo portasse a cavallo se le strade che collegavano il comando prussiano al comando inglese erano interrotte erano cadute in mano francese portare un messaggio diventava una cosa complicatissima incerta che richiedeva moltissimo tempo e la possibilità per gli alleati di battere Napoleone sta tutta nella loro capacità di mantenere il collegamento di sapere che cosa sta facendo l'altro e di poter coordinare in qualche modo i suoi movimenti con quelli dell'altro visto che da soli sia i prussiani che gli inglesi sono di gran lunga inferiore ai francesi non solo dal punto di vista quantitativo che da quel punto anzi i rapporti non sono così favorevoli ai francesi ma soprattutto da quello qualitativo perché l'esercito francese è un esercito di veterani è un esercito che ha un'ottima artiglieria ha degli ottimi ufficiali ed ha un sacco di cavalleria più di quella degli alleati o comunque in proporzione più di quella degli alleati e quindi il vantaggio di Napoleone è anche sulla qualità più che sul numero è in uno scontro molto concentrato questo almeno secondo Napoleone è un elemento importante e tutti quelli che hanno studiato questo piano di battaglia questo piano di campagna sarebbe meglio dire lo hanno trovato uno dei migliori piani mai concepiti da Napoleone e anche la fase iniziale della sua realizzazione è una fase sicuramente di livello abbastanza buono perché la sorpresa riesce perfettamente i prussiani sono battuti e devono cominciare a ritirarsi a ritirarsi e mentre si ritirano tendono a spostarsi anche verso est esattamente come voleva Napoleone verso il comando di Blucher che si trova a Namur Blucher è un vecchio generale prussiano estremamente determinato ha combattuto nella campagna di Francia del 14 contro Napoleone è stato sconfitto qualche volta da Napoleone altre volte addirittura è riuscito a respingerlo trovandosi ovviamente in forte vantaggio numerico e Blucher ha con sé alcune figure che sono importanti nella storia dell'esercito prussiano e anche nell'esercito tedesco fra l'altro c'è una figura che è quella del suo capo di stato maggiore Gneisenau che viene definita che passa alla storia con uno strano soprannome perché si dice che Gneisenau sia il cervello di Blucher Blucher è un vecchio comandante ma non è né giudicato particolarmente intelligente né particolarmente capace di organizzarsi la sua forza è tutta nella determinazione nella capacità di guidare i suoi uomini all'attacco e di tenere elevato il loro morale ma come dicevamo Napoleone forse non è che la voglia vincere davvero questa campagna Napoleone prima di cominciare la la campagna deve attribuire i comandi deve scegliere gli ufficiali che devono guidare i vari reparti e si tratta di una scelta estremamente impegnativa perché appunto ogni comando anche se nella tradizione ottocentesca setteottocentesca è tenuto al più rigido rispetto degli ordini ugualmente gode di ampi spazi di autonomia soprattutto la capacità di iniziativa nel caso manchino gli ordini o gli ordini arrivino tardi o non siano chiari risulta un elemento molto importante e qui siamo al vero problema se c'è un problema nella campagna del Belgio in quello che succede a Waterloo e il vero problema insoluto è come mai Napoleone scelga in maniera così strana per non dire in maniera così radicalmente sbagliata i suoi collaboratori e quelli che lo devono accompagnare durante la campagna quelli che devono comandare i vari reparti e che poi dovrebbero conseguire le vittorie che gli servono la prima figura importante nell'organizzazione di un comando è il capo di stato maggiore ora il capo di stato maggiore storico di Napoleone che l'ha accompagnato in tutte le sue guerre addirittura fin dalla campagna d'Italia è Berthier Berthier è una figura strana perché non è un bravo generale anzi forse un pessimo generale l'unica volta che Napoleone lo lascia al comando dell'esercito siamo all'inizio della campagna di Vagram Berthier si fa prendere dal panico commette una serie di errori anche gravi però nella concezione di comando di Napoleone Berthier è una figura preziosa nella concezione di comando di Napoleone è l'imperatore che comanda nel suo stato maggiore non c'è bisogno di pensare c'è bisogno di eseguire bene c'è bisogno di trasmettere i messaggi in maniera corretta c'è bisogno di gestire un insieme di rapporti che sono più complicati di quanto si possa credere perché l'ambiente è quello di ufficiali militari gente che ha trascorso la vita sotto le armi che ha un altissimo senso di sé sono tutti molto presuntuosi tutti pensano di dover essere trattati bene il sistema delle gerarchie va rispettato in maniera puntigliosa e quindi vanno saputi trattare sono una sorta si potrebbe dire quasi di bambinoni con i quali bisogna avere il tatto giusto il tratto giusto conoscere le personalità sapere come inviare gli ordini gli ordini sono tutti fatti di poche parole non sono ordini complicati non c'è il telefono per spiegare che cosa si vuole dire gli ordini devono essere chiari esaustivi e vanno anche trasmessi nella quantità sufficiente per far capire ai vari comandanti di reparto che cosa devono fare che cosa stanno facendo di modo che anche nell'assenza di un ordine preciso nella catena degli ordini che ricevono sappiano qual è il contesto tattico nel quale si stanno muovendo in modo da agire nella maniera migliore se sono capaci di farlo quindi un ruolo importantissimo un ruolo di grande prestigio un ruolo di grande prestigio che quindi non può che essere ricoperto da un maresciallo dell'impero questo è è una cosa abbastanza sicura perché chi scrive gli ordini per conto di Napoleone comunque poi li firma e chi riceve un ordine deve riceverlo firmato da un maresciallo dell'impero perché un altro maresciallo dell'impero e al comando dell'esercito di Napoleone come vedremo ce n'è più d'uno non gradisce molto di ricevere ordini da qualcuno che gli sia gerarchicamente inferiore in realtà il maresciallato non è un grado militare sarebbe una carica civile però Napoleone praticamente la conferisce solo ad alcuni dei suoi generali di divisione solo a loro consegna il bastone da maresciallo tant'è anche anche nel modo di dire che venne fuori in quell'epoca nello zaino di ogni soldato si trova il bastone da maresciallo per significare che nell'esercito napoleonico tutti potevano ambire ai gradi più alti della gerarchia il bastone diventava quindi praticamente il grado massimo che si poteva raggiungere nell'esercito e il grado militare più alto era generale di divisione però il maresciallo aveva un'autorità superiore quindi ci voleva un maresciallo a fare il capo di stato maggiore nella sua scelta Napoleone decide per Soule Soule era stato uno dei primi nominati marescialli un vecchio generale di Napoleone che ha combattuto con lui molte campagne Soule comanda il centro francese ad Austerlitz il grande sfondamento del centro nemico ad Austerlitz lo comanda Soule e poi Soule è stato incaricato di combattere buona parte della campagna di Spagna tant'è lo chiamavano il re di Spagna re Nicola da come si era impadronito della situazione spagnola e da quanto tempo era vissuto in Spagna con una posizione assolutamente di vertice nella guerra precedente quella dell'anno precedente quando Napoleone aveva dovuto abdicare nell'aprile del 14 Soule stava ancora combattendo si era ritirato dalla Spagna anche perché senza ricevere rinforzi aveva dovuto cedere sempre più terreno a Wellington e dopo che Napoleone aveva già abdicato aveva combattuto l'ultima battaglia dei francesi nel 14 a Tolosa proprio contro Wellington e l'aveva persa l'aveva persa di misura non deve stupire che avesse continuato a combattere anche dopo che Napoleone aveva abdicato in realtà non l'aveva saputo né lui né Wellington avevano ricevuto la notizia dell'abdicazione di Napoleone e avevano continuato la guerra per quel meccanismo del quale parlavamo anche prima per cui le notizie andavano a cavallo e bisognava che qualcuno spedisse la notizia a cavallo e se quel qualcuno la spediva con un po' di ritardo non si preoccupava di spedirla o mancava proprio il tempo materiale per farla arrivare non c'era l'informazione per cui a Napoleone abdicato Sul continuò a combattere però appena seppe che cos'era successo smise subito smise subito e partecipò a quel sistema di rientro nei ranghi si potrebbe dire o di accettazione del sistema monarchico che aveva costituito poi il dopo abdicazione di Napoleone in effetti nessuno immaginava che Napoleone sarebbe tornato Napoleone stesso non dice ai suoi collaboratori di non partecipare al regime che avrebbe preso il potere anzi sembra che anche nei suoi ultimi discorsi nel discorso del cavallo bianco quando si congeda con l'esercito raccomandi la fedeltà alla Francia e Sul giura fedeltà al re e viene apprezzato così tanto dal re che viene addirittura nominato ministro della guerra al momento dello sbarco di Napoleone in Francia al suo ritorno dall'isola del Basul è ministro della guerra e è la persona che viene incaricata direttamente dal re di fermare Napoleone è lui che manda Ne con l'armata di Besançon a fermare Napoleone in realtà dopo pochi giorni dall'assegnazione di questo incarico Sul si dimette dal ministro della guerra non si sa bene se volontariamente o perché costretto comunque in tutta la Francia monarchica si vive l'impressione che i generali di Napoleone siano più fedeli a Napoleone che al re e quindi anche Sul evidentemente preferisce non trovarsi nella situazione imbarazzante di dovere combattere contro Napoleone e in più essere accusato di non combattere con la sufficiente determinazione come vorrebbero i monarchici comunque Sul oltre a questo passato un po' strano che lo vede andare dal fronte imperiale a quello monarchico e poi tornare a quello imperiale ha un altro tratto dominante è un caratteraccio Sul è arrogante è brusco molto prepotente si dice anche sia anche abbastanza un ladro ma questo lo si dice di molti dei marescialli di Napoleone che trovata l'occasione per diventare ricchi avevano cercato di diventare ricchissimi comunque senz'altro era una persona poco adatta a fare il capo di stato maggiore non aveva esperienza di stato maggiore lui per moltissimo tempo era stato in comando nella sua esperienza spagnola che è la lunga esperienza di un comando autonomo aveva avuto lui un capo di stato maggiore ma non era stato capo di stato maggiore e non era stato neanche prima nella sua carriera non aveva quasi mai ricoperto una funzione di quel tipo che diventava delicatissima con un esercito così grande come numero perché poi stiamo parlando sempre di qualcosa che è vicino tra i 130 e i 150 mila uomini poi fare i conti è sempre difficile e soprattutto era assolutamente privo di quel tratto che era necessario nel trattare appunto nel comportarsi con quelli che in fondo erano suoi pari grado e con i quali lui dialogava per conto di Napoleone per cui alla testa di questo meccanismo che nel progetto di Napoleone nel piano di Napoleone avrebbe dovuto funzionare come una macchina oliatissima con tutti i pezzi che tutti gli incastri tutti i dentini che giravano alla perfezione viene a trovarsi una persona che ha svolto pochissimo quell'attività e che caratterialmente non è nemmeno adatta a svolgerla sul capo di stato maggiore dunque nell'esercito che Napoleone comanda nella campagna del Belgio un capo di stato maggiore abbastanza improvvisato e sicuramente non di esperienza sicuramente non un uomo capace di relazionarsi con i suoi pari grado e nemmeno preparato nel senso dell'apparato che lo circondava noi immaginiamo adesso che un comando in un esercito sia fatto da una persona sola per cui uno viene nominato generale arriva lì e assume il comando di un reparto in realtà i capi unità e in particolare il capo di stato maggiore avevano attorno a sé un apparato di personale proprio che aveva anche degli aspetti quasi proprietari di rapporti fiduciari per cui un buon capo di stato maggiore era anche circondato da una serie di capaci e validi aiutanti di campo cioè l'insieme la funzione di stato maggiore è una funzione gigantesca perché è la funzione che consente il collegamento fra tutti i reparti dell'esercito deve avere costantemente la piena conoscenza di che cosa sta accadendo o almeno una conoscenza relativamente buona di cosa sta accadendo e ritrasmettere costantemente a tutti gli svariati comandi che possono essere distanti anche ore da percorsi a cavallo tutte le notizie le informazioni e gli ordini che sono necessari per farli muovere in maniera coordinata e per correggere tutti quei cambiamenti rispetto al piano iniziale che si devono prendere perché poi è impossibile prevedere tutto per cui il piano va costantemente riaggiustato Sul sicuramente non è la persona adatta e per assurdo Sul invece sarebbe la persona perfetta per comandare l'ala sinistra dell'esercito francese quella opposta all'esercito inglese perché perché è uno dei comandanti francesi che meglio conosce gli inglesi che meglio conosce addirittura Wellington conosce le tattiche di Wellington il modo di comportarsi di Wellington si sono scontrati per anni realmente per anni nella penisola iberica in Spagna soprattutto anche con un meccanismo di avanzate ritirate che era collegato ai rinforzi che l'uno o l'altro potevano ricevere quindi senz'altro sul con un comando autonomo all'ala sinistra dell'esercito francese avrebbe svolto un ruolo importante che invece come capo di stato maggiore non è in grado di svolgere un'altra personalità è messa alla testa dell'ala sinistra francese e si tratta di Ne di lui abbiamo già parlato della sua riconciliazione con Napoleone che però non era seguita nel periodo dei cento giorni dall'assegnazione di un incarico da parte di Napoleone a Ne era tornato a stare in campagna come se fosse un po' indeciso su da che parte stare poco prima della campagna della partenza per la campagna il giorno 11 o il giorno 12 di giugno Napoleone chiama il ministro della guerra Davout e gli dice di mandare un messaggio a Ne che lo invita a partecipare alla campagna Davout dice chiaramente a Napoleone di non essere d'accordo di pensare che Ne ormai non sia in grado di assumere un comando importante e che poi ormai è troppo tardi per convocarlo i termini nei quali Napoleone invita Ne a partecipare alla campagna sono veramente originali perché lo invita non gli manda un ordine gli manda un invito a riunirsi al comando dell'armata se vuole partecipare alle prime battaglie ma è un invito né sia che sia compiaciuto per l'invito che lo prenda per un ordine che pensi che è la cosa migliore da fare si precipita però arriva al comando francese dopo che c'è arrivato Napoleone arriva senza essersi portato i suoi aiutanti perché non fa in tempo a chiamarli arriva in una situazione molto improvvisata e si vede affidare l'incarico forse più delicato della fase iniziale della campagna ovvero il comando dell'ala sinistra né non è mai stato a combattere contro Wellington e si ritrova a comandare da un momento all'altro senza alcuna preparazione senza aver avuto il tempo di parlare con i suoi ufficiali in sottordine si trova a comandare la parte dell'esercito francese che deve fronteggiare gli inglesi e a questo punto bisogna parlare anche di un'altra un'altra persona alla quale poi viene sempre ricollegata la battaglia di Waterloo il grande assente della battaglia di Waterloo ovvero il maresciallo Grouchy il maresciallo Grouchy era l'unico maresciallo che aveva ricevuto il bastone da Napoleone dopo il suo ritorno dall'Elba e si trattava di un riconoscimento praticamente ottenuto più per ragioni politiche che vere capacità militari perché Grouchy era stato l'ufficiale più alto in grado quando si erano arresi i Vandeani sostanzialmente ovvero una parte non era esattamente in Vandea una delle zone di insurrezione monarchica che erano seguite allo sbarco di Napoleone nella quale poi la resa degli insorti era stata accettata da Grouchy accettata solamente perché poi il lavoro militare era stato fatto da un suo subordinato ma al momento di firmare Grouchy era il più alto in grado per cui Grouchy era diventato la figura che aveva soppresso le rivolte monarchiche in Provenza nel sud della Francia e per questa ragione tipicamente politica Napoleone gli aveva concesso il bastone da maresciallo ora Grouchy però chiaramente non veniva fuori dal nulla era un comandante di cavalleria anche di una certa esperienza Napoleone lo conosceva bene perché durante la ritirata di Russia Grouchy era stato il comandante della sua scorta di cavalleria e poi durante la campagna del 1813 erano arrivati a una sorta di rottura perché Grouchy pensava di avere maturato il diritto a assumere un comando importante cioè un comando autonomo quelli che sono i corpi d'armata un comando di corpo poi sono diventati i corpi d'armata e Napoleone invece pensa che non sia all'altezza di un comando così importante e quindi non glielo concede e allora Grouchy si ritira per poi ricomparire come napoleonico al ritorno di Napoleone dopo un breve passaggio non troppo chiaro come monarchico quindi Napoleone sapeva conosceva Grouchy sapeva chi era conosceva i suoi limiti sapeva che era ambizioso che era un uomo senz'altro coraggioso ma che aveva pochissima capacità di iniziativa e che non aveva mai comandato niente più che dei reparti di cavalleria e in effetti all'inizio della campagna gli assegna il comando della cavalleria che è già un incarico un po' sovradimensionato per una figura come quella di Grouchy però senz'altro non può vantare i titoli che avrebbe vantato un murat o che avrebbero vantato altri marescialli di Napoleone che però per una ragione o per l'altra alcuni erano anche morti in combattimento non erano disponibili la scelta di Grouchy è una scelta che però apre una questione importante nella catena di comando francese perché Grouchy è un maresciallo e si trova a essere uno dei tre marescialli che sono presenti nell'esercito durante la campagna del Belgio e quindi appena si libera un comando importante o appena c'è da assumere una posizione di rilievo potrebbe sembrare naturale affidarla proprio a Grouchy anche se sono presenti da Gerard a Van Damme dei comandanti di corpo che adesso magari comandano reparti un po' più piccoli ma che hanno comandato reparti importanti senza essere divenuti marescialli e quindi si creano anche dei motivi di attrito fra i vari comandi francesi perché sicuramente un generale come Gerard e poi lo vedremo proprio nella giornata di Waterloo quando né Gerard né Grouchy sono sul campo di battaglia vedremo che si arriva proprio al litigio fra le due persone ma dopo avere nominato i presenti sul campo di battaglia del Belgio e poi di Waterloo bisogna riferirsi anche agli assenti perché non sono quelli che ci sono a stupire ma sono quelli che non ci sono il fatto che Napoleone sembri evitare con cura di portare con sé i migliori ufficiali di cui dispone il migliore di tutti come tutti sanno fra l'altro è Davout Davout ministro della guerra che Napoleone decide di lasciare a Parigi ora secondo alcuni è Davout che non vuole partecipare alla campagna ma è abbastanza evidente che Davout è una persona così rigorosa così consapevole dei benefici che ha ricevuto dall'imperatore che molto difficilmente si tirerebbe indietro di fronte a una richiesta diretta di Napoleone Napoleone forse pensa di lasciare Davout a Parigi perché gli guardi le spalle non si sa comunque Davout uno dei pochi generali di Napoleone ad avere vinto da solo sicuramente battaglie importanti un tattico di grandissimo livello un comandante di cavalleria eccezionale erano tutti stupiti perché Davout era molto miope e una delle caratteristiche di un comandante di cavalleria è riconoscere il terreno perché chiaro una carica di cavalleria significa lanciare dei cavalli al galoppo e sbagliare il terreno rischia di fare spezzare le gambe ai cavalli o sbagliare la distanza rischia di far sì che i cavalli arrivino troppo stanchi e si fermino prima di avere raggiunto l'obiettivo della carica eppure nonostante fosse così miope Davout aveva uno sguardo sicurissimo anche in quelle cose e Davout fra l'altro era uno che aveva passato buona parte della sua carriera di comandante militare giusto in Prussia in Polonia da quelle parti quindi era il perfetto comandante dell'ala destra francese che avrebbe potuto opporsi in maniera superba ai prussiani senz'altro molto meglio di come sarà chiamato a fare in seguito Grouchy ma nell'elenco degli assenti bisogna mettere anche Souchet Souchet è un maresciallo è anche lui un maresciallo che ha un tratto unico perché Souchet si è guadagnato in Spagna il bastone da maresciallo in Spagna i francesi perdono quasi sempre tranne in due assedi nei quali ottengono grandi risultati uno lo vince Lan a Saragozza e l'altro invece è l'assedio che consente a Souchet di guadagnare il bastone da maresciallo ma Souchet prima di avere questo comando autonomo in Spagna aveva fatto per tutta la vita il capo di stato maggiore era stato il capo di stato maggiore di molti generali della rivoluzione alcuni generali della rivoluzione che poi erano stati concorrenti di Napoleone Giubbert questi qua avevano preteso di avere Souchet come capo di stato maggiore come condizione per accettare il comando che gli veniva assegnato e quindi c'era la persona maresciallo di Francia maresciallo dell'impero e esperto capo di stato maggiore perfetta per assumere il comando di stato maggiore era una persona fra l'altro molto affidabile quindi Napoleone non aveva ragione di dubitare di lui e invece gli affida un comando secondario sul fronte svizzero contro gli austriaci ora può essere interessante notare che sul fronte svizzero appunto nel comando che gli viene affidato Suchet si comporta esattamente impiegando la tattica che Napoleone vuole mettere in atto in Belgio infatti nonostante sia in inferiorità numerica Suchet passa all'offensiva e coglie anche qualche piccolo successo poi chiaramente si tratta di scontri minori di combattimenti di frontiera però questo conferma il fatto che Suchet non fosse affatto poco combattivo ma anzi fosse pienamente disponibile a fare al meglio il proprio dovere per l'imperatore e l'imperatore lo manda a combattere contro gli austriaci sempre contro gli austriaci va anche un altro generale che è Rapp lui non è maresciarlo fra l'altro non è diventato maresciallo anche perché ha conosciuto un periodo di come si può dire di allontanamento da corte di crisi un periodo di decadenza come importanza nel suo ruolo a corte lui ha conosciuto il suo grande momento di gloria come comandante di cavalleria ad Austerlitz perché nel momento centrale di Austerlitz quando si decide per la tenuta o meno del centro austro-russo dopo che la fanteria russa ha ceduto i russi impiegano la cavalleria della guardia per fermare la fanteria francese riescono a fermare la fanteria francese la fanteria francese si ritira e allora contro questa splendida cavalleria della guardia imperiale russa Rapp comanda dalla carica della cavalleria della guardia francese che vince e apre il centro nemico nel quale poi passa la fanteria il fronte russo si spacca in due la battaglia di Austerlitz praticamente è vinta quindi un grande comandante di cavalleria fedelissimo di Napoleone che alla fine della ritirata di Russia fra l'altro rimarrà intrappolato in una delle guarnigioni prussiane e si rifuserà di arrendersi per un sacco di tempo che forse non è diventato maresciallo anche perché si era espresso in maniera molto negativa rispetto all'idea di Napoleone di divorziare da Giuseppina aveva detto chiaramente che non gli pareva una buona idea e questo gli era costato l'allontanamento da corte però adesso è tornato tornato a servire l'imperatore Maria Luisa non c'è più e Napoleone affida anche a lui un comando un comando secondario un comando di fronte ad altri reparti austriaci avanzanti e anche Rapp farà la sua figura perché Rapp vince un piccolo scontro nel quale rimane neanche ferito che è considerato l'ultimo combattimento della storia napoleonica quindi anche lui siamo giorni e giorni dopo la battaglia di Waterloo ma i francesi continuano a combattere perché finire le guerre praticamente è difficilissimo e Rapp vince questo ultimo scontro napoleonico tutto questo per dire che Napoleone grande conoscitore di uomini capace di convincere praticamente tutti a fare quello che voleva lui seduttore nel senso più alto quindi veramente capace di parlare a ciascuno nel modo giusto e capace di scegliere come ha sempre dimostrato di fare che prepara un piano di battaglia lucidissimo considerato all'altezza dei suoi migliori di quelli giovanili della campagna d'Italia poi quando si tratta di scegliere i quadri che devono mettere in atto questo piano sembra che o inconsapevolmente o per qualche misterioso meccanismo del quale ci sfuggono assolutamente le ragioni scelga sempre le persone peggiori ma questa scelta sbagliata dei personaggi più inadatti compare praticamente nel racconto di tutti quelli che si sono occupati della battaglia di Waterloo e che tutti guardano con stupore il fatto che i francesi fossero così malcomandati e che poi il responsabile delle decisioni di a chi affidare i comandi fosse lo stesso Napoleone che in altre occasioni aveva saputo scegliere con una grandissima capacità erano tutte persone che Napoleone conosceva da anni e anni minimo da 10 15 anni e sulla carta è abbastanza chiaro che Sushet doveva essere il capo di stato maggiore Dovù doveva comandare l'ala destra l'ala sinistra doveva comandare Sul e se ci voleva un comandante di cavalleria Rapp era molto superiore a Grushy e da questo nasce così questa possibilità questo sospetto che Napoleone stesse creando probabilmente senza saperlo poi è sempre difficilissimo andare a scavare nei come oltre che nei perché ma sembra che Napoleone voglia dimostrare che il piano è perfetto e che c'è come un'ironia della sorte un caso che lo perseguita o comunque che lui stia cercando una situazione incomprensibile una situazione definitiva che sia un punto di chiusura assoluta di un'epopea ora questa forse è una è una cosa un po' psicologica però ci sono tracce di un sapore del genere relativo alla battaglia di Waterloo per esempio in Victor Hugo Victor Hugo dedica cento pagine dei miserabili alla battaglia di Waterloo e a un certo punto dice una cosa come è Dio che compare sul campo di battaglia e sconfigge Napoleone per quello così che possiamo dire noi c'è sicuramente il dato emergente è che il gruppo di persone scelte da Napoleone per comandare il suo esercito durante la campagna del Belgio è un gruppo di persone scelte in maniera abbastanza sbagliata come si è arrivato a maturare queste scelte non lo sapremo mai e per cui ci dobbiamo accontentare di questo gusto un po' della di una valutazione in termini di spettacolo in termini di narrazione in termini di ricerca dell'epopea quando ormai probabilmente Napoleone è consapevole che né scelte militari né scelte politiche gli sono più aperte per fatto sulle scelte politiche lui non era mai stato poi troppo bravo la sua diplomazia è una diplomazia che non lo porta mai a chiudere le situazioni lui non riesce a creare paci stabili anche quando sembra che quasi ce la faccia come con la Russia poi non riesce a tenerle insieme quanto dovrebbero essere tenute insieme gli sfuggono le dinamiche della politica e delle sue trasformazioni ma questa volta un generale come lui un uomo di guerra come lui probabilmente è consapevole che non c'è più niente da fare lui ha già combattuto nel 14 la cosiddetta campagna di Francia più o meno contro le stesse forze nemiche disponendo di forze francesi leggermente superiori a quelle che ha adesso secondo la valutazione degli storici militari la sua campagna di Francia del 14 è di livello militare elevatissimo lui riesce a cogliere una serie di successi assolutamente imprevisti coglie successi tali che lo spingono addirittura a rifiutare delle condizioni di pace quasi accettabili che gli venivano proposte nonostante che il suo ministro degli esteri colencur tentasse in tutti i modi di convincerlo che bisognava fare la pace che qualunque pace venisse offerta andava bene perché le cose non potevano che peggiorare ecco lui in quelle condizioni dopo avere combattuto al meglio ha perso le condizioni non sono cambiate ora Napoleone è sempre stato capace nella sua carriera di rovesciare la situazione strategica di svantaggio attraverso un grande successo tattico non c'è più lo spazio per farlo nel 14 ha ottenuto di seguito anche due o tre successi tattici rilevanti ha vinto delle battaglie però la superiorità del nemico era tale che l'esercito per esempio di Blucher che era stato battuto anche duramente dai francesi viene rifornito riceve rinforzi e nel giro di una settimana è praticamente allo stesso livello di efficienza di prima delle battaglie che Napoleone aveva potuto vincere quindi Napoleone probabilmente sa che dalla campagna del Belgio può aspettarsi una cosa sola ovvero il grande finale della sua avventura di cui ha bisogno quanto ne sia consapevole quanta carica di cinismo ci sia in quello che fa quanta carica di abbandono anche al destino certo ogni tanto capita anche a noi di avere quel gesto di stizza per cui si dice va bene come va va e in quelle condizioni uno anche forse preferisce circondarsi di persone alle quali è più abituato che circondarsi delle persone migliori certo sulle ne sono suoi compagni di di guerre da tantissimo tempo ma appunto per questo lui è consapevole dei loro limiti e li mette in una situazione che difficilmente può portare a un esito diverso da quello che sarà la sconfitta di vaterlò e siamo alla notte che precede l'inizio della campagna la notte del 14 giugno fra il 14 e il 15 giugno succedono due cose in quella notte due cose che denotano la situazione nel campo francese che è una situazione abbastanza strana c'è c'è qualche cosa che non va il comandante del terzo corpo francese che è quello più avanzato e quello che deve iniziare la manovra è il generale Van Damme e il generale Van Damme non ha ricevuto gli ordini perché perché Sul glieli ha spediti ma non utilizzando le tecniche che invece erano proprie di Berthier del suo predecessore del vecchio comandante dello stato maggiore di Napoleone poi anche la figura di Berthier è una figura tragica perché Berthier è andato con il re quando il re lascia Parigi Berthier è con lui lo segue fino a Gand però non si trova bene col re riceve delle lettere da Napoleone che insiste perché ritorni a fare il suo lavoro di prima poi è anche abbastanza strana questa situazione postale nella quale le lettere poi riescono a raggiungere anche i personaggi in questi momenti particolari e raggiungerli con consegna a mano Berthier non si trova bene a Gand perché Gand è una corte assolutamente monarchica e lui è stato uno degli uomini di punta del sistema di Napoleone per cui preferisce andarsene va a casa sua lui ha sposato una una nobile tedesca sta lì e la polizia del luogo comincia a controllarlo per cui succede una cosa che non è mai stata spiegata lui sale in cima a una torre del suo palazzo del castello dello Schloss dove sta e in lontananza stanno passando delle truppe russe non si capisce se va su per vedere le truppe che passano comunque casca di sotto e muore questo accade qualche giorno prima di Vaterlò lui non saprà mai della battaglia di Vaterlò e noi non sapremo mai se è cascato si è sporto troppo è caduto oppure come qualcuno ipotizza è stato addirittura assassinato perché si temeva che potesse poi decidere di tornare dal suo imperatore oppure altra possibilità che qualcuno avanza che si sia suicidato perché si è visto in una situazione nemmeno troppo onorevole per lui che a osservare le truppe russe che stanno andando a combattere contro il suo imperatore e il suo imperatore è qualche cosa di più di una semplice fedeltà Bertiera di estrazione nobile ma di piccolissima nobiltà aveva fatto il soldato tutta la vita addirittura aveva combattuto in America con la Fayette e poi era stato coperto di onori da Napoleone di onori e di danaro al di là di ogni immaginazione quindi che la sua mancanza al ritorno dell'imperatore e l'essersene andato al seguito del re fosse una cosa molto prossima a un tradimento è credibile e può darsi che Bertier che era considerato uno degli amici di Napoleone degli amici personali non abbia retto comunque lui non c'è c'è Soule Soule manda un solo aiutante di campo con gli ordini per Van Damme l'aiutante di campo nella notte si perde e gli ordini arrivano molto tardi e tutti poi commenteranno quelli che si sono occupati di questo che Bertier avrebbe mandati tre di aiutanti di campo per inviare questi ordini decisivi all'inizio di una campagna quando fra l'altro proprio all'inizio il personale per fare per svolgere questo tipo di attività non manca per cui Van Damme si muove in ritardo questo consentirà a Zitem di ritirarsi abbastanza in buon ordine di fronte dei francesi però nella notte succede anche un'altra cosa il generale Bourmont che è il comandante di una delle divisioni di Gerard annuncia che andrà a fare una ricognizione avanzata insieme al suo stato maggiore per cui supera la colonna della sua divisione ordina di fermarsi e avanza verso le linee prussiane insieme al suo stato maggiore fatti qualche centinaio di metri o forse qualche chilometro scomparso dalla vista dei suoi butta via la coccarda tricolore si mette la coccarda bianca e comincia a annunciare ai prussiani o non gli devono sparare perché sta passando dalla loro parte e viene praticamente portato fino al comando prussiano che è il comando di Blucher ora chi è questo Bournemont questo Bournemont era il comandante di una delle divisioni di Né quando era stato mandato a fermare Napoleone partendo da Besançon e quando i soldati si erano praticamente ammutinati o comunque Né aveva deciso di comandare lui l'ammutinamento dei soldati di passare dalla parte di Napoleone non aveva seguito Né ma si era ritirato in campagna dopodiché aveva non si sa se aveva cambiato idea forse aveva cambiato idea forse no forse gli era stato suggerito di farlo ma aveva chiesto a Né una lettera di presentazione per tornare in servizio con Napoleone Napoleone aveva ricevuto questa lettera di presentazione di Né prima ancora che Né venisse richiamato in comando una lettera di presentazione di Né insieme a una lettera di Gerard che diceva che Bormone era un bravo comandante che si poteva riprendere che era una persona della quale fidarsi anche in questa occasione quando la questione era arrivata a Davù ministro della guerra maresciallo Davù Davù aveva detto ma siamo pazzi a riprendere questo Bormone Bormone è un monarchico lo sappiamo probabilmente è tutto un trucco vuole carpirci una parte dei nostri piani per cui non lo riprendiamo e invece Napoleone anche questa volta grande conoscitore di uomini ma non desideroso di applicare questo suo talento in questa circostanza aveva ripreso Bormone e gli aveva affidato il comando di una delle divisioni di Gerard che era suo amico Bormone invece tradisce e arriva da Blucher l'incontro viene raccontato in forma di aneddoto però è interessante anche per capire il modo di pensare di Blucher e il modo di pensare dei prussiani perché quando arriva da Blucher Blucher lo tratta malissimo perché è un traditore e Blucher che è un soldato molto rigoroso ce l'ha con i traditori e allora c'è Gneisenau appunto il suo capo di Stato Maggiore il cosiddetto cervello di Blucher che gli dice ma no non è un traditore guardi ha la coccarda bianca sul cappello è un nostro alleato e Blucher risponde ma che coccarda è coccarda una carogna è sempre una carogna e però questi segni possono essere interpretati in maniera diversa il tradimento di Bourbon l'errore negli ordini mandati a Van Damme alcuni attributi all'esercito francese uno stato di tensione particolare e un diffuso timore del tradimento si pensa che i monarchici siano dappertutto e d'altra parte esiste sicuramente un livello di confusione a livello di Stato Maggiore che è eccessivo l'esercito francese è molto concentrato non dovrebbe essere un minimo problema trasmettere gli ordini nella fase iniziale la guerra non è ancora cominciata e già Sul non è capace di mandare gli ordini giusti comunque gli ordini arrivano Van Damme si muove insieme a Rey a Gerard a Derlon tutti i comandanti di corpo e la sorpresa è quasi totale il sistema di copertura che è stato organizzato dai francesi perché i loro movimenti non siano visibili ai nemici ha funzionato anche quando arriva Bournemont ormai può solo dire i francesi si stanno già muovendo e siamo di nuovo al fatto che una volta che la notizia arriva non basta alzare il telefono bisogna scrivere un ordine e mandare qualcuno a cavallo che arriva da Zitem che lo dice lo so già che i francesi si sono mossi perché sono già qua e io mi sto ritirando per cui la manovra ha un successo sostanzialmente buono i francesi avanzano i prussiani si ritirano i prussiani subiscono delle perdite e a quel punto c'è il problema da parte alleata di che cosa fare perché come rispondere all'offensiva francese probabilmente la cosa più normale da fare sarebbe ritirarsi contando sul fatto che tanto Napoleone non ha grandi speranze di vincere una campagna era stata una regola degli alleati nel 14 a un certo punto avevano deciso pare per consiglio di Bernadotte il re di Svezia di non affrontare mai Napoleone in battaglia loro sostenevano probabilmente a ragione che avanzando verso la Francia contemporaneamente lungo tre direttrici come stavano facendo i prussiani da nord gli austro-russi al centro e poi i russi da sud non occorreva affrontare Napoleone in una grande battaglia che magari lui poteva anche vincere ma bastava quando trovavano Napoleone tornare indietro intanto avanzavano lungo altre direttrici tanto Napoleone non era più che uno e la capacità dei francesi di concentrazione non era tale da poter affrontare tre eserciti nemici ma al massimo affrontarne uno e l'idea degli alleati era che non valesse la pena rischiare la battaglia la battaglia era sempre stata cercata da Napoleone la battaglia è lo strumento di Napoleone per vincere la guerra Napoleone in molte situazioni delle sue guerre in molte occasioni delle sue guerre si trova in situazioni strategicamente molto infelici per esempio Austerlitz è chiaramente uno di questi casi perché Napoleone si trova in Austria ha conquistato Vienna ma c'è ancora un esercito austriaco in Tirolo c'è l'esercito russo che appunto sta venendo su da nord sembra che anche la Prussia stia per entrare in guerra e la Prussia entrerà in guerra l'anno successivo fra l'altro dove ci sarà la campagna di Iena quindi è una questione di momenti Napoleone in una situazione strategicamente infelice attraverso la vittoria tattica della battaglia di Austerlitz capovolge la situazione Napoleone ha bisogno delle battaglie la campagna di Russia è anche la sua disperata ricerca di una battaglia e il fatto che la Moscova non sia una vittoria decisiva segna poi il rovescio nella campagna di Russia ma se fosse accaduto che alla Moscova l'esercito russo venisse annientato come sarebbe stato forse possibile Napoleone non avrebbe più avuto quasi alcun problema neppure in Russia neppure lassù sperduto dove era invece Kutuzov contro il parere dei suoi aiutanti decide di salvare l'esercito e di allontanarsi perché pensa ha ragione che la situazione strategica di Napoleone sia così svantaggiosa che permettergli di vincere davvero una battaglia potrebbe salvarlo mentre invece basta non fare niente poi Napoleone perde da solo quindi l'atteggiamento forse normale degli alleati sarebbe quello di ritirarsi lasciando Napoleone avanzi e non offrendogli l'occasione per la battaglia ora i due comandanti Wellington e Blucher non sono affatto di questo parere per Wellington è un discorso molto particolare perché si pensa che Wellington arrivi alla battaglia di Waterloo come grande generale inglese riconosciuto da tutti in realtà è sicuramente un generale stimato ma la carriera di Wellington comincia a Waterloo se quella di Napoleone finisce a Waterloo quella di Wellington comincia a Waterloo che da quel momento in poi Wellington si trasforma da generale in politico e si occuperà di diplomazia farà il primo ministro farà il ministro degli esteri è una persona che è in rapporti da quel momento in poi strettissimi con la famiglia reale per cui Wellington sta cercando anche un successo personale in più è cominciata l'epoca anche della stampa ci sono i giornalisti nel campo inglese molto meno in quello prussiano e Wellington è consapevole di giocarsi una partita importante sul piano personale se lui riesce a fermare Napoleone diventa una delle più grandi figure inglesi se si ritira semplicemente non è lui poi quello che sconfinge Napoleone dal canto suo Blücher invece è assolutamente desideroso di combattere contro i francesi e li vuole battere vuole dimostrare che è possibile batterli sembra poi che ci sia uno scambio di comunicazioni questo è uno degli aspetti meno chiari dei rapporti nei due comandi inglese e prussiano perché Blücher immagina di poter fermare i francesi a Ligny e si organizza per fermare i francesi a Ligny ma anche sulla pressione che gli viene da parte di Wellington il quale assicura di essere già in marcia anche lui verso Ligny per cui di essere in grado di sostenere i prussiani sull'ala destra e quindi di poter praticamente anticipare di due giorni quella che sarà poi la battaglia di Waterloo nella quale i prussiani e inglesi combattono abbastanza insieme insomma fin dall'inizio il gioco della campagna del Belgio è quello che ha impostato Napoleone Napoleone cerca di dividere i due eserciti nemici i due generali invece Blücher e Wellington cercano di rimanere uniti e di combattere insieme chiaramente per i prussiani tutto ciò è accettare grandi rischi perché Wellington li assicura di essere in arrivo con i rinforzi con gli inglesi ma intanto i prussiani devono tentare da soli di fermare Napoleone non sembra che tutti i collaboratori di Blücher fossero d'accordo nell'idea di tentare di fermare Napoleone a Ligny fra l'altro siamo vicini a Flerut come si diceva Flerut Ligny sono dei possimi francesi hanno già vinto altre battaglie contro eserciti più o meno tedeschi per cui non è neanche un posto fortunato per la tradizione militare prussiana ora il movimento dei tre eserciti è sostanzialmente quello previsto da Napoleone il quale quindi sposta la sua alla destra verso i prussiani ordina a Ney di dirigersi verso Cattrebra che è un incrocio stradale praticamente non c'è quasi nient'altro e con il centro con il centro o quella che Napoleone chiama la riserva composta sostanzialmente dalla vecchia guardia e si sposta in appoggio all'ala destra per affrontare i prussiani ora Cattrebra è importante è proprio un incrocio due strade che si incrociano quella che va da Charleroi a Bruxelles con un'altra strada che invece va da Nivelle a Namur adesso senza aver la carta sotto gli occhi non si capisce molto comunque la strada che va da Nivelle a Namur è la strada che costituisce l'unico collegamento possibile fra inglesi e prussiani perché altrimenti bisogna praticamente andare campi campi non ci sono più strade vere perché poi ci sono i fiumi ci sono i monti si tratta di un terreno molto molto più rotto molto più difficile da percorrere per cui la tenuta di Caterbra o la presa di Caterbra dalla parte dei francesi è importante per garantire che non ci sia questo collegamento e a questo punto praticamente tutto è pronto per la battaglia di Ligny perché in questa sorta di anfiteatro naturale che c'è attorno a Ligny si schierano i prussiani con l'intento di fermare i francesi la situazione a Caterbra invece è completamente diversa perché a Caterbra di fatto non c'è quasi nessuno c'è solo un reparto inglese al quale Wellington ha ordinato di ritirarsi per paura che rimanga malamente impegnato con i francesi però il comandante inglese il comandante sul posto intuisce che la posizione di Caterbra è troppo importante per essere abbandonata per cui decide di restare fermo a Caterbra e a questo punto Napoleone studia il piano di battaglia per la battaglia di Ligny e trasmette gli ordini per la battaglia di Ligny a ovviamente Sul che li deve distribuire cosa faccia Sul è un'altra di quelle questioni abbastanza misteriose perché in realtà una serie di reparti francesi non viene coinvolta nella battaglia mentre si prepara quella cosa complicatissima che è il caso Derlon perché il piano di Napoleone sostanzialmente consiste nel mandare né a occupare Caterbra con il corpo di Rey poi con Van Damme Lobau e Gerard attaccare il centro dei prussiani e ligny mentre il corpo di Derlon che apparterrebbe all'ala sinistra deve sganciarsi dall'ala sinistra e fare sostanzialmente una marcia di aggiramento alle spalle dei prussiani in modo da tagliare loro la ritirata nell'idea Napoleone tranquillo di riuscire a mettere in fugo o comunque a costringere i prussiani a ritirarsi e in questo modo si vedrebbero tagliata la ritirata da Derlon e potrebbero subire quelle perdite pesantissime che Napoleone intende infliggere loro e spera di infliggere loro a questo punto prima di iniziare a vedere che cosa succede nella battaglia di Ligny si può forse fare un piccolo calcolo di quanti sono i soldati presenti a Ligny e si vede che Blucher dispone adesso prendiamo le cifre di David Chandler che è considerato uno dei maggiori storici militari e soprattutto un esperto di Napoleone e in particolare un esperto anche della battaglia di Waterloo e comunque della campagna del Belgio e secondo Chandler Blucher dispone di 84.000 uomini e di 224 cannoni mentre Napoleone ne ha 68.210 cannoni apparentemente il vantaggio è tutto dalla parte dei prussiani però questa è una cosa che abbiamo già detto altre volte la qualità dell'esercito francese è superiore alla qualità proprio come truppe come ufficiali come artiglieri soprattutto come artiglieri e poi i francesi dispongono anche sicuramente di una cavalleria migliore Napoleone ha anche la guardia oltre ai corpi di Van Damme e di Gerard la battaglia di Ligny è un'altra di quelle battaglie che cominciano abbastanza tardi come comincia abbastanza tardi la battaglia di Caterbra che è il combattimento parallelo all'Igny Caterbra è uno scontro che rimane abbastanza inspiegabile perché Neh riceve più volte ordini pressanti di occupare Caterbra ma Neh si porta dietro due cose uno il fatto è probabilmente un uomo fisicamente distrutto Neh ha fatto la campagna di Russia e spesso comandava la retroguardia una volta addirittura se l'erano perduto insieme a 4.000 uomini e lui riesce a tornare organizzando un trucco contro i russi fa accendere tutti i fuochi poi dopo aver acceso i fuochi si incamminano nella notte la neve la Russia una cosa pazzesca tornano in 2.000 di 4.000 però quelle almeno tornano e si ricongiungono con i francesi per cui è un uomo abbastanza allogorato non è un uomo troppo intelligente sicuramente e poi non ha capito che cosa deve fare anche lì clamoroso limite evidentemente di stato maggiore e anche scarsa iniziativa perché sicuramente ne riceve più volte l'ordine di prendere Caterbra ma aspetta a organizzare l'attacco così tanto tempo che quando finalmente comincia ad attaccare con decisione ormai Caterbra è piena di inglesi perché Wellington si è ricreduto ha dato ragione al suo subordinato e ha cominciato a mandargli rinforzi man mano che si avvicinavano i francesi quindi all'inizio della giornata del 16 i francesi sono in grande vantaggio numerico a Caterbra ma non attaccano con determinazione addirittura in serata è arrivato Wellington in persona e sono più gli inglesi dei francesi ci sono un sacco di morti ma non succede niente alla sera Caterbra è ancora in mano inglese sembra che il piano di Napoleone funzioni perché il 16 giugno i prussiani si schierano a battaglia per fermare l'avanzata dei francesi in Belgi i prussiani pensano di avere una posizione abbastanza solida Wellington stesso si presenta da Blucher al comando di Blucher assicurandogli che sta tentando di arrivare però non è molto convinto che il posto scelto dai prussiani sia quello giusto comunque comincia la battaglia Napoleone ha studiato un piano sostanzialmente impeccabile perché ha una superiorità qualitativa notevole rispetto all'esercito prussiano che noi pensiamo all'esercito prussiano come quello di Federico II o a quello che è questo immaginario dei tedeschi grandi soldati all'inizio dell'ottocento non è così la stagione dei grandi soldati tedeschi ha il breve periodo di Federico II e poi ha un immaginario legato tutto all'ottocento alla Prussia di Bismarck poi in qualche modo alla determinazione delle guerre mondiali però poche sono le vittorie dei tedeschi in realtà siamo ancora nella stagione dei grandi soldati francesi e forse dei grandi soldati russi Napoleone ha una leggera inferiorità numerica ma appunto il vantaggio qualitativo è tale che è sostanzialmente sicuro di riuscire a mettere in ritirata almeno se non proprio in fuga i prussiani però lui ha una carta che gioca di nascosto la carta consiste nel fatto che la sua alla sinistra si trova più a ovest dello schieramento prussiano per cui il corpo di Derlon che sono più di 10.000 uomini ha lo spazio per passare in mezzo al corpo all'esercito prussiano schierato a battaglia è quello inglese che è più lontano di come Blucher creda per arrivare praticamente alle spalle dell'esercito prussiano per cui se come pensa Napoleone e come poi si dimostrerà nei fatti lui riesce a costringere alla ritirata i prussiani può arrivare in tempo Derlon e tagliare sostanzialmente la loro via di ritirata in modo da trasformare quello che è una sconfitta però una ritirata che sono eventi della guerra proprio in una rotta e quindi nel collasso dell'esercito prussiano rispettando poi quello che è il progetto originario di Napoleone battere prima i prussiani e poi rovesciare completamente il fronte francese verso gli inglesi e battere anche gli inglesi trovandosi in tutte le occasioni con un vantaggio che gli viene dato più che dal numero proprio dalla qualità dei soldati di cui dispone e anche qui scatta qualche cosa nel sistema di comando francese scatta qualche cosa di assolutamente negativo perché gli ordini che riceve Derlon sono degli ordini assolutamente contraddittori il corpo di Derlon appartiene all'ala sinistra francese e quindi dipende gerarchicamente Danè che sta combattendo all'ala sinistra e che ha l'incarico di conquistare il bivio di Caterbra dal quale potrebbero provenire gli inglesi a sostegno dei prussiani però Napoleone ha previsto nel suo piano di campagna che a seconda delle circostanze una parte delle due ali alla destra e alla sinistra deve accorrere in soccorso del centro e dell'altra ala in modo da garantire sempre quel vantaggio notevole che lui può assicurarsi in questo modo sia sui prussiani che sugli inglesi ora cosa succede la battaglia di Ligny è la classica battaglia napoleonica del periodo finale nel senso che Napoleone fino forse a Ilau a Friedland possiamo dire fino a Tilzit nella prima parte delle campagne dell'impero si trova di fronte degli avversari che pensano di manovrare contro di lui l'esempio più classico è quello di Austerlitz ad Austerlitz gli austro-russi concepiscono la battaglia come un gigantesco aggiramento dell'esercito francese sulla sinistra in modo da tagliargli la strada verso Vienna e immagino di tagliargli anche la via di ritirata e sostanzialmente di distruggerlo Napoleone capisce tutto in anticipo anzi sguarnisce la sua ala destra in modo da favorire questo movimento degli austro-russi li attacca al centro nel momento decisivo colto con il suo sguardo di tattico eccezionale sfonda il centro degli austro-russi che si stanno muovendo e li sconfigge in maniera decisiva il movimento contro Napoleone viene via via abbandonato dai generali che si trovano ad affrontarlo i quali invece basano sempre il loro impianto tattico il loro piano di battaglia sullo stare fermi sull'aggrapparsi al terreno in modo da impedire ai francesi di sviluppare quella loro maggior capacità di comprensione di quello che succede perché anche lì noi quando guardiamo così la storia di queste battaglie vediamo delle rappresentazioni grafiche o a volte vediamo anche dei film è stato fatto anche qualche bel film nel quale si racconta che cosa succede durante una battaglia ora capire durante la battaglia stessa che cosa stesse succedendo è difficilissimo perché gli avvenimenti sono contemporanei sono lontani anche quest'idea di un generale che è in cima a una collina o su un mulino come poi accade a Napoleone per esempio ad Auselitz di un generale che col canocchiale guarda cosa succede decide cosa fare è è sostanzialmente falsa le battaglie erano combattute molto col cannone molto col fucile e si sparava con la polvere da sparo non con gli esplosivi che ci sono adesso non con la cordite che quasi non fa fumo all'inizio qualcosa si vede qualcosa si capisce poi ci sono i boschi ci sono i monti c'è tutto ma quando si comincia a sparare un fumo comincia a coprire tutto il campo di battaglia e non si vede niente nei film siamo anche abituati a vedere dei soldati molto indivisa e molto riconoscibili ma capire chi sia chi da lontano anche col canocchiale è molto difficile le bandiere servono anche a questo hanno la doppia funzione di dire al reparto agli uomini che compongono un reparto dove devono stare rispetto alla bandiera che è il punto di riferimento per lo schieramento dell'intero reparto ma anche far capire da lontano chi è quel reparto in modo che uno che riesce a scorgerlo con un canocchiale da lontano capisce di chi si tratta ma anche capendo di chi si tratta la difficoltà è anche dirgli cosa fare perché per dirgli state fermi andate avanti attaccate o non attaccate bisogna arrivare lì a cavallo con un biglietto che viene consegnato al comandante la bandiera serve anche perché il comandante di solito è vicino alla bandiera e chi gli porta un ordine così lo trova in una situazione nella quale ci si sposta ci si spara può succedere di tutto e inoltre questi movimenti non hanno quella semplicità dello spostamento dei soldatini che uno con le mani sul piano di gioco sposta i soldatini si tratta di movimenti di migliaia di uomini a volte decine di migliaia di uomini spostare organizzare un attacco che preveda lo schieramento e lo spostamento di qualche migliaio di uomini o addirittura di decine di migliaia di uomini alla voce cioè senza poter dare gli ordini in maniera diversa che appunto con la voce o col tamburo col corno di cavalleria nel caso della cavalleria è complicato praticamente la battaglia napoleonica è anche una gigantesca coreografia è una gigantesca coreografia nella quale si rischia la pelle ora se è complicato muovere un corpo di ballo che deve solo fare dei movimenti è abbastanza più complicato muovere decine di migliaia di persone sulle quali si sta sparando quindi la capacità di comprensione di quello che accade e di esecuzione delle manovre dei francesi è molto superiore di quella dei loro avversari che si trovano di fronte nel periodo napoleonico è superiore perché hanno fatto più guerre perché Napoleone poi dispone di questo colpo d'occhio che gli dà questa capacità quasi di sintesi di tutto un insieme di notizie che gli arrivano che vanno cronologizzate perché se arriva un messaggio a cavallo da parte di un reparto che è lontano quel messaggio può essere partito anche un'ora prima e bisogna capire che quel messaggio appartiene a un tempo diverso e calcolare che evoluzione c'è stata da quel momento ora Napoleone è molto capace di fare questo i suoi avversari molto meno ma non sono completamente stupidi capiscono di trovarsi in una situazione di inferiorità dal punto di vista della manovra e della comprensione di quello che succede per cui si attrezzano per combattere delle battaglie sostanzialmente difensive la battaglia di Ligny è una battaglia assolutamente difensiva combattuta dai prussiani e qual è il sistema che sviluppa Napoleone per sconfiggere questi nemici posti assolutamente in difesa è un sistema che si basa sull'ogoramento e sulla capacità di assorbire le riserve nemiche durante la battaglia conservando le proprie e durante la battaglia di Ligny Napoleone riesce in questa tecnica perché con una serie di assalti di attacchi molto duri dei francesi che si sviluppano prima sulla sinistra poi sulla destra comunque impegnando via via e assorbendo riserve prussiane sulla prima linea alla fine Napoleone si trova a disporre della sua guardia sostanzialmente che è stata tenuta in riserva con la quale può vibrare dopo anche lì si tratta del suo colpo d'occhio lui si trova nelle condizioni di sviluppare un attacco su un punto preciso dello schieramento prussiano sapendo che ormai i prussiani non possono più mandare delle riserve a bloccare i francesi se riescono a sfondare per cui se lui individua il punto giusto dove vibrare il colpo è abbastanza sicuro di sfondare lo schieramento prussiano la battaglia arriva a questo punto a questo momento di svolta e Napoleone ordina di preparare la guardia ad attaccare in quel momento compaiono alle spalle dell'esercito francese delle masse di fanteria e siamo verso le 4 del pomeriggio compaiono delle masse di fanteria alle spalle dell'esercito francese chiaramente non si può lanciare un attacco se hai qualcuno dietro e non sai chi è e qui ci sono delle responsabilità perché di chi si tratta chi è che compare alle spalle dell'esercito francese e non si sa perché e nessuno sa chi è si tratta di Derlon perché questo corpo di Derlon malissimo diretto un po' per colpa di Derlon probabilmente ma Sul non gli ha dato degli ordini giusti né l'ha richiamato a Cattrebran non sentendosi sicuro della forza di cui dispone per cui il comando francese nel suo complesso ma nella responsabilità del suo capomaggiore Sul non ha saputo coordinare il movimento di Derlon come non ha saputo coordinare il movimento dell'altro corpo che è quello di Lobot che sono fuori dalla battaglia mentre quello di Lobot è fuori dalla battaglia è quello di Derlon che ha marciato verso Cattrebran che ha ricevuto l'ordine di tornare verso Ligny ma non verso Ligny alle spalle dell'esercito francese doveva andare alle spalle dell'esercito prussiano secondo il piano di Napoleone invece compare alle spalle dell'esercito francese quel punto forse potrebbe servire se arrivasse almeno sul campo della battaglia ci sarebbe forse ancora il tempo per farlo intervenire però improvvisamente questa massa di fanteria che è comparsa dietro le spalle dei francesi si gira e si allontana e quello è un altro dei momenti un po' inspiegabili della battaglia inspiegabili poi quando vengono raccontati quando si scopre cosa è successo è successo che Derlon ha ricevuto un ulteriore controordine da parte del suo superiore gerarchico che è Ne che gli dice di tornare verso Catebra per cui nella giornata delle due battaglie contemporanee importantissima quella di Ligny importante di quella di Catebra una parte considerevole dell'esercito francese probabilmente più del 10% dell'esercito francese si sposta come un pendolo fra Catebra Ligny di nuovo Catebra senza intervenire su nessuno dei due campi di battaglia e addirittura ritardando l'attacco decisivo dei francesi a Ligny il ritardo non è lunghissimo però sicuramente un'ora forse di più e questo significa che un'ora di luce si perde per quello che sarà poi l'inseguimento perché Ligny è una giornata strana che viene raccontata anche in maniera diversa comunque sembra che Ligny sia una giornata non di sole ma di nuvole fra l'altro nei giorni successivi comincerà a piovere davvero e c'è questo racconto dell'attacco della guardia francese che probabilmente un po' così mitologizzato descrive questo momento nel quale praticamente si aprono le nuvole e con tutte le bande le fan fare la guardia attacca la guardia attacca i francesi hanno un uso di attaccare gridando e facendo rumore e ci hanno tutte queste bande per sostenere psicologicamente i soldati che attaccano e il sole arriverebbe a illuminare questi ottoni che luccicano insomma una scena quasi così quasi biblica nella quale i francesi attaccano sfondano la prima linea prussiana i prussiani non hanno più riserve Blucher stesso comanda di persona una carica per fermare i francesi i francesi dispongono di cavalleria e possono fare una controcarica Blucher stesso cade da cavallo rimane a terra rischia di essere catturato dai francesi i suoi aiutanti di campo lo nascondono praticamente sotto un mantello perché se i francesi lo trovano e catturano il generale prussiano probabilmente l'esercito prussiano subirebbe un colpo tale da non potersi riprendere però la linea prussiana viene sfondata devono ritirarsi cominciano a ritirarsi e riescono a ritirarsi in buon ordine come mai i prussiani si ritirano in buon ordine e i francesi non riescono a trasformare una ritirata in una rotta questo è un'altra dei problemi poi della guerra i prussiani sono più numerosi dei francesi i francesi sono stanchi hanno combattuto tutto il giorno e poi forse comincia a comparire un'altra inefficienza una doppia inefficienza dopo che Sul non è riuscito a concentrare sul campo di battaglia tutte le forze francesi dopo che è stato il responsabile oggettivo del via vai di Derlon perché quando si parla di Derlon che ovviamente questo caso di Derlon è stato trattato in tutti i modi addirittura ci si domanda se l'ordine che ha ricevuto di tornare verso Ligny fosse un ordine verbale o scritto si è andati in cerca di questo ordine scritto perché con in mano un ordine scritto da parte non si sa se di Sul o addirittura di Napoleone Derlon avrebbe dovuto seguire l'ordine scritto che aveva ricevuto e non il contrordine che riceve da Ne comunque sicuramente se Derlon doveva restare sotto il comando di Napoleone verso Ligny era Sul che glielo doveva dire che non doveva più impartire ordini a Derlon ma comunque mentre Ne e Sul commettono questi errori c'è il fatto che il comandante della cavalleria che è l'arma preposta proprio predisposta per effettuare gli inseguimenti è Grouchy e i francesi al termine della battaglia restano sostanzialmente fermi non c'è un inseguimento deciso dei prussiani e quindi i prussiani riescono più o meno ad allontanarsi non solo riescono ad allontanarsi riescono anche a effettuare una cosa più complicata perché la notte si ritirano nella notte ormai quell'ora persa aspettare di capire chi fosse la massa di fanteria che era alle spalle dei francesi scompaiono nella notte perché non solo manca l'inseguimento ma manca è anche la ricognizione e qui siamo a cercare delle responsabilità non siamo noi siamo noi in quanto curiosi del passato quindi c'è una ricerca sulle responsabilità di questo fermarsi dell'esercito francese che dipende anche dal fatto che Napoleone ha ben chiaro che dopo avere battuto anche se non in maniera definitiva i prussiani adesso si tratta di affrontare gli inglesi quindi chi si può distaccare a inseguire i prussiani quanti possono andare verso est dietro i prussiani invece che verso ovest e come organizzare questo inseguimento e nel frattempo come dicevamo si è svolta la battaglia di Caterbra questa battaglia di Caterbra è un insuccesso notevolissimo dei francesi ne ha atteso tantissimo prima di attaccare e questa attesa è costata ai francesi il vantaggio numerico perché se all'inizio della mattina proprio all'alba il vantaggio francese era enorme addirittura a sera è arrivato Wellington in persona gli inglesi sono di più quindi Ne è responsabile di non essere riuscito a guadagnare la posizione che è una posizione rilevante perché consente ancora un qualche collegamento almeno a livello di ordini e di comunicazioni fra i due comandi inglese e prussiano e ha dimostrato una scarsa propensione inoffensiva che stupisce moltissimo stupisce moltissimo ma può essere così compresa se non interpretata sulla base del fatto che Ne non ha esperienze di combattimento contro gli inglesi e le voci che circolano sul modo di combattere degli inglesi e circolano nell'esercito francese che vengono dalle esperienze della Spagna lo spaventano si tratta di affrontare nemici che non conosce ha paura delle trappole tattiche che gli inglesi sono soliti organizzare per cui è molto timoroso ad attaccare certo rimane il fatto che lui non raggiunge se non in tardissima mattinata la località dove dovrebbe sferrare l'attacco e quindi il suo ritardo è anche un ritardo oggettivo non solo sulla base di scelte soggettive sul terreno ma oggettivamente è molto lento nel eseguire gli ordini che gli vengono impartiti sui quali viene sollecitato anche più volte da Napoleone stesso comunque la sera di Ligny i francesi sono vincitori la loro manovra può proseguire e gli inglesi dopo avere tenuto il bivio di Cattrebra per tutta la giornata sono costretti a ritirarsi verso la posizione che Wellington ha già ispezionato e ha scelto e che è praticamente l'unico posto sulla strada verso Bruxelles nella quale è possibile di spiegare tutto l'esercito inglese in modo da tentare di fermare i francesi come avevano tentato i prussiani a Ligny adesso viene il turno dei francesi e come si comportano i francesi la sera di Ligny e i giorni successivi si comportano sicuramente in modo molto strano perché secondo il giudizio di tutti gli osservatori l'esercito francese vive come una situazione di paralisi si si blocca ora questo dipende anche da un fatto climatico e comincia a piovere il giorno 17 che è il giorno che precede la battaglia di Waterloo il 16 si combatte Ligny il 17 c'è lo spostamento dell'esercito francese verso gli inglesi e il 18 si combatte la battaglia di Waterloo in questa giornata del 17 piove moltissimo e questo viene ritenuto comunemente un grosso vantaggio per gli inglesi perché è più facile ritirarsi che inseguire soprattutto la cavalleria si muove con grandi difficoltà e cioè perde il vantaggio di mobilità rispetto alla fanteria perché nel pantano i cavalli si muovono più o meno alla velocità degli uomini e la superiorità di cavalleria francese quindi non può pesare e soprattutto la fase di inseguimento avviene malamente in termini di lentezza esiste tutta una storia praticamente del rapporto fra Grouchy e Napoleone nella mattina del 17 che è abbastanza significativa della disorganizzazione che esiste all'interno del comando francese la teoria generale è che Grouchy si trova a non sapere che cosa fare e cerca per tutto il giorno di riuscire a farsi dare degli ordini da Napoleone Grouchy comandante della cavalleria francese non si preoccupa di inseguire il nemico battuto ma si preoccupa di ricevere invece degli ordini da Napoleone è un'altra di quelle situazioni che vanno praticamente contro la storia dell'esercito francese fino a quel momento perché di solito dopo le battaglie Napoleone doveva trattenere per esempio Murat dall'inseguimento il comandante della cavalleria francese di solito di solito era Murat il comandante della riserva di cavalleria francese che si lanciava in questi inseguimenti allora Napoleone doveva trattenerlo richiamarlo farlo cercare per spiegargli che invece magari c'era qualcos'altro da fare Grouchy invece rimane immobile sul campo di battaglia sotto l'acqua battente fra l'altro e sembra che verso mezzogiorno finalmente verso il mezzogiorno del 17 riesca a trovare Napoleone e a farsi ricevere da lui perché vuole ordini vuole ordini come abbiamo detto Grouchy non è sicuramente un comandante che ha delle capacità di comando autonomo e è molto timoroso di non fare quello che deve o di fare quello che non deve per cui vuole degli ordini e alla fine li riceve questi ordini e sono degli ordini abbastanza coerenti con il progetto di Napoleone ma lui non li capisce non si capiscono le istruzioni poi successive che riceverà da Soule in alto dei responsabili del disastro francese non sono nemmeno quelli chiari per cui Grouchy si trova a comandare un terzo dell'esercito francese 40.000 uomini un comando che lui non ha mai avuto in quelle proporzioni un comando autonomo e l'ordine che gli dà Napoleone è di inseguire i prussiani sembra che Grouchy commenti l'ordine che riceve ma come faccio possono avere preso dieci strade diverse dopo avrà un'altra comunicazione da parte di Soule che gli ordina di raggiungere Vavre lì c'è proprio una incomprensione clamorosa perché Grouchy sembra non capire niente del piano di battaglia del piano di campagna più che altro di Napoleone l'ordine di andare a Vavre che gli viene dato da Soule dovrebbe avere la chiarezza del fatto che lui deve arrivare a Vavre prima dei prussiani non dopo i prussiani ovvero che il compito di Grouchy è quello di interporsi fra i prussiani e gli inglesi per cui prima c'è questa cosa dell'inseguimento poi c'è questa cosa di Vavre e Grouchy interpreta sempre in senso assolutamente letterale gli ordini che riceve e non ne coglie il senso strategico per cui dopo aver vagato un po' senza riuscire a individuare i prussiani si dirige verso Vavre dove peraltro stanno andando anche i prussiani che però sono in vantaggio ora la decisione dei prussiani di non ritirarsi verso est come Napoleone doveva avere sperato ma di ritirarsi verso nord tentando di tenere aperto il collegamento con l'esercito inglese è una decisione che sembra sia stata molto sofferta perché mentre la ritirata verso est garantiva l'integrità dell'esercito prussiano lo spostarsi invece verso nord praticamente lo metteva di fronte alla rinuncia o comunque all'esposizione delle linee di collegamento verso est quindi della linea naturale di ritirata dei prussiani però conoscendo Blucher che assolutamente voleva battere Napoleone e assolutamente si fidava del fatto che Wellington intendeva combattere e non intendeva ritirarsi questo diventa comprensibile sembra che addirittura Gnese Now il capo di stato maggiore di Blucher fosse più favorevole a una ritirata verso est però c'è anche questo racconto della figura appunto di Gnese Now che dopo la battaglia è il capo dell'esercito prussiano perché come vi ho detto Blucher addirittura era cascato da cavallo aveva rischiato di essere catturato dai francesi aveva perso la possibilità di comandare direttamente il suo esercito dicevo c'è questo racconto di Gnese Now che nelle retrovie dell'esercito prussiano in ritirata impartisce questi ordini di ritirata che vanno verso nord verso nord in modo da ritirarsi in parallelo rispetto agli inglesi che invece si stanno ritirando da Cattrebras piove come dicevamo piove addirotto per tutta la giornata e finalmente la notte la sera tardi del 17 i francesi trovano gli inglesi che si stanno schierando in una località che si chiama Mont Saint-Jean poi la parola Waterloo la scelta del nome della battaglia sarà un altro problema piccolo problema che verrà risolto da Wellington che sta cercando anche dopo avere vinto alla prontezza di individuare il nome da segnare alla battaglia e come si sa è una sorta di tacito diritto del vincitore lui vuole un nome che suoni bene in inglese e comunque la sera del 17 c'è questo incontro a Mont Saint-Jean che è una sorta di doppio anfiteatro naturale c'è un fiume che passa in mezzo e dalle due parti su queste leggere colline dalla parte nord si schiera l'esercito inglese e dalla parte sud si schiera l'esercito francese e questa battaglia questa preparazione della battaglia è una preparazione di una grande lentezza che viene attribuita alla pioggia per cui le condizioni di assoluto disagio nelle quali si muovono i soldati si sono sempre mossi i soldati ma fino al periodo moderno le condizioni erano veramente tremende sostanzialmente anche se qui siamo per fortuna di chi c'era lì in giugno quindi non fa particolarmente freddo però comunque siamo in giugno in Belgio piove e ci sono questi due eserciti che trascorrono la notte fra il 17 e il 18 praticamente bagnati fradici nel tentativo un po' di rifocillarsi arrivati a Mont-Saint-Jean al luogo nel quale con ogni evidenza si sarebbe combattuta la battaglia si fanno appunto i preparativi per combatterla Wellington anche lui come già era capitato a Blucher ma come era capitato anche ai russi alla Moscova imposta tutta una battaglia sulla difensiva c'è l'episodio dell'incontro fra Wellington e il suo vicecomandante e il vicecomandante di Wellington gli chiede le istruzioni per il giorno successivo come pensa di sviluppare la battaglia e Wellington gli dice e cominciamo a sparare cerchiamo di resistere senza altri progetti ulteriori Wellington non pensa di combattere una battaglia manovrata pensa di fermare i francesi perché l'obiettivo poi degli alleati è impedire ai francesi di continuare ad avanzare non occorre una vittoria clamorosa basta bloccare l'avanzata dei francesi e bloccare l'avanzata dei francesi significa quasi automaticamente consentire ai due eserciti di riunirsi e quindi di conseguire quel vantaggio numerico del quale dispongono in una maniera tale da essere sicuri di battere i francesi poi la campagna di Napoleone è organizzata appunto per sbarazzarsi della presenza di questi due eserciti a nord della Francia quindi sostanzialmente esiste l'accordo sulle due parti nel combattere la battaglia e Napoleone in teoria dovrebbe anche essere abbastanza sicuro di vincerla la sua battaglia finalmente gli viene concessa di nuovo dopo parecchi anni quella che potrebbe essere una battaglia decisiva in realtà è una battaglia decisiva in una direzione sola perché se Napoleone perde ha perso tutto se perdono gli inglesi hanno perso una battaglia ma tante volte è capitato agli inglesi di perdere o direttamente o per interposta persona una battaglia contro Napoleone poi hanno continuato la guerra il vantaggio strategico degli alleati è così incommensurabile che come andranno a finire le cose si sa la speranza che ha Napoleone di rompere politicamente questo fronte è una speranza praticamente inesistente Napoleone arriva a Montsenjean e si trova nella situazione di dover prendere una decisione abbastanza importante che è quando scatenare l'attacco contro gli inglesi quando far cominciare questa battaglia e a quel punto i comandanti dell'artiglieria francese fra l'altro c'è una figura leggendaria che è quella di Druoh comandante dell'artiglieria della guardia che è un grande tecnico dell'artiglieria e viene soprannominato il filosofo dell'armata è uno di questi personaggi assolutamente rigorosissimi si potrebbe dire che poi dopo che ha seguito l'imperatore all'elba e che lo stesso verrà processato per tradimento non si capisce bene di chi e che accetterà di venire processato senza lamentarsi senza scappare come pure gli verrà offerto ma accettando il processo la decisione del processo al quale ovviamente viene assolto perché era uno che non aveva mai giurato al re anzi era andato con Napoleone all'elba insieme a Cambron insieme a questi mille uomini della vecchia guardia seguono Napoleone all'elba che poi lo accompagneranno nel volo dell'Aquila nel suo rientro a Parigi però Druoh deve dire a Napoleone che il terreno è troppo pesante per il tiro dell'artiglieria nel senso che i cannoni all'epoca hanno anche dei proiettili esplosivi ma sostanzialmente sparano a palla piena cioè sono come dei grandissimi fucili che sparano queste grosse palle di ferro che vengono sparate a tiro teso perché anche dopo aver toccato terra si prevede che rimbalzino e continuando a rimbalzare praticamente ammazzino i soldati nemici come i birilli ora se c'è il fango la palla non rimbalza ma si interra praticamente si infila dentro il fango e quindi l'efficacia del tiro dell'artiglieria viene molto ridotta e sulla base di questo riescono a convincere Napoleone a ritardare l'attacco contro gli inglesi e a permettere siccome poi la mattina del 18 non piove a permettere al terreno un po' di rassodarsi e questo è uno dei motivi per i quali poi i francesi perderanno la battaglia perché la cominciano tardi ora anche lì col senno di poi è facile dire che si tratta di un errore che ai francesi converrebbe cominciare la battaglia subito fango non fango perché stanno arrivando i prussiani ma il fatto che i prussiani stiano arrivando che Grouchy non riesca a fermarli che Grouchy non abbia nemmeno capito bene che il suo compito è quello di interporsi fra i prussiani e gli inglesi queste sono tutte cose che sappiamo adesso al momento di decidere quando scatenare l'attacco la decisione poi è quella di consentire appunto al terreno di rassodarsi un po' per poter utilizzare meglio l'artiglieria va considerato che anche a Waterloo il rapporto di forze numericamente non è così favorevole ai francesi il vantaggio francese qualitativo e uno dei maggiori vantaggi qualitativi è sull'artiglieria perché i francesi sono maestri nell'uso dell'artiglieria e ne hanno anche sviluppato il suo impiego tattico nel senso che mentre l'esercito inglese è organizzato in maniera molto antica con i cannoni distribuiti sui vari reparti i francesi già utilizzano il concentramento dell'artiglieria la massa d'artiglieria hanno fatto da gran batteria che hanno cominciato a schierare per esempio a Vagram concentrando a un certo punto quasi 100 cannoni che poi sfondano lo schieramento austriaco in quell'occasione o anche alla Moscova l'uso dell'artiglieria è praticamente uno dei cardini del sistema di combattimento dei francesi quindi trovarsi in una situazione in cui l'artiglieria si può usare con difficoltà è sicuramente un dato di svantaggio bisogna ricordare però che in tutta la campagna di Francia del 1814 si è combattuto nel fango e i cannoni hanno sparato lo stesso e i francesi sono riusciti parecchie volte a vincere comunque la decisione è quella di aspettare mezzogiorno in modo da poter disporre al meglio del proprio vantaggio d'artiglieria quindi il piano di battaglia di Napoleone è abbastanza semplice che possiamo dire è lo stesso di quello di Ligny l'idea è di impegnare progressivamente tutte le forze di cui Wellington dispone mantenendo una forte riserva di fanteria francese una volta che l'esercito inglese sia logorato e impegnato in maniera sufficiente a giudizio di Napoleone secondo il suo colpo d'occhio i francesi avrebbero sia una massa di fanteria da poter lanciare all'attacco in quello che può essere giudicato in quel momento il punto debole dello schieramento inglese sia il loro grande vantaggio di cavalleria anche la cavalleria in realtà ha bisogno di un terreno che non sia troppo pesante per potersi muovere quindi contando sia sulla massa di cavalleria che su una forte riserva di fanteria a quel punto è facile ma è facile a quel punto è ragionevole e molto credibile che Napoleone e i francesi riescano a sfondare lo schieramento nemico e con questo impianto tattico elementare e però anche molto collaudato fra l'altro due giorni prima aveva funzionato abbastanza alla perfezione e in più il fatto che Wellington si schiera con un bosco alle spalle il bosco è abbastanza rado però la ritirata nel bosco non è affatto una cosa semplice si cita una frase di Napoleone che appunto rispetto allo schieramento di Wellington dice Wellington non ha letto Cesare non ci si schiera mai con un bosco alle spalle comunque questa era la valutazione di Napoleone che era abbastanza sicuro di riuscire a respingere gli inglesi e quindi a costringerli a ritirarsi attraverso il bosco l'ora scelta per cominciare la battaglia è Mezzogiorno e come sempre l'ordine di inizio della battaglia il segnale col quale si dà inizio alla battaglia è il colpo di cannone quindi a Mezzogiorno si spara questo colpo di cannone e comincia il tiro dell'artiglieria francese sulle posizioni degli inglesi e degli alleati che cosa succede a Mezzogiorno a Vavre perché in realtà le due battaglie sono assolutamente coordinate anche stavolta come la battaglia di Ligny ha avuto il suo parallelo a Catebrà la battaglia di Materlò ha il suo parallelo a Vavre dove Grouchy è arrivato in ritardo nel senso Grouchy ha ricevuto questi ordini da parte di di Sul di andare a Vavre ed è andato a Vavre e a Vavre ha trovato i prussiani per cui ha immaginato di dover conquistare Vavre strappandola ai prussiani ora l'idea stessa di questa manovra è abbastanza priva di senso perché Vavre non ha alcuna importanza tattica e aveva un senso occupare Vavre in quanto Vavre impediva ai prussiani di collegarsi con gli inglesi attraverso Vavre ma ormai i prussiani sono a Vavre quindi a quel punto conquistare Vavre per costringere i prussiani a spostarsi ancora più verso gli inglesi non avrebbe senso a mezzogiorno comincia il cannoneggiamento francese al quale gli inglesi rispondono ovviamente a Waterloo e Vavre è così vicina a Waterloo si tratta di alcune neanche alcune decine di chilometri si tratta poi dipende dalla strada che si prende comunque si tratta di una distanza tale che a Vavre si sente benissimo il rombo del cannone e a mezzogiorno quando si comincia a sentire il cannone Grouchy sta facendo colazione mentre si prepara a sua volta ad attaccare Vavre Grouchy sta facendo colazione e va da lui uno dei suoi comandanti di corpo perché a Vavre Grouchy ha due dei sei corpi di cui dispone l'esercito francese e uno di questi due corpi è comandato da Gerard generale Maurice Etienne Gerard che è un veterano un grande veterano delle campagne di Napoleone e di lui Napoleone all'isola d'Elba dirà che è forse uno dei migliori tattici dell'esercito francese per cui molto stimato anche dall'imperatore e però tutti hanno dei difetti e anche Gerard sicuramente ha il difetto di non sopportare molto il proprio comandante anche lui non ha grande stima di Grouchy e pensa sia abbastanza ingiusto che è comandare l'ala destra francese sia uno come Grouchy al posto invece per esempio di Gerard che pensava di avere molto più diritto sia per esperienza che per qualità professionale di Grouchy per comandare una forza così grande e per intuire quale fosse il suo compito tattico per cui Gerard in maniera sembra abbastanza brutale va da Grouchy che sta facendo colazione e gli dice spara il cannone andiamo dove spara il cannone questa era una frase attribuita anche a Murat dove rompa il cannone si va dove rompa il cannone perché lì si combatte e lì possiamo servire e Gerard dice a Grouchy piantiamo tutto qua e cerchiamo di precipitarci dove rompa il cannone da quella parte lo sentiamo e lì che si sta combattendo è inutile che noi cerchiamo di occupare Wavre che non serve a niente Grouchy si secca molto perché evidentemente Gerard arriva in maniera abbastanza prepotente maleducata un po' violenta trattandolo come se non sapesse che cosa deve fare e gli risponde so bene quali sono i miei ordini e intendo eseguirli e quindi esiste nei comandanti francesi la consapevolezza di che cosa si dovrebbe fare Gerard lo sa che cosa si dovrebbe fare si dovrebbe andare verso Waterloo perché è lì che stanno succedendo le cose invece Grouchy non capisce che questo è il suo compito perché non ha la comprensione della situazione strategica o grande tattica come la vogliamo chiamare però Napoleone appunto ha messo Grouchy a comandare e ha dato a Grouchy un comando che lui non ha mai avuto affidando di una responsabilità chiaramente eccessiva rispetto alle sue capacità di comando la stessa cosa che ha fatto per Sul Sul è un ottimo comandante ma non è affatto un ottimo capo di stato maggiore e quindi il sistema di comando francese ancora una volta dimostra di non essere assolutamente capace di interpretare il piano di battaglia di Napoleone il piano di campagna di Napoleone e è come se un grande musicista avesse composto un pezzo di grandissima difficoltà tecnica che ha bisogno di un'esecuzione veramente minuziosa attenta della comprensione di che cosa si sta eseguendo per poi affidare lo spartito a un gruppo musicale assolutamente inadatto a suonarlo e questo fatto si ripete costantemente nel corso di tutta la campagna è vero che quando si studiano si ricostruiscono questi eventi si cercano gli errori di quello che ha perso mentre gli errori di quello che ha vinto vengono risucchiati dalla storia in qualche modo per cui tutti gli errori sicuramente commessi da Blucher gli errori di Wellington vengono cancellati perché hanno vinto però rispetto al progetto iniziale c'è proprio una differenza di esecuzione che balza agli occhi è come se proprio ci fosse un desiderio consapevole inconsapevole quanto consapevole non sappiamo mai di non realizzare compiutamente il progetto ma di lasciare questo grande progetto di campagna come idea di qualche cosa che avrebbe potuto essere ma che non si compie per delle ragioni che sono apparentemente incomprensibili ma che stanno sulle spalle di alcune persone che non sono all'altezza del loro compito e quindi Napoleone mentre a Wavre si decide di attaccare praticamente un contingente che i prussiani lasciano lì per bloccare i francesi avviene l'inverso di quello che aveva progettato Napoleone Napoleone aveva progettato di tenere i francesi uniti a combattere contro inglesi e prussiani divisi invece grazie alla incomprensione totale di Grouchy di quello che sta succedendo una aliquota consistente più o meno un terzo dell'esercito francese si trova separato dal grosso a combattere contro un componente minore dell'esercito prussiano lasciata lì proprio per impegnarla e per tenerla lontana dal campo di battaglia principale che è quello di Waterloo nel quale si sarebbe deciso alla campagna a mezzogiorno come dicevamo comincia il cannoneggiamento francese e inizia l'attacco ora la battaglia di Waterloo è stata raccontata un sacco di volte ed ha tutta una sua dinamica fatta di una serie di episodi anche la carica degli Scots Grey la controcarica dei francesi però così tentando di raccontarla per linee generali il piano di battaglia di Napoleone è abbastanza semplice lui dispone due corpi che sono Rey e Derlon uno sulla destra e uno sulla sinistra collegati proprio alla bella alliance dove c'è il comando di Napoleone dietro lungo tutta la strada che viene da Charles Roy che poi dall'altra parte porta a Bruxelles Napoleone concentra il reparto di Labo e la cavalleria la guardia tutti lungo la strada pronti appunto per lanciare quello che dovrebbe essere il colpo definitivo contro lo schieramento inglese una volta che Rey e Derlon siano riusciti a logorarlo a sufficienza e anche l'artiglieria francese sia riuscita a incidere abbastanza intensamente sulla tenuta dei reparti nemici l'attacco iniziale viene affidato a Derlon sull'ala destra e anche qui c'è un errore abbastanza notevole nello stato maggiore perché Derlon riceve l'ordine di attaccare in una formazione per battaglioni allargati e non per battaglioni in colonna lui non capisce in realtà in francese le due formazioni sono per colonna di battaglione o per battaglione in colonna Derlon non trova modo di correggere l'errore non lo vuole correggere per cui l'attacco viene portato abbastanza malamente e viene respinto però ancora non è successo niente di grave più grave è il fatto che dall'altra parte sulla sinistra esiste questo castello di Hugmont castello di Hugmont nel quale si sono attestati gli inglesi il castello di Hugmont non è un castello proprio è una sorta di grande cascina una villa patrizia ma non è una fortezza ci sono anche dei muretti ma delle mura non dei muraglioni l'attacco viene portato dal fratello di Napoleone da Gerolamo da questa parte Gerolamo Napoleone che è veramente uno di quei personaggi della storia che hanno in qualche modo la fortuna segnata addosso perché lui è il fratello più giovane di Napoleone quello piccolo piccolo che si concede nella vita qualunque cosa fra le altre cose andrà in America si sposerà tornerà in Francia con questa moglie della quale Napoleone si vuole sbarazzare per cui la moglie di Gerolamo va a stare in Inghilterra in Inghilterra è Napoleone che le manda del denaro per vivere perché Gerolamo ne ha sposato un'altra l'ha dimenticata completamente però Gerolamo è l'unico dei fratelli di Napoleone che ha intrapreso in qualche modo anche lui la carriera militare anche se in realtà poi passa in marina anche lì sempre facendo debiti veramente una vita sconsiderata e rincontra Napoleone ovviamente viene fatto re e anche lì governa in una maniera sconsiderata e si riunisce a Napoleone come gli altri fratelli è un arruino di famiglia i cento giorni è anche un arruino di famiglia perché tutti i fratelli di Napoleone si riuniscono con lui e lo sostengono in questo periodo diciamo difficile travagliato impegnativo e Napoleone pensa bene di portarselo dietro in battaglia e di affidare anche a lui un comando e ovviamente come c'era da aspettarsi l'attacco di Girolamo Napoleone contro Ugmon fallisce nella maniera più totale per dire però quanto poi sia persona fortunata Girolamo Girolamo Napoleone è ancora in giro è ancora sulla piazza quando Napoleone riesce ad avere una serie di incarichi fra l'altro è il governatore delle Zinvalide è una figura di grande prestigio anche durante il secondo impero ormai è diventato più grandicello è un po' più tranquillo e poi praticamente si spegne l'anno prima della caduta di Napoleone terzo quindi si fa la sua vita da prima da fratello e poi da zio dell'imperatore senza alcun problema è proprio una figura di fortunato della storia però sicuramente non è un grande comandante e non riesce a prendere il castello di Ugmon ritardando ulteriormente i tempi della manovra francese sulla manovra francese però bisogna aggiungere un'altra cosa che inspiegabilmente Napoleone affida la direzione delle operazioni a Nè che abbiamo già visto in azione a Cattabra come mai Napoleone si occupa di restare praticamente indietro non ha quella partecipazione diretta alla battaglia che aveva avuto per esempio a Lignine la quale aveva tenuto molto più in mano l'esercito e lì ci sono due interpretazioni un'interpretazione è che Napoleone si sia sentito male durante la battaglia di Waterloo lui soffriva di stomaco poi alla fine morirà anche per qualche cosa allo stomaco e quindi può darsi che si sia sentito male l'altra interpretazione è che in fondo avesse in qualche modo lasciato le redini sul collo del cavallo la battaglia di Waterloo è vinta da sola oppure si perde da sola in qualche modo però certamente la presenza di Né in prima linea a organizzare tutto l'assenza di un comandante tattico proprio più capace e forse meno desideroso di fare tutto lui pesa sull'esercito francese bisogna dire che la battaglia di Waterloo si sviluppa lungo un fronte molto molto breve il fronte complessivo della battaglia di Waterloo non supera cioè se uno va proprio in linea d'aria sono meno di 4 km e dai i due punti forti che sono l'Aisantè a Est e appunto il castello di Goumont a Ovest ci sono poco più di 2 km in linea d'aria si combatte in uno spazio strettissimo con perdite molto elevate così possiamo dire i momenti chiave della battaglia poi non sono numerosissimi perché per tutta la giornata i francesi sviluppano una violenta pressione sugli inglesi appunto perché la tattica napoleonica prevedeva di assorbire le riserve inglesi fino a arrivare a quel punto critico nel quale fosse possibile dare il colpo finale appunto con la concentrazione di fanteria e anche di cavalleria che lui aveva preparato lungo la strada di Charles Roy che poi è praticamente l'unica strada dalla quale ci si può ritirare rispetto al doppio avvallamento di la bella alliance o di Mont-Saint-Jean o come verrà chiamato dopo di Waterloo che però è un po' più lontano e poi si vedrà alla fine quanto avere a disposizione una sola strada comporterà dei gravissimi problemi per i francesi però di notevole capitano sostanzialmente due cose una è la lentezza con la quale i francesi riescono a occupare Hugues e L'Aixanté che sono questi due poli queste due costruzioni queste due fabbricati un po' più esteso Hugues più picco L'Aixanté che sono uno sulla sinistra uno sulla destra dello schieramento francese e questo dipende dal fatto che ci sono delle difficoltà proprio tecnico professionali Girolamo che non è capace di portare l'artiglieria sufficiente per appoggiare l'attacco Hugues e dall'altra parte che sicuramente combina dei pasticci combina dei pasticci fino a che combina un grande pasticcio perché ormai arrivati non proprio alla metà del pomeriggio ma ormai a pomeriggio inoltrato succede una cosa che tuttora non è stata spiegata perché la trasmissione degli ordini è una cosa complicata non si capisce bene da cosa dipenda questo quello che succede ma c'è un momento nel quale un reparto inglese si arretra e questo arretramento viene interpretato probabilmente da Nè come un cedimento dello schieramento inglese a fronte di questo cedimento dello schieramento inglese Nè pensa che una carica di cavalleria possa scardinare il sistema inglese e viene lanciata una carica di cavalleria qui siamo veramente alla cosa che tutti sanno che è accaduta ma della quale non si riesce a dare un punto di partenza esatto perché parte questa carica di cavalleria che in breve coinvolge tutta la cavalleria pesante e parte della cavalleria media dei francesi che si lanciano tutti all'attacco del fronte nemico ora il sistema tattico dell'epoca dà la cavalleria sostanzialmente in svantaggio rispetto alla fanteria non in vantaggio perché nella storia militare ci sono momenti successivi c'è il grande momento delle legioni romane dove la fanteria ha il vantaggio sulla cavalleria poi via via arriviamo a un lungo periodo che probabilmente comincia si vuole fare cominciare una battaglia di Adrianopoli ora alcuni hanno forti dubbi comunque il lungo periodo medievale che è dominato invece dalla cavalleria il cavaliere medievale la cavalleria pesante anche se che so a Gincur i cavalieri vengono appiedati e come appiedati riescono a sconfiggere quelli che sono a cavallo perché rimane il fatto che questi tipi di combattimenti come poi in fondo probabilmente tutte le guerre è la tenuta psicologica la cosa importante per cui se la fanteria è abbastanza solida da non scappare la cavalleria non ha la possibilità di sfondare veramente le linee soprattutto quando questa fanteria come all'epoca napoleonica dispone sia di fucili che di cannoni che vengono piazzati sugli angoli dei quadrati nei quali la fanteria si organizza per proteggersi dalla cavalleria quindi la funzione della cavalleria non può essere quella di annientare una fanteria organizzata ma può dare un colpo psicologico notevole su una fanteria già demoralizzata e un po' disorganizzata nella speranza scappino oppure l'altra funzione può avere è costringere la fanteria nemica a mettersi in quadrato perché la fanteria in quadrato siccome sono tutti ammucchiati sono molto esposti al tiro dell'artiglieria e sono anche abbastanza vulnerabili al tiro della fanteria oltre al fatto che sono assolutamente immobilizzati quindi l'abilità proprio tattica professionale dei comandanti sul terreno in epoca napoleonica consiste nel riuscire a usare le tre armi artiglieria fanteria e cavalleria in combinazione sempre insieme possibilmente in modo da costringere il nemico a organizzarsi in questo in quel modo e a subire le perdite maggiori da parte dell'arma che viene impiegata ora la cavalleria francese fa una carica contro la fanteria inglese che ancora non è demoralizzata ed è ancora ben organizzata tant'è riesce a comporsi nei quadrati lancia questa carica con eccessivo anticipo e quindi non è accompagnata né dall'artiglieria né dalla fanteria che rimane indietro e in più sembra si aggiunga anche un altro errore tecnico proprio inspiegabile ovvero che la cavalleria non dispone dell'attrezzatura per inchiodare i cannoni ora questa cosa di inchiodare i cannoni consiste sostanzialmente nel fatto che se uno infila un chiodo nel luogo dove si accende la carica del cannone il cannone non può più funzionare e da qui inchiodare i cannoni quindi renderli inservibili però bisogna avere i chiodi i martelli bisogna poterlo fare gli artiglieri inglesi davanti alla carica della cavalleria francese scappano e si nascondono dentro i quadrati di fanteria quando l'ondata di cavalleria è passata tornano ai loro cannoni e ricominciano a sparare mentre invece se la cavalleria avesse con sé l'attrezzatura per inchiodarli potrebbe renderli assolutamente inservibili comunque questo è abbastanza marginale rispetto al fatto che la carica viene lanciata con grande anticipo e che porta sostanzialmente alla distruzione della cavalleria francese ora bisogna considerare che la cavalleria è un corpo molto delicato perché perché riorganizzare degli uomini è più facile perché i cavalli si stancano più degli uomini perché i cavalli vanno più lontano degli uomini a piedi per cui una volta lanciata la carica di cavalleria la cavalleria tende a disorganizzarsi anche se sono ben comandati anche se si tratta di soldati esperti e la serie di cariche che viene lanciata insistentemente perché appunto c'è questa difficoltà a trasmettere gli ordini una volta che le cariche sono cominciate chi può dire basta smettete quindi per un errore iniziale commesso probabilmente un errore di valutazione di Nè nel pomeriggio tutta la battaglia si concentra in questa grande carica di cavalleria francese nella quale si consuma il vantaggio dei francesi in termini di cavalleria però nonostante questo la battaglia continua a svilupparsi in maniera non del tutto sfavorevole per i francesi perché continuano fra l'altro nella fase iniziale della battaglia anche tutta la cavalleria pesante inglese è stata consumata per fermare la fanteria francese e quindi siamo ancora in una situazione nella quale Napoleone può immaginare di dare il colpo finale allo schieramento inglese scatenando la fanteria di cui dispone ancora lungo la strada di Charleroi però cominciano a succedere delle cose che che logorano questa organizzazione dello schieramento francese perché cominciano verso metà pomeriggio verso le 5 cominciano ad arrivare dei rinforzi prussiani cioè tutta l'ala sinistra inglese comincia a essere sostenuta da reparti prussiani che stanno arrivando lentamente però ne arrivano sempre di più e questi reparti arrivano praticamente da est quindi non da nord-est ma da est tant'è che costringono lo schieramento francese a prolungarsi l'ala destra francese deve prolungarsi verso sud per prolungare quest'ala destra francese Napoleone è costretto a ricorrere ai soldati che sono sulla strada per Charleroi e che dovrebbero dare il colpo finale all'esercito inglese prima arrivano i reparti di Bullov che arrivano a Place Noir forse dovrebbe chiamare battaglia di Place Noir perché è il paesino più grosso che c'è sul campo di battaglia nella zona nella quale si combatte questo paesino di Place Noir e a Place Noir Napoleone impegna la giovane guardia per fermare l'avanzata dei prussiani ancora è una manovra abbastanza semplice però quando altri reparti dei prussiani con addirittura Blucher arriva il corpo di Zitten arrivano altri corpi che si collegano con gli inglesi e cominciano a sviluppare una pressione sempre maggiore sulla destra francese e sembra che Ne mandi un messaggio a Napoleone più o meno a questo punto dicendogli mandami un rinforzo di fanteria e sfondiamo e Napoleone risponde la devo creare la fanteria che non ce n'è più perché tutto quello che era la riserva francese si è consumata praticamente o è stata impegnata per coprire l'ala destra sostanzialmente come dicevamo prima è successo l'assoluto rovescio di quello che avrebbe dovuto succedere del piano di campagna invece di trovarsi i francesi tutti insieme contro gli inglesi dopo avere battuto i prussiani una parte dei francesi si trova a combattere contro tutti gli inglesi e contro una parte sempre più preponderante dei prussiani nel frattempo continua la battaglia di di Vav e continua con una incredibile resistenza dei prussiani così che nonostante il vantaggio dei francesi sia notevolissimo in termini numerici Tillemann che è il comandante di corpo prussiano con 15.000 uomini non di più tiene impegnato Grouchy con i suoi 30-40.000 il quale non riesce mai neanche a occupare Vavre dimostrando anche lì la pochezza della sua capacità di comando comunque a questo punto a Napoleone si pone il problema di che fare perché è sempre più difficile vincere la battaglia ma i francesi sarebbero ancora in grado probabilmente di ritirarsi in relativo buon ordine bisogna dire che la battaglia di Waterloo è una battaglia particolarmente sanguinosa una battaglia molto cruenta nella quale si combatte con una enorme determinazione da entrambe delle parti il numero di ufficiali che cadono è elevatissimo degli ufficiali inglesi comandanti di corpo ne cadono moltissimi per esempio Hill uno dei comandanti della cavalleria Ponsonby è un altro che cade a Waterloo e c'è questo il vicecomandante Axbridge gli viene tagliata una gamba e lui se la porta dietro la seppellisce nel suo giardino in Inghilterra ecco in questa casa di Wellington a Londra ci sono tutti i quadri dei suoi generali che hanno combattuto con lui a Waterloo e sono quasi tutti morti lo stesso Wellington rischia la vita proprio in un paio di occasioni perché Wellington comanda in prima linea per tentare di tenere questa linea si dice che è probabilmente abbastanza vero che a metà del pomeriggio Wellington si è praticamente convinto che la battaglia sia perduta solo l'allentamento della pressione francese a causa dell'arrivo dei prussiani poi gli permette di tenere la posizione ora Napoleone è consapevole del fatto che la tenuta degli inglesi è diventata incerta è consapevole del fatto che uno sforzo ulteriore dei francesi potrebbe risolvere la questione in favore dei francesi però c'è il problema che ritirarsi è ancora possibile ma non è possibile all'infinito più la battaglia continua più i francesi rischiano non la sconfitta ma proprio la rotta e questo è il problema finale di Napoleone e a questo punto le decisioni i comportamenti dei suoi collaboratori diventano tutti secondari siamo arrivati al coup de théâtre in qualche modo cioè la battaglia di Waterloo può essere una grande sconfitta o può essere una catastrofe con una vaghissima possibilità ancora rimasta aperta e si trasformi in una vittoria perché se l'ala sinistra francese riuscisse a mettere in rotta a sfondare l'esercito di Wellington a quel punto anche la pressione sulla destra non sarebbe così importante la pressione dei prussiani e potrebbe ancora diventare una vittoria francese però questo è assolutamente improbabile per Napoleone si apre la possibilità di accettare una sconfitta di misura o di rischiare praticamente il tutto per tutto ma rischiando anche di andare incontro a una catastrofe siamo verso le sette di sera la luce comincia ad abbassarsi siamo in giugno per cui le giornate sono lunghe però comincia a farsi pomeriggio inoltrato e siamo arrivati al momento decisivo della battaglia di Waterloo questo momento è stato raccontato in maniera diversa dai vari protagonisti dai vari storici per l'altro c'è anche quello che racconta Napoleone ma possiamo dire che la battaglia che in qualche modo doveva decidere la campagna è stata già persa più volte dai marescialli di Napoleone nella storia napoleonica si ricordano i grandi tradimenti dei marescialli quelli al momento della prima abdicazione anche con modalità diverse non si sa bene quanto ne abbia spinto per l'abdicazione abbia dichiarato che l'esercito non era più disponibile a combattere Marmon tradisce in maniera più clamorosa perché di fatto consegna agli alleati il corpo che era sotto il suo comando tant'è visto che lui era come titolo nobiliare duca di Ragusa nasce anche una nuova parola usata prima dai soldati che poi ha una certa diffusione in Francia che è ragusade una ragusata che significa un tradimento un atto infame un atto scellerato e questa volta durante la campagna del Belgio non ci sono stati tradimenti dei marescialli però certo la battaglia di Waterloo i marescialli di Napoleone gliel'hanno persa in più di un'occasione gliel'hanno persa proprio all'inizio con una partenza un po' troppo lenta gliel'hanno persa la giornata di Ligny con Derlon che con i suoi 10-15 mila uomini continuava ad andare avanti e indietro fra Cattrebra e Ligny senza poi essere mai impegnato in combattimento gliel'ha persa Grouchy andando a Vavro non sapeva neanche lui perché eseguendo degli ordini che non aveva capito nonostante Gerard gli dicesse che bisognava lasciare la posizione e correre verso il rombo del cannone gliel'ha persa Ney con la sua sconsiderata carica di cavalleria gliel'ha persa anche suo fratello Jerome perdendo un sacco di tempo nell'occupare Ugmon forse gliel'hanno persa anche i suoi esperti di artiglieria consigliandogli di rimandare l'attacco a mezzogiorno invece di cominciare subito la mattina quando si sarebbe potuto alle prime luci sfruttando il tempo che ancora c'era forse per sistemare la questione con gli inglesi prima che arrivassero i prussiani comunque alle 7 di sera succede qualche cosa qualche cosa che nel racconto che fa poi della battaglia Victor Hugo nei miserabili queste 100 pagine questo capitolo dei miserabili proprio intitolato Baterloo è un momento magico un momento quasi di apparizione divina è il momento di un passaggio di un'epoca un'epoca finisce deve finire Napoleone non poteva vincere e quindi deve perdere comunque dai racconti più tecnici che abbiamo di quel momento della battaglia sembra che succeda la seguente cosa sembra che Napoleone decida di giocare il tutto per tutto e questo in qualche modo è coerente con l'immagine che ci siamo fatta noi con il racconto che ci è piaciuto fare di questa battaglia il racconto di un uomo che ricerca una fine grandiosa per la sua epopea militare quindi ha bisogno che accada un atto un gesto un momento un evento un fatto qualche cosa capace di stupire capace di colpire l'immaginazione e questo qualcosa chiaramente non può essere un ripiegamento poi Napoleone ha conosciuto due ritirate ha conosciuto la ritirata di Russia ma anche la ritirata successiva alla battaglia di Lipsia e in tutte e due le occasioni ha visto nella fase di ritirata il suo esercito praticamente dissolversi quindi non è certo un generale che ha un'esperienza felice di ripiegamenti di sganciamenti dal nemico anzi conosce esperienze drammatiche di ritirate nelle quali appunto ha visto anche armate potenti poi ridursi in termini minimi e quindi è credibile che sia abbastanza vero il racconto prevalente che si fa di questo momento della battaglia gli inglesi sono evidentemente in difficoltà sono stati pressati tutto il giorno dai francesi hanno subito perdite spaventose come del resto anche i francesi e non hanno più riserve da impegnare nella battaglia invece ai francesi è rimasto qualche cosa Napoleone può ancora contare su alcuni reggimenti della guardia pochi non sono la massa di fanteria che lui aveva organizzato lungo la strada per Charleroi che avrebbe dovuto risolvere la battaglia in maniera proprio di forza di prepotenza una volta indeboliti gli inglesi quei soldati lì sono stati tutti impiegati per creare un prolungamento dell'ala destra francese rivolto verso sud che arrestasse i prussiani che stavano arrivando però un po' di riserve ci sono e Napoleone probabilmente pensa che si può fare un lancio di dadi un lancio di dadi che ha poche probabilità di essergli favorevole ma che può portare a due situazioni che in fondo per lui sono ambedue accettabili o una vittoria ormai imprevedibile che assumerebbe i toni del grande trionfo se venisse conseguita una vittoria sul filo di lana calcisticamente si potrebbe dire in zona Cesarini se l'ultimo attacco dei francesi portasse allo sfondamento delle linee inglesi gli inglesi si dovrebbero ritirare probabilmente si ritirerebbero disorganizzandosi molto e lascerebbero ai francesi la possibilità di affrontare i prussiani che stanno arrivando che sono stanchi hanno dovuto camminare tutto il giorno Napoleone immagina addirittura che dietro di loro ci sia Grouchy che gli sta inseguendo non sa che Grouchy è impantanato nella situazione di Bavre ed è incapace di uscirne che è rimasto prigioniero di un contingente prussiano molto inferiore al suo e non riesce a prevalere neanche su quello per cui i francesi lanciano un ultimo attacco un ultimo attacco che viene scatenato verso quello che sembra essere il punto debole dello schieramento inglese per lanciare quell'attacco si impiegano alcuni reparti sceltissimi della media guardia che però sono numericamente abbastanza esigui sono poche migliaia di uomini non sono una grande massa d'urto comunque lo stesso l'effetto sul campo di battaglia sembra essere notevole perché c'è questo reparto che sembra anche lì perché ci sono testimonianze diverse secondo il resoconto dei francesi organizzato in quadrati si muove anche se un attacco fatto in formazioni in quadrato è una cosa piuttosto insolita gli inglesi nei loro racconti parlano di colonne invece comunque c'è questo risalire di questo pendio abbastanza morbido da parte di questi soldati che avanzano gridando e facendo confusione come fanno sempre i francesi però gli inglesi li aspettano a pie fermo gli inglesi riescono a fermarli e il combattimento in epoca napoleonica è un combattimento che ha la sua chiave anche nella tenuta psicologica dei reparti se un reparto continua ad avanzare riesce a fare abbastanza paura che il nemico alla fine scappa il combattimento all'arma bianca è un'esperienza abbastanza rara noi non sappiamo esattamente che cosa succedesse perché il racconto dell'esperienza proprio così evenemenziale proprio fenomenologica del combattimento viene sempre data per scontata nei racconti che abbiamo perché era una cosa che si sapeva un po' come dire che oggi nessuno in un racconto spiega come funziona un'automobile sale in macchina e parte da un romanzo contemporaneo nessuno potrebbe ricostruire il funzionamento di un'automobile e così dai racconti dei combattimenti di quell'epoca non c'è la descrizione di che cosa succede realmente però possiamo possiamo immaginarlo abbiamo anche dei dati per esempio è stato fatto un calcolo su le ferite riportate dagli invalidi nell'esimvalide l'istituto francese che funziona praticamente come una casa di riposo per soldati feriti e agli invalidi si scopre che quasi tutti gli ospiti della casa di riposo sono stati feriti dal cannone pochissimi sono feriti dalle palle di fucile e quasi nessuno è ferito da un'arma da taglio e questo lascia credere che il momento del confronto fosse un momento di natura proprio psicologica di tenuta morale del reparto il reparto avanza unito molto compatto se riesce ad arrivare sul nemico che lo aspetta da fermo il più delle volte il nemico smette di aspettare da fermo e scappa oppure se non ha la capacità la tenuta di continuare ad avanzare si ferma e poi è costretto a ritirarsi sembra che nel momento nel quale i francesi che avanzano dovrebbero aprirsi da passare da colonno o da quadrato che siano a quella formazione di linea che serve per poter fare quel fuoco compatto di fucileria che è necessario per uno che usa delle armi ancora a canna non rigata quindi i proiettili hanno un po' dove vogliono e sparare uno alla volta non ha senso in quel momento i francesi si fermano fermarsi e cominciare ad arretrare sono praticamente due atti l'uno la conseguenza dell'altro i francesi si fermano poi cominciano ad arretrare e lì succede qualche cosa che che poi è abbastanza incomprensibile nel suo racconto della battaglia nel racconto della battaglia che è detta a Napoleone la sera successiva alla battaglia per il bollettino dell'armè l'ultimo bollettino dell'armè che lui detta la storia raccontata da Napoleone è addirittura diversa Napoleone non parla di attacco parla solo di un movimento all'indietro di un reparto della guardia che aveva effettuato una manovra la manovra non riesce però stanno normalmente arretrando anche se non in grande ordine e questa visione della la gara recul la guardia arretra getta tutto l'esercito nel panico ora siamo ancora in piena luce sappiamo che il campo di battaglia ancorché oscurato probabilmente dal fumo delle centinaia delle migliaia di cannonate che sono state sparate non offre la miglior visibilità però è probabilmente davanti agli occhi di moltissimi soldati francesi che avviene questo spettacolo della della guardia che arretra o della guardia che fugge secondo altri e questo determina il collasso assoluto della tenuta psicologica dell'esercito francese gli alleati se ne accorgono e si lanciano al contrattacco a questo punto nel racconto di Napoleone una battaglia completamente vinta almeno come dice lui occupavamo tutte le posizioni che all'inizio della battaglia erano in mano del nemico Napoleone tralascia un po' la questione dei prussiani che stavano premendo l'ala destra e stavano avanzando sull'ala destra francese però questa battaglia che Napoleone pretende praticamente vinta si trasforma in una rotta disastrosa ormai arriva anche il buio l'unica via di ritirata dei francesi è la strada per Charles Roy e lungo la strada per Charles Roy qua si precipita tutto l'esercito si precipita tutto l'esercito con i carriaggi con i cannoni i soldati buttano le armi è un fuggifuggi generale ed è anche lo scioglimento di un esercito il disfacimento di un esercito lo dice Napoleone nel suo bollettino della grande armè per il monitor per il giornale praticamente uno dei pochi giornali permessi anche se durante i cento giorni c'era una maggior tolleranza nei confronti della stampa rispetto al periodo precedente e un esercito è la sua organizzazione una volta che i soldati sono sbandati che i reparti si sono mescolati che gli ufficiali hanno perso i loro soldati un esercito non è più un esercito è una massa in forme di uomini che infatti fa l'unica cosa che può fare può scappare in più il grande strumento per coprire una ritirata è la cavalleria e i francesi hanno perduto quasi tutta la loro cavalleria nelle cariche che forse ne ha lanciato o che comunque si è lasciato scappare di mano nel corso del pomeriggio e che hanno portato di fatto all'annientamento di una buona parte della cavalleria francese e così siamo all'imbrunire ormai e l'unico reparto che rimane ancora a tenere il campo per i francesi è la vecchia guardia si formano due quadrati uno dei granatieri della vecchia guardia e uno dei cacciatori della vecchia guardia anche rispetto a questi avvenimenti non abbiamo delle certezze abbiamo una serie di notizie che sono abbastanza divergenti una dall'altra la ricostruzione che viene di solito accettata è che Napoleone si pone al centro di uno dei quadrati e sembra che cerchi la morte in combattimento che forse farebbe parte di questo progetto per fare finire in maniera grandiosa l'epopea fosse morto sul campo di battaglia al centro del quadrato dei suoi veterani certo avrebbe dato un senso anche spettacolare un finale di tragedia assoluto Napoleone si pone a cavallo in mezzo al quadrato dei suoi veterani però gli aiutanti di campo riescono a convincerlo ad andarsene e Napoleone poi accetta questo consiglio questa ingiunzione queste pressioni e se ne va se ne va con una piccola scorta a cavallo Napoleone è arrivato a Waterloo con la sua carrozza la carrozza cade in mano ai prussiani che la saccheggiano e ci trovano fra l'altro dentro anche un sacco di soldi e poi però questo trofeo viene recuperato quasi per intero dagli inglesi che si fanno riconsegnare dai soldati prussiani più o meno tutti questi oggetti che sono caduti nelle loro mani e poi la carrozza rimane come trofeo in Inghilterra fin quando brucia in un incendio e da quel momento è perduta Napoleone si allontana e mentre Napoleone si allontana avviene l'episodio terminale della battaglia quello che viene ricordato praticamente in tutte le memorie che si fanno della battaglia di Waterloo l'episodio di Cambron un'altra volta ci tocca dire che non c'è eccessiva chiarezza su che cosa succeda Cambron non era il comandante della guardia sappiamo che il comandante della guardia era ferito che il comandante del primo reggimento di granatieri della guardia era ferito anche lui Cambron in realtà comandava un reparto della media guardia non della vecchia guardia però la tradizione vuole che fosse lui al comando dell'ultimo quadrato della vecchia guardia che rimane sul campo di battaglia di Waterloo a fronteggiare gli inglesi e che a lui venga rivolta la richiesta di resa e a questo punto sarebbe stato Cambron a rispondere merda la risposta secca alla quale gli inglesi rispondono a loro volta con una serie di cannonate una serie di cannonate che spazzano via la memoria anche militare la concretezza della memoria militare della grande armé la vecchia guardia subisce perete spaventose Cambron rimane sul terreno ma non muore la storia di Cambron continua lui vivrà ancora a lungo e altra aporia della storia altro particolare che si può aggiungere Cambron non rivendica mai l'episodio Cambron non sosterrà mai di avere lanciato questa sfida assoluta contro il nemico nel momento del disastro di Cambron bisogna ricordare anche quello che dice di lui Victor Hugo nei miserabili che abbiamo già citato qualche volta che se non ha la capacità di ricostruire storicamente gli eventi perché la battaglia viene raccontata in maniera abbastanza particolare abbastanza personale abbastanza divergente da quelli che sono i racconti più diffusi della battaglia da parte di Victor Hugo si inventa delle cose inventa per esempio la scomparsa della cavalleria pesante francese in un fossato che non avevano visto in realtà questo non avviene o comunque forse è un piccolo episodio minore che non ha quel rilievo che Hugo gli dà però quando si tratta di di stringere sul finale della battaglia dopo aver detto che praticamente è il dio della storia che vuole la sconfitta di Napoleone si pone il problema retorico di chi ha vinto la battaglia di Waterloo e a questo punto Victor Hugo dice che la battaglia di Waterloo non l'ha vinta Napoleone certamente che è rimasto sconfitto non l'ha vinta Wellington che a metà del pomeriggio temeva già di essere travolto dall'avanzata dei francesi non l'ha vinta Blucher che praticamente non ci ha partecipato il vero vincitore della battaglia di Waterloo è Cambron Cambron che con quel suo grido di ribellione contro il correre della storia si oppone all'evidenza dei fatti e grida contro il destino è praticamente il grido di tutti gli uomini che sono condannati a rimanere travolti dal destino però Cambron ha il coraggio di affrontare a viso aperto quello che succede e così ormai siamo al buio della notte il buio della notte che nasconde un inseguimento abbastanza feroce da parte della cavalleria prussiana nei confronti dei francesi sono i prussiani che si prendono l'incarico dell'inseguimento perché gli inglesi hanno subito perdite e un logoramento sia fisico che psicologico dei reparti tali che praticamente non sono in grado di muoversi per cui si giunge fra i due comandi a questo accordo che l'inseguimento dell'esercito francese viene messo in atto dai prussiani e quindi dalla loro cavalleria e sono loro che si spingono avanti incontrando questa massa enorme di sbandati in cui si è ridotto l'esercito francese Napoleone non pensa neppure non prova neppure a riprendere in mano la situazione quello che fa Napoleone è precipitarsi a Parigi perché si precipita a Parigi è difficile dirlo l'esperienza precedente era stata quella di restare con l'esercito abbandonando Parigi e questo gli era costata la corona questa volta sa bene che non c'è niente da fare però forse sa anche che è l'ultima occasione che ha per rivedere Parigi per stare qualche ora se non qualche giorno a Parigi che se venisse catturato se rimanesse con i soldati fino al momento di una ritirata o di quella che poi si presenta sempre più ragionevolmente come la resa che dovrà avvenire anche se por termine alle guerre è sempre difficile è improbabile che vada a Parigi o che ci possa andare se non da prigioniero e allora molto velocemente Napoleone corre verso Parigi e arriva a Parigi insieme alla notizia della sconfitta lui si è trasferito dalle tuilerie all'Elisè durante i cento giorni perché è un posto più appartato più tranquillo lui non aveva bisogno della pompa della corte durante i cento giorni ma aveva bisogno piuttosto di un luogo dove poter lavorare un luogo appartato tranquillo più piccolo dove poter lavorare si racconta e probabilmente credibile comunque lo racconta Colencur nelle sue memorie di essere stato proprio lui Colencur il ministro degli esteri che è stato compagno di Napoleone in molte avventure è stato ministro per esempio anzi ambasciatore presso Alessandro di Russia presso lo Tsar nel periodo dell'accordo fra russi e francesi ha sconsigliato in ogni modo Napoleone di tentare l'impresa di Russia lo ha però accompagnato durante la campagna di Russia Colencur è un diplomatico però è anche un generale all'epoca la carriera militare e la carriera diplomatica sono abbastanza prossime e fra l'altro Colencur ha accompagnato Napoleone nella grande corsa dalla Russia a Parigi che costituisce la fine della campagna di Russia quando Napoleone dopo aver attraversato la Beresina lascia l'esercito agli ordini di Murat e si precipita a Parigi per riorganizzare la Francia sapendo che la guerra doveva continuare e lui aveva bisogno di un nuovo esercito per farla continuare ebbene secondo le memorie di Colencur è lui che riceve Napoleone sulla scalinata dell'Eliseo e Napoleone gli va incontro e gli dice ho subito una sconfitta dalla quale non mi potrò mai più rialzare e questa poi è proprio la confessione immediata di Napoleone che è tornato all'Eliseo e è consapevole che non c'è più niente da fare e si comporta sulla base di questa consapevolezza alcuni i suoi sostenitori i suoi fratelli Giuseppe vanno da lui e lo sollecitano a intervenire in qualche modo sul terreno della politica interna francese ma Napoleone sa che non c'è più niente da fare e probabilmente si sta rinchiudendo in se stesso si sta preparando ad affrontare il futuro che lo aspetta che è sicuramente un futuro molto più aspro di quello che invece era stato quando era andato all'Elba Napoleone come abbiamo visto arriva la mattina del 21 giugno a Parigi il tempo necessario proprio di corsa dal campo di battaglia di Waterloo ad arrivare a Parigi nel frattempo succedono altre cose perché da una parte c'è appunto l'appropriazione totale della battaglia di Waterloo da parte di Wellington Wellington ha sicuramente vinto la battaglia ma scrive immediatamente a Londra un rapporto su come è andata la campagna nel quale minimizza la partecipazione prussiana e esalta il proprio ruolo ma questa è una cosa abbastanza normale nel frattempo va detto che era anche successo un piccolo scandalo economico perché la notizia della vittoria inglese a Waterloo era arrivata a Londra via telegrafo ma ancora con queste forme un po' primordiali di telegrafia di telegrafia ottica e non era circolata per cui c'era stato un intervallo di tempo fra l'arrivo della notizia e la circolazione della notizia che va consentito di fare delle speculazioni finanziarie spaventose sulla borsa di Londra quindi c'è anche questo retroscena della battaglia che Wellington aveva provveduto anche a avvertire i suoi amici di che cosa era successo comunque Wellington scrive questo rapporto sulla campagna e si appropria del nome Waterloo ovvero decide che il nome deve essere Waterloo che fra l'altro per lui non è Waterloo ma è Waterloo che è un nome molto inglese sembra quasi un posto inglese mentre invece Blucher che aveva un'idea completamente diversa della battaglia di Waterloo voleva chiamarla la battaglia di Belle Alliance perché in mezzo al campo di battaglia c'è questo posto che si chiama Belle Alliance che è tra l'altro dalla parte dei francesi dove erano i francesi e secondo Blucher chiamare la battaglia che era stata vinta insieme da inglesi e prussiani chiamarla Belle Alliance sarebbe stato anche simbolico per appunto attribuire anche agli alleati prussiani il loro spazio la loro importanza in quello che era accaduto comunque Wellington invece si comporta per come crede Napoleone la chiama battaglia di Mont-Saint-Jean e appunto nel suo bollettino nel quale racconta la battaglia la chiama battaglia di Mont-Saint-Jean però come si sa sono i vincitori che danno i nomi alle battaglie e a volte si capisce chi ha vinto una battaglia da chi riesce a darle il nome perché alla fine è il nome che significa chi è il vincitore per esempio c'è la battaglia combattuta alle porte di Mosca fra russi e francesi ha due nomi i russi la chiamano Beresina e i francesi la chiamano Moscova perché i russi la chiamano col nome del fiume che attraversava il campo di battaglia lo delimitava mentre invece Napoleone pretenderebbe dichiarire che è la battaglia che è stata fatta per difendere Mosca ed è la battaglia combattuta dai francesi alle porte di Mosca che ha aperto la strada per conquistare Mosca comunque a Waterloo o Waterloo hanno vinto gli inglesi dopo la battaglia succedono le cose che succedono dopo le battaglie e la battaglia di Waterloo è stata un po' più che una battaglia è stata praticamente una guerra una guerra in miniatura in quattro giorni ma dopo la battaglia si sa che Napoleone è fuori dal gioco della politica francese europea mondiale fuori dal gioco della politica completamente però una delle cose più spaventose delle guerre è che è difficile finirle sembra una banalità ma mentre cominciare una guerra è molto semplice basta prendere una decisione porre termine a una guerra è di una difficoltà enorme perché non si sa per esempio chi la possa terminare noi sappiamo che il Giappone aveva già deciso di arrendersi dopo la bomba di Hiroshima invece passa tanto tempo che viene sganciata anche quella di Nagasaki che è una tragedia spaventosa non solo perché si abbatte su dei civili inermi ma anche perché si abbatte su un popolo che aveva già deciso di arrendersi di chiudere la guerra così dopo Vaterloo la guerra continua la guerra continua su due piani che sono da una parte il piano militare e dall'altra invece il piano politico che si sviluppa a Parigi ora tutta la parte militare vede Sul che assume il comando dell'esercito francese comincia a riorganizzarlo in qualche modo Ney invece arriva di corsa a Parigi e Grouchy si ritira col suo contingente sostanzialmente in buon ordine anzi la sua ritirata viene considerata una ritirata di ottima qualità tattica di buona conduzione anche se secondo alcuni non è lui che la esegue ma il suo capo di stato maggiore mentre l'esercito francese ripiega su Parigi a Parigi scoppia ogni tipo di trama ogni tipo di trama e c'è questo confronto sostanzialmente fra l'ambiente buonapartista napoleonico da una parte che pretenderebbe di tenere ancora Napoleone se non sul trono come capo della politica francese anche in questa situazione di sconfitta in questa situazione traballante pensando che si debba fare una difesa ulteriore e invece una parte più politica comandata da Fouché che vorrebbe trovare il modo di fare la pace e conoscendo Fouché possiamo dire trovare anche il modo di individuare una collocazione molto buona per Fouché nella nuova pace Fouché aveva tenuto il piede in molteplici scarpe fin dall'inizio a lui si erano rivolti monarchici per chiedergli aiuto durante il volo dell'Aquila e lui li aveva salutati dicendo voi mettete in salvo il re che a salvargli il trono ci penso io e infatti lavora in questa direzione in mezzo a queste due componenti c'è la componente patriottico militare potremmo dire che è impersonata da Davù il ministro della guerra Napoleone non lo aveva portato durante la campagna del Belgio secondo alcuni lui stesso si era rifiutato di andarci anche se l'ipotesi a me pare abbastanza improbabile perché Davù è un soldato che ha un grandissimo senso del dovere per cui è difficile immaginare che abbia rifiutato di partecipare a una guerra che fra l'altro aveva in buona parte contribuito a rendere possibile col suo lavoro nella riorganizzazione dell'esercito francese comunque Napoleone non intende partecipare a questa difesa della sua posizione politica per cui molto presto abdica e nella sua abdicazione addirittura sembra che in un primo testo dimentichi anche di citare il figlio perché è consapevole del fatto che è finita completamente quando praticamente mentre Napoleone abdica Fouché riesce a farsi eleggere presidente di una commissione governativa che si occupa praticamente di aprire le trattative con gli alleati e il giorno dopo anche il re rientra in Francia al seguito di Wellington chiarendo il fatto cioè l'incontro fra il re Wellington chiarisce il fatto che gli inglesi intendono riportare Luigi XVIII sul trono in questo contesto Napoleone è diventato scomodo per cui mentre ci sono alcuni ultimi bonapartisti o un filo napoleonici ancora parlare di bonapartisti è strano i bonapartisti forse sono una fase successiva della storia politica francese mentre ancora qualcuno pensa di tutelare di difendere l'imperatore questa figura scomoda viene addirittura allontanata da Parigi gli viene chiesto di andare alla Malmaison la Malmaison noi la ricordiamo soprattutto come la residenza di Giuseppina però in realtà la Malmaison è un posto del tutto particolare nella vita di Napoleone hanno fatto un calcolo dei luoghi dove Napoleone ha dormito e la Malmaison è il luogo nel quale dorme il maggior numero di volte in tutta la sua vita perché quando doveva ritornare da qualche parte tornava alla Malmaison e sostanzialmente il governo di tutta l'epoca del consolato e anche di una parte del periodo dell'impero viene esercitato dalla Malmaison e quindi lui non deve essere troppo contrariato dall'idea di ritirarsi lì però anche questa non è una soluzione chiaramente non è che Napoleone può stare alla Malmaison mentre arrivano i prussiani anche perché l'atteggiamento degli alleati nei confronti di Napoleone non è affatto chiaro cioè se Wellington sostanzialmente col consueto stile inglese sembra interessato a catturarlo Blucher pare più deciso a farlo fucilare per cui anche quella componente dei militari patriottici in qualche modo comandata diretta da Davut pensa che sia importante allontanare Napoleone da Parigi e possibilmente trovare il modo per consegnarlo agli inglesi tanto Napoleone passa da una condizione di imperatore a una condizione di semiprigionia nel senso la scorta che gli viene assegnata non è più una scorta comandata da un suo fedelissimo ma comandata da un fedelissimo di Fouchet che ha trovato un vecchio generale napoleonico entrato in rotta con Napoleone molti anni prima che quindi ha quell'astio nei confronti dell'imperatore sufficiente da non essergli fedele e invece da essere disponibile a rimanere con lui tenendolo sotto scorta e controllando quello che sta facendo intanto l'esercito francese continua a ripiegare sul stesso abbandona il comando perché accampa mi pare ragioni di salute e il comando dell'esercito francese passa a Grouchy mentre passa Grouchy si avvicina sempre più a Parigi quando finalmente arriva alle porte di Parigi anche Grouchy si dimette dal comando che passa a Davout che quindi diventa contemporaneamente ministro della guerra e comandante dell'esercito francese e a mio giudizio anche questa è una testimonianza del fatto che Davout non era affatto indisponibile a un comando militare ma anzi avrebbe probabilmente seguito Napoleone nella campagna del Belgio se Napoleone gliel'avesse chiesto se Napoleone gliel'avesse chiesto con sufficiente insistenza perché è ben possibile credere a un iniziale rifiuto di Davout alla richiesta di assumere un comando fra l'altro che non poteva essere quello di capo di Stato Maggiore perché probabilmente Davout non era la figura più adatta di assumere un comando in qualche modo in subordine dopo che era stato ministro della guerra dopo che Soule era stato scelto come capo di Stato Maggiore c'erano dei contrasti violenti fra Soule e Davout perché Napoleone aveva nominato Soule capo di Stato Maggiore dell'Armata del Nord l'Armata del Nord è quella che sarebbe stata impegnata nella campagna del Belgio e Soule aveva interpretato questo ruolo come capo di Stato Maggiore di tutto l'esercito francese e aveva cominciato a mandare ordini in giro da tutte le parti e questi ordini andavano anche contro ordini che invece mandava Davout come ministro della guerra pensando che fosse sua la carica superiore e a lui dovessero rispondere tutti i comandi e forse anche quello di Soule che invece appunto con il suo caratteraccio fin dall'assunzione dell'incarico aveva cominciato a creare poi quelle forme di disorganizzazione nella gerarchia dei comandi e nel trasferimento degli ordini che durante la campagna si riveleranno gravissime per cui è credibile che Davout non fosse molto disponibile ad assumere un comando con Soule come capo di Stato Maggiore gli doveva dare gli ordini però se Napoleone lo avesse voluto veramente portare con sé insistendo in maniera diretta come sapeva fare lui probabilmente avrebbe accettato visto che poi è disponibile ad assumere un comando militare in una condizione ancora peggiore perché praticamente Davout assume il comando dell'esercito francese in ritirata alle porte di Parigi quando ormai stanno arrivando i prussiani insieme agli inglesi intanto Napoleone è ancora alla Malmaison e alla Malmaison fa alcuni degli ultimi incontri della sua vita da uomo da uomo libero da uomo europeo da uomo che può disporre del suo tempo e che può ricevere la visita delle persone che gli sono care perché è logisticamente possibile incontrarle cosa che poi diventerà che era stato possibile all'elba con qualche piccolo disagio e che invece a Sant'Ellena diventa assolutamente impossibile dato che il viaggio è un viaggio praticamente fino all'altra parte del mondo i due incontri principali che fa Napoleone alla Malmaison sono con sua madre il saluto a donna Letizia e ancora una volta con Maria Valevska che ancora una volta lo va a salutare e gli testimonia il suo affetto poi Napoleone abbiamo detto abbastanza anaffettivo come carattere non è è un uomo che per tutta la vita è sempre stato disponibile ad anteporre l'interesse politico l'interesse di Stato se lo vogliamo chiamare così all'affetto però evidentemente ha creato un grande legame con questa principessa polacca la moglie polacca che lo ha accompagnato dalla campagna di Bologna in poi che è stata con lui che ha vissuto a Parigi per un po' di tempo in una situazione di quasi semi pubblicità di quello che stava avvenendo che gli ha dato un figlio e che appunto lo va a trovare un'ultima volta anche lì forse si offre di accompagnarlo non lo sappiamo comunque anche lì Napoleone vuole costruire l'immagine di sé e quindi non può portarsi dietro la sua fidanzata quando va incontro non sa bene nemmeno lui a che ma sicuramente ha un destino abbastanza abbastanza aspro a un certo punto però la situazione non è che precipiti ma sicuramente diventa diventa più pericolosa perché i prussiani sono alle porte di Parigi lì secondo alcuni ci sarebbe la possibilità dei francesi di reagire all'avanzata prussiana e gli inglesi sono rimasti indietro i prussiani sono comandati da Blucher che come sempre è impulsivo aggressivo avanza troppo rapidamente forse è scoperto i francesi un po' si sono riorganizzati fra l'altro nel ritirarsi l'esercito francese chiaramente ha aumentato le sue dimensioni perché sempre quando si accorcia la linea logistica si ottiene un rafforzamento dell'esercito perché arrivano i rinforzi poi Davù è un bravo comandante probabilmente è riuscito a riorganizzare il riorganizzabile però Davù stesso preferisce puntare su un accordo con gli alleati che tentare una nuova battaglia che anche se vinta riporterebbe tutto al punto di prima appunto a quella situazione di inferiorità strategica assoluta dei francesi che li ha portati alla sconfitta l'anno precedente e quindi siccome c'è il rischio che i prussiani raggiungano la Malmaison Napoleone deve decidersi ad andarsene ora Napoleone aveva avanzato una serie di richieste al nuovo governo francese capeggiato da Fouché e lui sostanzialmente aveva chiesto che gli venissero assegnate due fregate che sono due piccole navi abbastanza veloci per potersene andare in America e lì siamo non sappiamo quanto di realistico vedesse Napoleone in questa sua richiesta fra l'altro la Francia è sottoposta al blocco navale da parte degli inglesi e quindi e questo più o meno è quello che risponde il governo a Napoleone e noi siamo anche in grado di dire che due fregate sono a tua disposizione tanto non possono partire e allora Napoleone dice chiedete agli inglesi di darmi un lascia passare per allontanarmi dalla Francia e gli inglesi ovviamente rifiutano e quindi questa notizia non arriva nemmeno non si sa perché poi noi abbiamo una immensa documentazione cartacea relativa al periodo napoleonico fra l'altro una documentazione cartacea che è stata studiata molto da vicino cronologicamente ed è anche stata tutta riorganizzata perché Napoleone III essendo il nipote di Napoleone il grande Napoleone III sviluppa un grandioso progetto per conservare recuperare copiare stampare pubblicare tutto quello che esisteva di Napoleone quindi noi abbiamo una immensa documentazione cartacea su quel periodo ma ci manca completamente tutta la parte dei rapporti orali delle comunicazioni verbali e poi anche avendo la documentazione cartacea non si sa mai se uno diceva la verità diceva le bugie diceva una cosa per lui era vera ma in realtà era falsa comunque Napoleone chiede questo lascia passare e il lascia passare in realtà non gli viene mai non gli viene mai rilasciato non gli viene mai consegnato mentre invece i prussiani sono alle porte e allora dopo avere trascorso praticamente un po' più di una settimana a Parigi tra Parigi e la Malmaison Napoleone si decide a partire alla volta di Rochefort che è il porto nel quale gli hanno assicurato si trovano le due fregate che hanno messo a sua disposizione e lì Napoleone viaggia molto rapidamente corrono 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 e arrivano a Rochefort la mattina del 3 luglio praticamente ci mettono tre giorni e tre notti due giorni e tre notti per attraversare quasi tutta la Francia e anche lì a Rochefort comincia un'altra storia di tira e molla abbastanza snervante perché Napoleone arriva appunto il 3 luglio a Rochefort ma rimane cinque giorni prima di imbarcarsi e succedono anche delle cose abbastanza bizzarre perché Napoleone si imbarca ma non parte perché non può partire perché gli inglesi non lo lasciano partire e nel frattempo succede un altro episodio che per una di quelle stranezze di quelle coincidenze della storia del tutto imprevedibili Napoleone si imbarca l'8 di luglio ma l'8 di luglio è proprio il giorno nel quale Luigi XVIII rientra a Parigi e rientra a Parigi e viene salutato dal prefetto della città che è il conte di Chabrol che accoglie il re ed è il conte di Chabrol che gli dice maestà è stato via per cento giorni e nasce questa locuzione dei cento giorni che all'origine sarebbero i cento giorni trascorsi da Luigi XVIII lontano da Parigi non i cento giorni trascorsi da Napoleone al potere che in realtà poi i giorni di Napoleone sono abbastanza diversi perché si arriva contando da quando sbarca in Francia quando riparte dalla Francia sono 120 ma se si contano solo i giorni trascorsi a Parigi sono 94 per esempio comunque è curioso che la locuzione cento giorni nasca proprio il giorno che Napoleone lascia la Francia e però nasca attribuita a Luigi XVIII e quando Napoleone lascia la Francia quindi si imbarca su questa scialuppa che lo porta sulla fregata Sal parte da da un molo e viene posta poi in seguito una pietra cioè più che altro si prende una delle pietre del molo che si pretende sia quella sulla quale ha appoggiato il piede Napoleone prima di imbarcarsi e viene fatta una scritta questo è l'ultimo lembo di terra di Francia che Napoleone ha toccato prima di imbarcarsi per Sant'Elena anche se lui ancora non lo sapeva che era quella la sua destinazione e quando mi pare negli anni 20 nel porto di Rochefort vengono fatti dei lavori di riorganizzazione del porto di restauro del porto di ristrutturazione del porto questa pietra scompare e probabilmente adesso è nella raccolta privata nella collezione privata di qualche amante di cimeri napoleonici che è riuscito a rubarla e a tenere tutto per sé quest'ultimo lembo di Francia toccato dal piede di Napoleone 8 luglio 1815 20 giorni dopo la battaglia di Waterloo Napoleone si imbarca Rochefort sulla fregata francese Sà si imbarca per andare dove? per andare da nessuna parte in realtà perché il golfo di Rochefort è bloccato dalla marina inglese Napoleone aveva sognato aveva immaginato forse aveva preso semplicemente tempo chiedendo un salvacondotto per potersi recare negli Stati Uniti in realtà gli Stati Uniti hanno appena chiuso una guerra addirittura con l'Inghilterra che pensa a tutto tranne che a mandare un abile generale negli Stati Uniti per vedere se riesce a rianimare le intenzioni bellicose degli statunitensi contro gli inglesi e quindi Napoleone rimane a bordo della fregata Zal che rimane in rada rimane in rada tanto in rada che dopo quattro giorni Napoleone scende ma non può più scendere in Francia perché in Francia non lo vogliono più e allora sbarca sulla piccola isola d'Ex dove per una di quelle piccole ironie della sorte lui stesso era stato anni prima a disegnare le fortificazioni ci rimane tre giorni che forse sono tre giorni di serenità anche se è una serenità relativa perché lo aspettano tempi duri nel migliore dei casi e durissimi nei peggiori come in realtà si riveleranno il 15 luglio finalmente Napoleone accetta di salire a bordo del vascello inglese bellerofone e di consegnarsi agli inglesi così finisce definitivamente l'ultimo atto possiamo dire della storia dei cento giorni che poi prosegue col suo arrivo in Inghilterra con il rifiuto di farlo sbarcare col trasferimento su un'altra nave che poi lo porterà a Sant'Elena dove Napoleone rimane abbastanza a lungo perché lui arriva a Sant'Elena verso la metà alla fine dell'estate del 15 e ci rimane fino alla morte che è appunto il 5 maggio del 21 però noi ci stiamo occupando non tanto di Napoleone quanto di Napoleone e la battaglia di Waterloo che cosa rimane della battaglia di Waterloo dopo tutto quello che è successo rimane sicuramente la fama e il fatto che si tratta di un punto fermo un punto di passaggio nella storia ad Europa e quindi del mondo visto che in quegli anni l'Europa ha un ruolo prevalente rispetto proprio a tutto il mondo è l'affermazione di questo primato britannico sul resto del mondo un primato britannico che andrà consolidandosi e poi mantenendosi in vita di fatto fino alla prima guerra mondiale che segna il riequilibrio dei poteri proprio di tutto il mondo con la decisa entrata in campo degli Stati Uniti con il ridimensionamento della grande potenza che era diventata la Germania Bismarckiana l'impero tedesco però questa è un'altra storia la storia di cosa succede dopo Waterloo forse non a seguito di Waterloo però sicuramente Waterloo è stato un passaggio decisivo in questo percorso per così fare un'ultima riflessione sul significato della battaglia all'interno della storia napoleonica sul senso che ha avuto la battaglia di Waterloo nella vita di Napoleone sull'intento napoleonico rispetto alla battaglia può forse essere utile leggere il commento su Waterloo che troviamo nei commentari di Napoleone i commentari di Napoleone sono un libro abbastanza strano perché Napoleone non scrive direttamente dei commentari a Sant'Elena lui detta dei passaggi dei brani della storia diversi suoi collaboratori che sono lì che poi li ricompongono ci lavorano editano molto quello che è stato il pensiero di Napoleone e poi la fama dei commentari di Napoleone non raggiunge mai quella che invece ottiene il memoriale di Sant'Elena scritto dalla SCAS e portato in Francia mentre Napoleone si trova ancora a Sant'Elena la SCAS dopo avere passato circa un anno un anno e mezzo con Napoleone viene rimandato dagli inglesi in Francia secondo alcuni si fa rimandare dagli inglesi in Francia in modo da poter tornare col malloppo con questo racconto della vita di Napoleone a Sant'Elena e dei colloqui che lui ha avuto con Napoleone a Sant'Elena per sfruttarli editorialmente e in effetti il memoriale di Sant'Elena è un grande successo editoriale molto meno non lo sono i commentari di Napoleone però sono sicuramente importanti perché anche se il pensiero dell'imperatore è molto filtrato come del resto lo è anche nel memoriale lo stesso è un testo che proviene da un ambiente assolutamente napoleonico e nei commentari che vengono tradotti in italiano io adesso qui ho l'edizione di Bruxelles del 1828 poi non hanno avuto grande fortuna quindi non hanno avuto molte ristampe c'è proprio il commento di Napoleone sulla battaglia di Waterloo e leggendolo sentiamo questo pensiero napoleonico che in qualche modo ha una parte di autenticità la battaglia di Waterloo non ha esempio nelle storie i francesi quantunque battuti furono gli eroi di quella giornata pareva che ogni soldato sapesse di che si trattava pareva veramente che ognuno trattasse la propria causa se Grouchy non avesse trovato il secreto di non essere in quel giorno né a Vavra né sul campo di battaglia gli alleati non avrebbero trionfato la condotta di Grouchy è stata tanto lontana dalla previdenza umana quanto poteva esserlo un terremoto che avesse aperto una voragine che avesse inghiottito il suo corpo d'armata la giornata di Waterloo non fu semplicemente una gran battaglia non fu soltanto un fatto d'armi straordinario non una di quelle giornate decisive come Marengo Austen di Siena Friedland e Wagram la giornata di Waterloo deve essere riguardata come una delle più grandi rivoluzioni i risultati della quale traverseranno i secoli e poi c'è anche una nota che è abbastanza interessante e che dice da questa narrazione anche i lettori non militari vedranno che il maresciallo né che il 16 aveva 45.000 uomini non ha eseguito gli ordini di Napoleone cioè non è andato alle spalle della destra dei prussiani vedranno che il 17 e il 18 il maresciallo Grouchy ha lasciato sfuggire Blucher e Bullo e che in tutta la giornata del 18 non è stato capace di mandare 20.000 uomini dietro all'ala sinistra del nemico se Ney e Grouchy avessero eseguito le prescrizioni di Napoleone non trovaressimo testuale trovaressimo oggi negli appartamenti degli oligarchi di Europa il busto di Wellington il di lui nome sarebbe ignoto al mondo ed oggi quel duca non dirigerebbe il gabinetto inglese per tentare di fare ancora trionfare la causa dei re e degli oligarchi e questo è il pensiero un po' di Napoleone un po' dei bonapartisti su che cosa è successo a Waterloo si possono dire due cose che poi ribadiscono quello che abbiamo già detto una è che è vero sicuramente Ney e Grouchy commisero degli errori un po' per causa loro un po' per colpa di Sul un po' probabilmente anche per colpa di Napoleone che non spiegò loro nei dettagli qual era il loro incarico anche se questo era un compito di Sul più che di Napoleone però Napoleone li aveva scelti era Napoleone che aveva chiamato questi uomini che pure conosceva benissimo per affidare loro la conduzione di una campagna molto difficile molto delicata nella quale la comprensione della situazione e la prontezza nel manovrare si sarebbero dimostrate decisive diciamo che c'è un altro passaggio che non è nei commentari ma è proprio nel memoriale di Sant'Elena che è molto interessante riguardo alla considerazione che Napoleone aveva di di Waterloo è molto interessante perché non si riferisce propriamente a Waterloo e così nella nella valutazione delle fonti gli storici trovano che di solito vanno preferite le fonti trasversali indirette involontarie rispetto alla dichiarazione puntuale immaginando credo a ragione che quando qualcuno fa una dichiarazione specifica sta attento a quello che dice quando uno invece parla di un altro argomento e fa un riferimento casuale quel riferimento casuale come sanno tutti i lettori di Gialli può essere determinante per scoprire quella che in altri casi è una verità che scompare allora c'è un Lascaz il redattore dei memoriali racconta di un dialogo che ha avuto con Napoleone Napoleone commentando il passato parla della propria fama dei propri successi e chiede a Lascaz ma non sarebbe stato meglio per me morire a Mosca così non avrei mai conosciuto la sconfitta e tutti mi ricorderebbero come un conquistatore che ha conquistato il mondo non avrei partecipato poi a quelle che sono state le sconfitte e rovesci da ritirata di Russia e Lascaz si precipita a dire ma no maestà che cosa dice se lei fosse morto a Mosca ci saremmo persi quella bellissima cosa che è stata il volo dell'Aquila il ritorno sul trono che è stata veramente una grande epopea e Napoleone dice ma ma forse hai ragione allora mi concederò da solo la grazia per arrivare anche al volo dell'Aquila e a Waterloo la sfumatura è importante perché Lascaz cita il volo dell'Aquila e Napoleone comprende anche Waterloo ma lo comprende la battaglia di Waterloo nella propria epopea non prosegue nel ragionamento la cui logica sarebbe morire vincitore e quindi fossi morto a Parigi dopo essere tornato sul trono no no lui vuole anche Waterloo perché l'intelligenza napoleonica della mitologia e poi della figura del personaggio romantico è lucidissima questa figura del personaggio romantico è importante perché poi i comportamenti si basano sull'etica ma in buona parte anche sull'estetica sui riferimenti estetici che si hanno sulla volontà di fare bella figura e senz'altro Napoleone non vuole fare bella figura vuole fare una figura bellissima e se lui è ancora portatore di tutta la razionalità illuminista pensiamo al suo codice civile all'organizzazione delle prefetture all'organizzazione dello Stato in qualche modo lui è anche il precursore degli stati totalitari che saranno gli ultimi figli del razionalismo che pretende di sistemare tutto Napoleone vive però in un contesto di estetica romantica la sua estetica non è un'estetica della razionalità non è il neoclassico la sua estetica è l'estetica dello stile impero ma sostanzialmente del romanticismo del romanticismo che vuole la lotta dell'uomo contro il destino fino a esserne sopraffatto questo è il percorso estetico del romanticismo pensiamo a tutto Stendhal a Foscolo a queste figure che poi conosciamo senza altro Stendhal proprio emerge come scrittore dall'esperienza napoleonica e quindi la visione l'immaginario di Napoleone accoglie volentieri la sconfitta di Waterloo e la immagina come il punto finale di un percorso che poi può avere ancora questa coda nella quale lui manifesta sofferenze forse anche maggiori di quelle che in realtà deve sopportare meno questa è l'ipotesi di Jean Toulard che è il più grande esperto di storia napoleonica che è evidente forse che ci sia mai stato e quindi questa battaglia di Waterloo nel racconto napoleonico nella sceneggiatura scritta da Napoleone per la propria vita non è un momento estraneo ma è un momento assolutamente coerente anzi è un momento necessario perché è il momento nel quale l'eroe subisce una sconfitta che non è una sconfitta causata dalla sua debolezza ma dalla forza del destino dalla forza di un destino avverso contro il quale lui ha lottato tutta la vita e che poi alla fine lo travolge e questa poi è la chiave narrativa romantica non è un caso che la lirica sia la grande arte del romanticismo e nella lirica si sa bene che tutto finisce malissimo questa contraddizione si sa bene tutto finisce malissimo perché fa appunto parte di questa lotta dell'uomo contro il destino ed è una lotta impari dalla quale si esce per forza sconfitti e questo forse incide nelle scelte di Napoleone prima della battaglia e forse durante l'intera campagna qui è difficile immaginare il funzionamento del modo di pensare di un uomo geniale alcuni di noi sono la maggior parte di noi abituata a un ragionamento che cresce ci si pone un problema ci si pensa ci si consulta con altri e poi alla fine di questo processo di questo percorso arriviamo magari anche a una decisione del tutto autonoma però è una decisione che proviene da lontano e che è passata attraverso una lunga riflessione il genio sappiamo che agisce in altro modo il genio vede il problema e la soluzione nello stesso tempo e non ha dubbi su quale sia la soluzione migliore agisce sempre almeno in apparenza sulla base dell'impulso e Napoleone sappiamo che si comportava così si comportava sulla base di intuizioni di decisioni repentine di decisioni impreviste certo non era uno che amava consultarsi con i suoi collaboratori e questo è un limite che tutti gli attribuiscono quindi anche nella scelta nella composizione del comando nella campagna del Belgio che poi porta alla battaglia di Waterloo probabilmente non si è consultato con nessuno anche la chiamata di Ne decisa pochi giorni prima della partenza che se lo voleva chiamare poteva chiamarlo prima magari avrebbe assunto il comando con maggior consapevolezza di quello che stava facendo e anche con la possibilità di integrarsi in qualche modo con i comandanti con i quali avrebbe dovuto interloquire anche quella decisione probabilmente appartiene a quest'ambito delle decisioni improvvise di chi è abituato a produrre decisioni sapendo che il più delle volte sono quelle giuste soprattutto nell'ambito militare che senza altro era la sua specialità però dietro a questo che sarebbe poi un errore una serie di errori perché poi come abbiamo visto tutti i marescialli che sono con lui commettono errori più volte la battaglia di Waterloo viene persa dai marescialli di Napoleone almeno tre o quattro volte in maniera clamorosa nel corso della campagna però dietro a questo si affaccia il sospetto che Napoleone non stesse affatto cercando una vittoria militare sul terreno che si era fatta impossibile ma stesse invece cercando in maniera forse consapevole forse inconsapevole perché come facciamo a sapere le ragioni profonde che poi forse sfuggono non esistono nemmeno stanno nel cervello di Napoleone le ragioni per le quali sceglie dei comandanti così così inadatti e così malassortiti per il suo esercito forse non sta cercando la vittoria ma sta invece cercando quella cosa che lui poi rivendica e descrive in più di un'occasione cioè la sconfitta gloriosa certamente nella campagna del Belgio e poi a Waterloo i francesi dimostrano il loro coraggio dimostrano le loro capacità militari dimostrano anche una grande fedeltà all'imperatore quindi non è in nessun modo una sconfitta ignominiosa non è il finale che si era determinato nell'aprile dell'anno prima quando Napoleone era stato tradito quando aveva tentato di suicidarsi senza riuscirci quando aveva dovuto attraversare la Francia scortato dai pleni potenziari delle potenze vincitrici mentre veniva preso assassate ma in termini letterari le carrozze venivano prese assassate dagli abitanti dei paesini della Provenza che il convoglio attraversava e quello era un finale che non andava bene nella sua storia adesso con questo nuovo finale la storia poteva essere raccontata e lui infatti a Sant'Elena si dedica spesso al racconto di parti o al racconto più o meno organizzato possiamo dire di quella che è stata la sua esperienza e mentre è a Sant'Elena lui ha una piena consapevolezza di quello che sarebbe stato il destino della sua memoria bisogna ricordare adesso noi andiamo in Francia andiamo a Parigi e vediamo il trionfo del bonapartismo nella parte monumentale della città cioè dalle invalide l'arco di trionfo i nomi delle strade che sono tutti i nomi di vittorie napoleoniche o se non di vittorie napoleoniche di marescialli di Napoleone Parigi è segnata moltissimo dall'epopea napoleonica ma quando Napoleone viene sconfitto deve andare in esilio definitivo il potere monarchico il potere di Luigi XVIII tende a fare una damnazio memorie di quella che è stata la storia di Napoleone per cui c'è tutta una pubblicistica molto molto aggressiva nei suoi confronti che gode del pieno sostegno del potere politico quindi di Napoleone si parla malissimo in Francia o sembra che si parli malissimo dopo la sua caduta a questa pubblicistica ufficiale possiamo dire che si contrappone un racconto popolare perché quelli che avevano subito più crudelmente i disagi delle guerre napoleoniche ovvero i suoi soldati che spesso erano tornati a casa menomati quanto non proprio mutilati e sicuramente molto provati dagli sforzi e dai disagi ai quali erano stati sottoposti ugualmente raccontavano le gesta dell'imperatore le gesta che a loro avevano compiuto al seguito dell'imperatore per tutta Europa poi resta vero che la vita l'esperienza di ogni uomo è un fatto unico irripetibile molto particolare e in un contesto dell'Europa di inizio dell'ottocento per molte persone l'avere seguito le bandiere dell'imperatore era l'esperienza qualificante della vita ma era anche un'esperienza che dava a loro un ruolo anche sociale particolare in questi paesini della Francia nei quali vivevano queste comunità rurali di persone che non si erano mai allontanate più di 20 chilometri da casa questi uomini che erano entrati da vincitori a Vienna alcuni che erano arrivati fino a Mosca e poi erano tornati raccontavano di un'epopea meravigliosa ora Napoleone a Sant'Elena era ansiosissimo di ricevere notizie dalla Francia lui quando arrivava una nave subito chiedeva che gli mandassero tutti i giornali che c'erano a bordo e segue questa storia della propria storia praticamente segue come si modifica il racconto delle sue imprese riceve perfetta notizia di quella che è la leggenda nera che il potere politico francese tenta di alimentare in ogni modo senza riuscirci riceve poi anche notizia di quelle che sono le tragedie della repressione francese perché la Bedoyer che è uno il primo generale anzi era ancora solo colonnello a passare dalla parte di Napoleone viene fucilato il maresciallo né anche lui dopo un complicato processo davanti ai suoi pari viene giudicato colpevole e viene fucilato anche lui maresciallo né che si comporta da eroe assoluto il bravo dei bravi come lo chiamava Napoleone un uomo che non conosceva la paura quando lo svegliano perché è venuto il giorno della fucilazione dice ma non è un po' presto dice sì ma la fucilazione è prevista fra un'ora e allora mi risvegliate fra un'ora si volta e si rimette a dormire cosa che poche persone sarebbero in grado di fare o anche solo di fingere di fare e per cui a Napoleone arrivano le notizie di questo regime che è un regime vincente e che sta diffondendo appunto la leggenda nera su di lui però in tutti i casi nei quali abbiamo traccia di una memoria di come lui reagisce di fronte a queste notizie che gli arrivano Napoleone è assolutamente tranquillo del fatto di essere riuscito a comporre il mito che voleva comporre Napoleone è sempre sicuro di avere ottenuto un successo totale nella creazione di un personaggio destinato a entrare nel pantheon di quei pochissimi grandi generali che vanno da Alessandro Giulio Cesare forse Gengis Khan Carlo Magno di questi grandi personaggi di questi grandi conquistatori che avevano segnato la storia del mondo dal punto di vista militare e in questo contesto è sempre convinto che la battaglia di Waterloo sia un passaggio necessario perché Napoleone è anche uomo di spettacolo è uomo di narrazione e sa che una vicenda deve finire con un grande evento e la sua sensibilità romantica lo spinge ad apprezzare il grande evento di una sconfitta